Ziberna Presente Altinier Presente Vandel Qui sotto è presente Daulini Presente Cagliari Presente Ciotta Presente Pollini Sono qui Ora si registrerà la conferenza Cosma Presente Del Sordi Presente Fasio Presente Feri Presente Ferrari Presente Gabrieltic Presente Gabrieltic Gaggioli Presente Gentile Sono qua presente Asse Asseg 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 Lissotna Presente Presente Macchitella Presente Maraz 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 Non risponde Presente Presente Poretti Poretti Presente Poretti Petterim Sì Prisote Icariello Presente Presente Picco 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 Non la sentiamo Presente Piscopo Presente Presente Portelli Portelli Non risponde Rordo Presente Presente Romano Presente Grande notte Rossi Presente Sartori Presente Presente Stasi Presente Presente Stasi Non la vediamo Allora Non si accende qua La telecamera Aiuto Non si accende la telecamera Qua Allora Seconda Chiamata Domani 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 Presente Tomasella Presente Presente Traini Presente Presente Tucci Presente Turco Presente Esercendo il candidato Non se ne è vero Turri Poi viene Poi viene Bisogna Farsi Su Condividi Condividi Parti 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 Basta Zorzenon Presente Presente Zotti 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 Non risponde Allora Richiamiamo Assec Presente Presente Marats 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 Assente Marats Portelli Portelli Assente Assente Stasi Presente Zotti 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 Ci senti Mi sente Segretario Sì Sì Ci sente Sì sì Presente Sentito Grazie 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 Assessori Non consiglieri Bellani Presente Bernobici Presente Ceretta Ceretta Assente Gatta Presente Allora Presente Sono 39 Gli assenti Sono Due Bene Buonasera a tutti Abbiamo il numero legale Per iniziare Questa seduta Del consiglio comunale In modalità telematica Che è stata sospesa Nel martedì scorso Un benvenuto Un benvenuto a tutti quelli che ci guardano da casa A tutto il consiglio comunale E agli uffici Chiedo come sempre a tutti voi Confortamenti E una discussione seria e rispettosa Dei colleghi Il consiglio comunale Inoltre Chiedo appunto degli interventi Che siano inerenti Alla La discussione All'ordine All'ordine del giorno Altrimenti Sono costretto A richiamare Dopo due richiami Sono costretto A togliere la parola O esonerare Dalla Discussione Dall'aula Quindi Iniziamo Che sì Anche la Ripeto Come sempre Che la chat Deve essere usata Per prenotarsi Allora Iniziamo quindi Il settimo punto All'ordine del giorno Delibera Di iniziativa Consigliare Determinazione Dell'ingenuità giornaliera Di presenza Per la partecipazione Alle sedute Delle commissioni Consigliare Consigliare In mandato elettorale 2017-2022 Primo Proponente Rinaldo Consigliere Rinaldo Roldo Lascio a lei la parola Per la presentazione Per l'illustrazione Delibera Prego Buonasera a tutti Innanzitutto Grazie Grazie Presidente Iniziamo A parlare Di questa Di questa Delibera Come sapete Oggi Per la riduzione Del compenso Delle commissioni Consigliare Diciamo Io voglio Portare avanti La continuazione Di quello Che è stato Discusso Due anni fa Circa Nel maggio Del 2018 Quando la delibera È stata Ritenata Avevo promesso Durante L'ultima L'ultimo Consiglio Sul bilancio Che avrei Portato La delibera Per la riduzione Delice Delle commissioni Ho sentito Molte voci In merito A questa Vicenda Tra cui Commenti Di alcuni Colleghi Consiglieri E ci tengo E ci tengo Chiarire Un paio Di punti Prima di Parlare Della Delibera Vi chiedo Di riflettere Un attimo E ripensare Quando un paio Di anni fa Avete chiesto Di intraprendere Questo percorso Politico Candidandovi A rappresentare I vostri I vostri Elettori In consiglio Comunale E penso Che tutti Ci ricordiamo Quando abbiamo Chiesto Il voto Abbiamo Distribuito I propri Santini Con la Convenzione Di poter Essere Scelti Dai nostri Concitatori E Dobbiamo Ricordare I buoni Propositi Che ci Muovevano In questo Ecco Vi chiedo Di ripensare Alle motivazioni Che Mi hanno Vi chiedo Di tenere Bene a mente Quando andrete Ad esprimere Il vostro Voto Che per me È molto Importante Ma non Non solo Per me Ma penso Anche per tutta La nostra Comunità E quello Che Rapportiamo Ciò Ciò Permesso Ci tengo A raccontarvi In breve Perché ritengo Sia importante Approvare Questa Proposita Io Quasi Più di 25 anni fa Quando Mosse I primi Passi In quella Che poi Sarebbe Diventata Una Lunga Aventura Avevo Già Una Moglie Avevo Due Due Splendide Figlie Un'azienda Di cui Occuparmi E nel Tempo Libero Collaboravo Con L'Unione Ginnastica Boriziana Con Oppure Io Feci Una Scelta Una Scelta Consapevole Quella Di Servire La Gente La Mia Gente La Mia Ciccia La Nostra Gorilla Nessuno Mi ha Obbligato A Farlo Ho Sentito Un Entusiasmo Una Passione Verso Questo Mondo Che Mi ha Persuaso E Convinto Ed Eccomi qua Ancora 25 Anni Dopo Più Persuaso Convinto Di Prima Che Fare Politica E Soprattutto Questo Dedicare Il Proprio Tempo Cercare Di Mitorare La Vita Della E Della Nostra Città Io Capisco Il Tempo Però Ha Un Valore E Su Questo Siamo Tutti D'accordo Per Questo Motivo Tra L'altro Faccio Una Citazione Proprio Pericle Nella Grecia Classica Aveva Introdotto La Prima Forma Di Compenso Alla Vita Politica Per Far Sì Che Tutti Anche I Meno Vienti Potessero Prendere Parte Dando Così Vita Alla Democrazia Parliamo Di Circa Cinque Secoli Prima Di Cristo Io Penso Che La Collega La Collega Tulci Saprebbe Spiegarci Meglio Un Concetto Visto Che Ha Studiato E Insegna Quello Che Voglio Dire È Che Il Compenso Che Ricidiamo Per Fare Consiglieri È Un Riconoscimento Del Tempo Che Dedichiamo A Quest' Attività Ma Non Deve Essere Lo Scopo Di Questa Attività Non Siamo Più Nella Grecia Classica Non Siamo Più Nella Prima Repubblica Oggi Siamo Fortunati Abbastanza Credo Per Poter Contare Già Un Sistema Che Tutela Tutti Noi Consiglieri Che Qualora Abbiano Un Impiego Sono Esentati Da Raccarsi Da Lavoro O Ricevono Un Compenso Per Il Consiglio A Cui Stiamo Assistendo In Questo Preciso Io Credo Che La Proposta In Questione Non Va A Toccare Quel Compenso Bensì Va Che Dura Il Compenso Delle Commissioni Che Altro Non È L'essenza Dell'attività Consiglio Quell'attività Che Avete Liberamente Scelto E Che Abbiamo Scelto Quando Ci Siamo Candidati Ridurre Il Compenso Vuol Dire Non Vuol dire Ridurre La Democrazia Come Ha Affermato Su Un Quotidiano Non Mi Ricordo Chi Sempre Che Fa Parte Del Nostro Consiglio Comunale La Va Tutelare Invece Io Dico Che La Va Tutelare Perché Garantisce Chi Rappresenta I Cittadini Non Lo Faccia Con Bellità Economiche Spesso Si è Sentito Nel Corso Di Questa Emergenza Covid Parlare Delle Difficoltà Delle Famiglie Che Non Avevano Entrate Che Non Arrivava La Cassa D'Integrazione Che Non È Arrivata Ancora Spesso Si è Intimato Il Governo Di Fare Di Più Per Soccorrere Ma Poco Servono Le Parole Credo Se Non Vengono Accompagnate Dai Gesti A Poco Serve Osservare Se Nel Proprio Vi Già Una Prata Io Chiedo Quindi Di Fare Nel Nostro Piccolo Ma Che Piccolissimo Gesto Che Sta A Noi Alla Base Della Nostra Funzione Ridurre Il Compenso Delle Commissioni Per Far Sì Che Quelle Risorse Vadano Al Servizio Della Comunità Quella Stessa Comunità Comunità A cui Abbiamo Chiesto Un Voto E Che Avendo Ce Lo Dato Si Aspetta Che Ora Ci Mettiamo Al Suo Servizio Per Questo Io Ho Presentato La Delibera Una Delibera Che Avevo Già Due Anni Fa Emendato E Proprio Nel Momento Del Voto E Stata Ritirata La Delibera Non Fa Altro Che Dire Che Io Ho Ripetuto Più O Meno Una Delibera Tecnica Perché Va Si Che Il Punto 7 Della Deliberazione Regionale 1193 Del 2011 In Particolare Punto 7 Il Quale Prevede Che Consiglieri Comunali Nei Comuni Capoluogo Di Provincia Spetta Un'indennità Giornaliera Di Presenza Per L'Effettiva Partecipazione Ad Ogni Seduta Del Consiglio O Delle Commissioni Consigliari Previste Dalla Legge Dallo Statuto Nella Misura Di Cento Quattro Euro Stabilendo Altri Si Che L'indennità Giornaliera La Partecipazione Alla Seduta Delle Commissioni Consigliari Previste Dalla Legge Dallo Sotto Può Essere Ridotta Con Deliberazione Del Consiglio Comunale Perciò La Regione Ha Previsto Che Solo Il Consiglio Comunale Può Deliberare Su Questo Perciò Io Ho Ricluto Nell'Optica Di Un Contenimento Della Spesa Alla Luce Della Deliberazione Della Giunta Regionale Sopra Richiamata Di ridurre Fissando Il termine Dell'attuale Mandato In Euro 27 L'indennità Giornaliera Per la presenza Effettiva Particazione Ad ogni seduta Delle commissioni Consigliari Allora Quello Che Io Intendo Dire Anche Per non Alimentare Altre Discussioni Nella Delibera È ben Precisa Che La somma Di 27 Euro E Sono Semplicemente Fino Al termine Come è scritto Al termine Dell'attuale Mandato Cioè Se oggi Viene approvata Questa Delibera Domani Da domani Inizierà Per le commissioni Ci sarà 27 euro Per ogni Partecipazione Questo Lo dico Perché Non voglio Che si senta Dire Di Retroattivi O cose Di questo tipo No Questo È Per Quanto No Semplicemente Da domani Che sia E anche Voglio già Anticipare Perché Ho sentito voci Ho visto emendamenti E cose del genere E cose del genere Anche Soprattutto Per la discussione Perché dopo si parla E si parlano emendamenti E cose del genere Perché Era stato fatto Era stata mandata Una Una richiesta Da parte del comune Tempio Addietro Nel 2016 Proprio Era La stessa cosa Stesso ragionamento Che va Anche sulle commissioni Per quanto riguardava Le circoscrizioni Di decentramento Per la possibilità Di ridurre No I costi Portarli simbolicamente A un euro O a due euro Per seduta Per limitare i costi Ecco No Per non iniziare Questa strumentalizzazione Che credo Che non faccia bene A nessuno Proprio Proprio La regione La consulenza Fatta Diceva Che Quanto Alla possibilità Di fissare In unità dovuta Rispettivamente In due O un euro Consatato Che la normatività Regionale Non fissa L'importo minimo Ma solo Quello massimo Della stessa Parede seguire La discrezionalità Del consiglio comunale Nella determinazione Delle effettiva Quantificazioni Degli importi Dovuti Tuttavia Pare contrastare Col principio Di ragionevolezza La determinazione Di un importo Di natura Meramente simbolica Di risoria Tale Oltretutto Da eguagliare Nella sostanza La determinazione Gratuita Dell'indemità Che come sopra Già precisato Soluzione Non è percorribile Questo era Perché avevano Già Al punto Uno Di questa Spiegazione Di questa Risposta Avevano scritto Come prevede L'obbligo Di restensione Di un'indemità Presenza Presidente Consiglieri Circosizionali Nel rispetto Della misura Massima indicata Rientra invece Nella discrezionalità Dell'organo Consigliare Comunale Determinare L'effettivo Importo Di tale Indemità Che Per l'altro Non potrebbe Essere pari A zero In quanto Ciò Si considererebbe In una Sopressione Dell'indemità Medesima Ai fine Delle istituzioni Circoscrizionali Decentramento Prevede Che i comuni Adeguino I propri Stituti Regolamenti Di buono Disposizione In particolare Questa Per dire Che riprende Il punto Uno Che zero Non si può dare Uno Perché figurerebbe Come zero Non percorribile Io dico 27 euro Come era Nel precedente Mandato E dico Anche Che sarebbe Una Un importo Vedendo Vedendo Quello che si è speso In questi Ultimi Anni Per dire Rispetto Quello che si estendeva Negli anni precedenti In parità Io ho trovato In parità Di commissioni Circa 2014 2018 Siamo 14.000 euro 914.000 E 900 euro Circa 2014 58.000 760 2018 Più o meno Questa è Con parità Di commissioni Beh sappiamo Che sono Circa Quattro volte Quattro volte Adesso Io Mi adeguo Ascolto L'aula Questa è la mia proposta Una proposta Che l'avevo fatta Due anni fa E che avevo promesso Di rifarla Nel Consiglio Del 28 Grazie Di avermi ascoltato Grazie Consigliere Ora apriamo La discussione Che come sempre Come tutte le Delibere Sarà Composta Da un primo intervento Un secondo intervento Una dichiarazione Di botto Sempre Le tempistiche Saranno 10 minuti 5 minuti E 5 minuti Al termine Dei primi interventi E di eventuali risposte Ci sarà La presentazione Di eventuali Emendamenti Ordini del giorno Allo stato attuale Abbiamo Sono stati depositati Due emendamenti E un ordine Del giorno E chiaramente Ci sarà tempo Come sempre Fino alla fine Fino alla fine Dei primi interventi Per presentare Altri eventuali Ordini del giorno Quindi Apriamo La discussione C'era Una richiesta Di intervento Da parte Del consigliere Zotti Il consigliere Zotti Come primo intervento Non so se deve fare Che tipo di domanda Deve fare Ma Provi un attimo A intervenire Vediamo che domanda Deve fare Ma Se anche Inerente All'oggetto Prego Zotti Siete? Mi sentite? Prego Prego Volevo solo Chiedere Poi farò Il mio primo intervento Se Il segretario Ha ricevuto Una comunicazione Da parte Della regione Dai corti dei conti Per il discorso Siccome non sono Assolutamente Consigliere Zotti Assolutamente Non è inerente All'oggetto In discussione Quindi Sulle commissioni Posso spiegare Sulle commissioni Che Appunto 100 euro Cioè In pratica Non sarebbero regolari Come i consigli comunali Oltre alla mezzanotte Che non si sarebbe pagato Secondo Zitone Volevo un tenimento Del segretario Su questa cosa qua Grazie Consigliere Zotti Consigliere Zotti Puoi riformulare La domanda In modo chiaro Perché non si è capito Nulla È stata inviata Via mail A tutti quanti Per cui tutti L'hanno ricevuta Evidentemente Prego consigliere Zotti Puoi riformulare La domanda In modo chiaro In modo per capire Se c'è bisogno Di una risposta O no Esatto Io volevo chiedere Siccome io La posta elettronica Non riesco a aprirla Volevo essere Solo sapere Se Visto che è gentile È tanto gentile Mi da Una vita Su quel discorso Lì del secondo Zitone Dopo la mezzanotte Volevo chiedere Solo questa domanda Perché puoi fare Un altro discorso Sulle commissioni Grazie Consigliere Zotti Non è arrivato Cioè È arrivata Tramite mail Come è arrivata a me Penso a tutti gli altri Consiglieri comunali Perché è stata inviata Dall'ufficio Assistenza Organi istituzionali A tutti i consiglieri Per conoscenza Questo parere Ma non c'entra niente Quelle commissioni Poi ognuno Sa leggere Interpreterà A modo suo Spero di no Le parere Bene Allora Apriamo la discussione Quindi prego Consigliere Ciotta Beh Buonasera a tutti quanti Ho ascoltato Con molta attenzione Il bel discorso Del consigliere Roldo Che cita La Pagliuzze Travi Che cita Il fatto De Quando siamo andati A farci eleggere Dalla gente Però Io Che Ero in consiglio comunale Nel Già Nel secondo mandato Con Gaetano Valenti Ricordo Che A tutti Ma a chi non c'era Ma sicuramente Tutti lo sanno Che se parliamo Di Pagliuzza E parliamo di Travi Io penso Che è proprio vero Che nella vita Parla sempre E chi non deve parlare Perché Lui Su Naturalmente Una Io ho una registrazione Di quel consiglio comunale Mi sono fatto dare Che dice chiaramente E lo dico A chiare lettere Il consigliere Bianchini Citò In un discorso Molto Sentito Le responsabilità Economiche Che gravavano Sul Sul consigliere Roldo Allora Presidente Del consiglio Dove gli dichiarò Chiaramente Che lui In tutti i suoi mandati Aveva percepito L'ordi 225 mila euro Adesso Io Capisco tutto Però Perché non Gli è venuto Quel moto Di Sensibilità Che ha oggi Nei confronti Di questo problema Fermo restando Che All'affermazione Del consigliere Benchini Di quella volta Lui Fece Un'affermazione Come Cosa stai dicendo Allora lui Gli rispose E questa Che è un'abilitazione Che possono avere tutti Gli rispose Se non è vero Mi devi denunciare Vai alla procura Della repubblica E mi denunci Se non è vero Quello che dico io Cosa che io penso Che non sia mai Avvenuta Non Questo Non per giustificare I cento euro Ma quantomeno Per far capire A tutti quanti Che comunque Il signor Insomma Il consigliere Rondo Ha percepito E ripeto Non ha avuto Questo moto Di grande ribellione Quindi io Esordo Il consigliere Rondo A A mediare Questo tipo Di problema Ma per poi Gli emendamenti Leggeremo poi E vedremo Quali sono Gli emendamenti Che sono arrivati Perché mi sembra Che E faccio mia Un'affermazione Del nostro sindaco Questi sono Costi della democrazia Un'affermazione Penso che Dica tutto quanto Costi della democrazia Quindi io penso Che comunque Si potrebbe trovare Un'intesa O quanto meno Andare incontro A quelle che sono Le esigenze di tutti Perché penso Che le commissioni Siano una cosa Propedentica Al consiglio E non sempre Dico Hanno risolto I problemi Poi degli ordini Del giorno Del consiglio comunale Però Ha fatto sì Che molta gente Facesse delle domande Che poi anche Se sono state ripetute Come sappiamo Tutti Alcuni si domandano Se servono realmente Queste commissioni Però Insomma Con un po' più Di magari Di equilibrio Farne un pochettino Di meno Ma comunque Riconoscere Alle persone Che vi partecipano Il giusto oggettore Per adesso Mi fermo Grazie presidente Grazie consigliere Ora primo intervento Consigliere Zotti Prego Beh come sempre Presidente Lei mi risponde Sempre a tutto Non ho capito niente Vabbè comunque Non c'è problema Io ho Di problemi Con il computer Non sono riuscito A leggere La posta elettronica Voi direte Chi se ne frega Che compra Grazie Arrivederci A prescindere Questo fatto Io ritengo Invece Che in un momento Di crisi Come questo Consigliere Mi scusi Consigliere Mi scusi Se mi permetto Di interrompere Non c'entra niente Quello che ha chiesto Lei con questo Consiglio comunale Solo questo Volevo significarle Quindi Casomai domani mattina Chiederà Chiamerà gli uffici Chiederà nuovamente L'invio Oppure verrà in uffici Verrà nel proprio Sugli uffici Si farà una fotocopia Solo questo Volevo Segnalarle Non c'entra niente Non volevo Mancare Di rispetto No no La ringrazio Anzi Mi chiedo scusa Ci siamo Capitano Però Ritenevo Che il segretario Visto che è ben pagato Se un consigliere X Ignorante O magari Che non c'è Il computer Fa una domanda Per capire Alcune Alcune strategie Politiche Diciamo Perché Il fatto di andare Oltre mezzanotte Oltre mezzanotte Uno può cambiare la vita Ma lasciamo perdere Prendiamo delle commissioni Riprendendo il tutto Diciamo Che Guardi Riprendendo il tutto Ditevo Che appunto Il fatto delle commissioni Per il problema Appunto Della crisi Che stiamo Vivendo Poteva essere Poteva essere Una soluzione Per magari Dirottare Perché comunque Voi sapete benissimo Che in fase di bilancio Le varie spese Vengono messo in conto Ecco In previsione di bilancio Si sa Che facciamo Non so 50 commissioni A 100 euro Sono una cifra 50 commissioni A 27 O a 50 Sono un'altra cifra E allora Se si mette in programma Di spendere 10.000 20.000 30.000 euro Per le commissioni Naturalmente Vanno messi a bilancio Il fatto di poter Ripurre Del 50% O di un terzo O di un quarto O di un quinto Di come Si deciderà Tra di noi Potrebbe essere Un fondo Diciamo Di povertà Nel senso Che questi soldi Che comunque Vengono messi a bilancio E comunque Vengono studiati Per fare le commissioni Magari Si potrebbero Destinare per i poveri Per non ripetere Questa è un'idea Che l'avendo io Poi dopo non lo so Lo scuseremo Vedremo Quello che invece È da dire E dobbiamo essere onesti Che un consiglio comunale Male che vada Può durare 4 ore E quindi 100 euro Prendere 4 ore Insomma Per un politico Magari laureato Che magari Si è impegnato A cercare A fare le carte Va anche bene Una commissione Che Tutto sommato Qualche volta Può portarvi Anche cinque ore Dieci ore Non credo Non è successo La commissione Massimo Siamo stati Mi pare Cinque ore Ma è stata proprio Una cosa Straordinaria Una commissione Che magari Mi dura Mezz'ora Un'ora Dipende Da proprio Dall'argomento E portare a casa 100 euro Penso che È un po' Non dico vergognoso Ma anche perché In una commissione Magari ci senti Che non apre nemmeno Poca Anche perché Qualche volta Ho visto spesso Volentieri Qualcuno Che entra Sta lì Un periodo Poi esce Va a fumarsi La sigaretta Ritorna Va a breversi Caffè Poi sparisce Poi non si sa Se è andato Ritornato Quindi ragazzi Se dobbiamo fare I politici Sì va bene In regione Magari Le portano a casa 8000 Al mese Non so se hanno Il doppio gettone Se vanno Alla commissione Però sono Dell'idea Che a questo punto È giunta l'ora Di dire Bene Allora Abbiamo fatto Un regolamento Della polizia Municipale Che Dopo Casomai Chiederò Al presidente Cosma Quante commissioni Ha dovuto Subire Questo regolamento Voi dite Giustamente Il regolamento Andrà cambiato Andrà cambiato Lo fatto Andrà cambiato Tutto Per l'amor di Dio Però da quello Che mi risulta Ogni consigliere Comunale Si è portato a casa La bellezza Di 2500 euro Che sono Sacrosante Se uno Giustamente Ha lavorato Ha partecipato Ha studiato Si è fatto il mazzo Io Sono dell'idea Invece Che Magari Nella Fase Di regolamenti Per esempio Lì Bisogna Ridurre Il costo Delle commissioni Proprio perché Si sa Che per fare Un regolamento Uno statuto Possono andarvi Anche 50 commissioni Tutto Calcolato E tutto giusto Perché la politica Politica Ha un Posto Non so Niente da dire A questo punto Però mi viene da pensare Che non si può Nemmeno Approfittare Di questo Perché Lo sbaglio Dal mio punto Di vista In democrazia Vale tutto Lo sbaglio O magari forse La sbadatezza Di qualcuno Che si è dimenticato All'inizio mandato E dire Va bene Purtroppo Dobbiamo Riprendere In mano La commissione E fare Una 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 cosa Ad hoc Dicendo Cari signori Noi vorremmo portare Avanti Il sindaco O chi per lui Portare avanti Questa usanza Di poter fare Le commissioni A 27 euro Come li faceva Il signor Ettore Che poi È giusto Non è giusto Ma siamo Fatti questo Insomma Ecco E Mettevamo i voti E lì Democraticamente Si decideva Cosa è successo Qualcuno Non si è accorto Qualcuno Si è girato Dall'altra parte O qualcuno Ne andava bene Così Si sono cominciati A fare le prime commissioni E poi Quando è arrivato Il conto A casa Di qualcuno Dice Porca miseria Quanto ho guadagnato 100 euro 300 euro 80 euro Ecco Ecco Da lì Poi è scoppiata La bomba Anche perché Cari signori Se andate A chiedere A chi segue Il bilancio Vi renderete conto Che la dottoressa Zampa Se continuiamo a fare Le commissioni Bisogneremmo fare Una variazione Di bilancio Per poter pagare Le commissioni E io penso Di fare una variazione Di bilancio Magari per le attività Comerciali O per altri settori Artigianali Industriali Mondiali Che hanno veramente Bisogno Anche perché Non credo Che C'è qualcuno Che è disoccupato E vive Di politica Però insomma La maggior parte Grazie a Dio Hanno un lavoro E quindi Torno a ripetere Portare a casa 100 euro Per una commissione O portarmi a casa 27 Non credo Che muoiano di fame I nostri politici Quindi Torno a ripetere Questa proposta Io l'ho condivisa Con più di qualcuno Poi c'è qualcuno Che dice No A me non me frega niente Per me È sacrosanto I 100 euro Però onestamente Non si può Paragonare Dal mio punto di vista Un consiglio comunale Con una commissione Con due cose Veramente diverse E come Prendere l'autobus E fare un giro Per città E pagare 1 euro E 50 1 euro E 30 O andare Da Gorizia A grado E pagare 3 euro 5 euro Sono due cose diverse Quindi Torno a ripetere Poi dopo Ognuno è libero Di fare la scelta Della sua viaggia Io addirittura Avevo anche in testa Un progetto Che qua Magari adesso Mi prenderò Degli insulti Che anche gli assessori Ci venissero incontro Nel senso Visto che noi È brutto dirlo Però Su un discorso Di questo genere Riturre Le commissioni Da 100 A 27 Noi perdiamo Quasi il 75% Del valore Della commissione A livello finanziario Di mona In pratica Da 100 euro Ci troviamo A 27 Quindi Insomma Un quasi Un quarto Ci resta Però ti resta Qualcosa Io penso Invece Che Caro sindaco La possibilità Di Fare Questa Riduzione Creerebbe Perché qua Sembrerebbe Che alcuni Presidenti Hanno un rimorso Di coscienza A Dice Vabbè Faccio una commissione Ma non so Se magari Domani Di conti Mi indaga Perché Forse Era fuori tema Come io sono Spesso Volentieri Fuori tema Ma va bene Fa parte Della politica E quindi Si ha paura Addirittura Di convocare Le commissioni Io Per esempio Mi sembra Ne ho convocata Una in tre anni Alcuni miei colleghi Di partito Hanno Tre Poi ci mancano Ancora delle precedenze Il fatto magari Di ridurre Il tetone di presenza Alle commissioni Potrebbe fare in modo Di avere più commissioni E magari Poter sviluppare Sia il regolamento Comunale Lo statuto E addirittura Sentivo dire Che Il regolamento Della polizia municipale Ha bisogno ancora Di ritocchi Insomma Però Se uno mette la mano Sul portafoglio Diciamo Che il regolamento Ci costa una marea Di soldi E poi Vedremo in aula Quanto ci costa Ma questo fa parte Della politica Quindi nel mio modo Di vedere Io lascio libero Il mio gruppo A fare quello che vuole Giustamente Perché sono Io non posso Trocare i soldi Della gente Io sono Consapevole Ti posso permettere Il lusso Di venire a fare Le commissioni A 27 euro O farlo anche a gratis Potrei anche Donare il mio gettone Ai poveri Potrei fare mille cose Però Torno a ripetere Appoggio Questa mozione Che ha fatto Roldo E non possiamo Nemmeno andare Indietro di mille anni A pensare Che qualcuno È miliardario Poi è povero È incassato Con la politica Ci troviamo In una situazione Drammatica Dove la gente Muore di fame Quindi Noi dobbiamo pensare Anche a questo Mi faccio Grazie presidente Grazie consigliere Zotti Ci ha chiesto la parola A consigliere Roldo Per fatto personale Prego Grazie presidente No Sto vedendo Che Neanch'io Non ho fatto Tutti questi calcoli Mi ricordo Sì Che Bianchini Aveva detto Ste cifre Che siano vere O non vere Non si denuncia Nella politica Coglie del genere Se fossero vere Era un compenso Che veniva dato Al ruolo Del presidente Del consiglio comunale All'epoca Non l'ho chiesto io Sono stato votato Per fare il presidente Reputo anche Devo dire queste cose Quando mi è stato chiesto Di ridurmi Insieme alla giunta Romoli Credo Perché sono stati Solo due mandati Che c'era un compenso Che era ridotto Rispetto agli assessori Perché solo il Friuli Venezia Giulia Ha un compenso Del 30% Invece del 40% Rispetto al sindaco Perciò E si percepiva Di meno Devo ribadire Che io I conti in tasca Non li ha mai fatti Nessuno Né a un sindaco Né a un assessore So quanto che prendono Gli assessori Ma questo è stabilito Dalla legge Dalle leggi regionali Io percepivo E sfido chiunque Andare a controllare Serinando Roldo Per il ruolo istituzionale Che ricopriva All'epoca Della giunta Valenti E anche Romoli Si è mai andato Ma anche dopo Ma anche nel ruolo Di consigliere Rappresentare L'amministrazione E avere anche E aver messo in conto Le trasferte O cose di questo genere Mentre gli altri presenti Dei consigli I privesti Di Udine Arrivavano Con le Mercedes Autista Rinaldo Roldo Arrivava con la sua auto Sempre Senza Accompagnatori Di questo tipo Una Seconda Rinaldo Roldo Si è sempre mantenuto Da soli Signori Devo dirlo Al signor consigliere Che prima ha detto Rinaldo Roldo Su quel compenso Pagava Il 45% Di tasse Il 45% Perciò non era Quello che restava Anche se lui parla Di 200 mila euro Se dopo taglio Tutte le iniziative Che ho fatto Questo Quest'altro Ben poco Restava Per il tempo Che io avevo dedicato Senza avere Nessun rimborso Come vedo Rimborsi per trasferte O cose del genere Perciò mi fanno Quanto ridere Io parlo Da consigliere comunale Ho sempre Fatto Il mio dovere E non ho mai Chiesto Nulla E quando Ho dovuto Rappresentare Il sindaco L'ho fatto Sempre Con le mie Spese La mia ventina Le mie trasferte E tutto quanto Il resto Perciò È quasi Ridicolo Quello che è Stato detto Perché quello Che si fa Da presidente È diverso Da quello Che si fa Da consigliere Ok Che ci sono Anche Della responsabilità E cose del genere Io Devo ancora dire Al signor Consigliere Che ho avuto Un paio Di denunce Ma sapevo Di poter vincerle Però le denunce Le ho avute Sono dovuto andare A prendermi un avvocato Non è semplice Sapendo anche Di aver avuto ragione Però queste sono Le Le piccole cose O grandi cose Che può succedere A chi ha delle responsabilità Ok Perciò Tornare fuori Su quello Che aveva detto Bianchini Fa bene A dirlo C'era un compenso Nel primo mandato Che ho fatto Da presidente E anche nel Secondo Però Non può dire Nulla Su quello Che io Ho fatto Gravitamente L'ho fatto Perché c'era un compenso E spendevo Quel compenso Per la rappresentazione Il comune Non mi sono mai Fatto rimborsare Nulla Vada a vedere E vada a vedere Anche chi devolverete Grazie Prego il consigliere Piscopo Grazie presidente Non so se Si sente Cercherò di essere Molto breve Mi sembra Veramente Paradossale Stare qui A discutere In questo Consiglio comunale Questa delibera D'iniziativa Consigliare Per La diminuzione Del gettone Dell'indennità Di presenza Per le commissioni Cioè Facendo spendere Dei soldi Ai cittadini Va bene Che un consiglio comunale Sappiamo che Ai posti Che ci sono Io Devo dire Sarò anche Abbastanza critico Su questa Delibera Presentata Dal consigliere Rondo Mi sembra Veramente Una cosa Abberrante Sia nei modi Perché non è stata Condivisa Con la maggioranza E con il consiglio comunale Avrei Magari Gradito Che questa Delibera Iniziativa Consigliare Forse è stata portata In una commissione Magari Per Cercare Un punto d'incontro Dove io capisco Che ci debba essere Forse No Quindi Dare magari Non Di commissione A 104 euro Ma cercare Di trovare Magari Ecco Un equilibrio Che sicuramente Non è Diciamo 27 euro L'ordi Così come È stato proposto Che poi I netti Praticamente Diventeranno 17 18 euro Non credo Di più In una commissione Molto spesso Che può durare 3-4 ore Dove bisogna Studiare Gli argomenti Che ci devono stare Mi sembra Una mancanza Di dignità Nei confronti Dei consiglieri Che fanno Questo Tuo qua Va bene Quindi Veramente Lo trovo Una cosa Diciamo Tra virgolette Passatemi il termine Pesante E Anche Avrei da dire Qualcosa Su Chi Effettivamente Ha proposto Questa delibera L'iniziativa Consigliare Come già è stato detto Da qualche collega In precedenza No Presidente Che è stato Presidente del Consiglio Per due mandati Dove il Presidente Del Consiglio Aveva uno stipendio Che mi risulta a me Perché poi Mi corregge Magari qualcuno Se sbaglio Forse non è stato Nemmeno Mai pensato Di tagliarsi Da parte Di questa Persona Questa indennità Che avisse E quindi Fare Magari Una Una delibera In tal senso Va bene Così come Magari fanno Attualmente E per Apprezzare Il Sindaco E tutta la Giunta Dove devolvono Parte del loro Compenso Diciamo A iniziative Sociali In un fondo Di solidarietà Cosa dobbiamo dire Certo Noi siamo Un Consiglio Comunale Virtuoso Cerchiamo Di Far spendere Meno Che possibile I costi Della politica No I costi Della politica Alla popolazione Se pensiamo Solo Che Trieste No I consiglieri comunali Si sono fatti Una paghetta Va bene Con Ovviamente La legge lo permette E la legge regionale Loro l'hanno fatto Dove un consigliere Comunale A Trieste Guadagna Sui Mille Millecento euro Va bene Quindi Stiamo Parlando Effettivamente Di una cosa E' vero E' che Trieste E' Capopogo No In questa regione Udine Ha Anche loro Diciamo Fatto una proposta Per cercare Di avere Un'indennità Fissa Un po' Rispettivo Per evitare Magari Anche lì Che i costi Della politica Ne assaltano Noi siamo stati Sempre Un comune Virtuoso Tant'è vero Basta Vedere No La richiesta Di parere Che è stata Fatta Dal segretario Comunale Alla corte Dei conti Sulle commissioni Va bene Che sono Da gettonare O gettonate Dove in questo momento qua Noi abbiamo Giustamente O comunque In un momento In cui forse c'è bisogno Di un chiarimento Molte commissioni Che non vengono pagate Quindi su Dieci commissioni Probabilmente Diciamo Abbiamo Un terzo Di quelle commissioni Che non vengono pagate Perché Così come è stato Espresso Il parere Dalla corte Dei conti No Non sono Propedentiche No A delle delibere Del consiglio comunale E quindi Noi Ovviamente Per il bene Anche Della città Per il bene Diciamo Di questa amministrazione E senza Nessun problema Facciamo Delle commissioni Impegniamo Il nostro tempo Diamo Il nostro contributo Anche In maniera Totalmente Va bene Quindi A me mi sembra Benamente Una cosa Di avverrante Il fatto Che Deba Si debba Essere Diciamo Si debba Ridurre Il gettone Di presenza No Da parte Di consiglieri comunali Che già in questo momento Ecco Cercano di essere Molto equilibrati Cercano di essere Molto soldi Cercando di Limitare al massimo Sia le commissioni Sia le sedute Del consiglio Va bene Proprio perché No Non vogliamo Incidere In un particolare Momento Come questo No Sul costi No Che ha L'amministrazione comunale E quindi Sulla cittadinanza Noi Abbiamo sempre Fatto Penso Diciamo Questo lavoro Dove non ci Diciamo Non c'è un guadagno Perché Se io vado a vedere Il Il CUD Che mi arriva No A fine anno Dal mio mandato Di consigliere comunale È Intorno Ai Duemila Duemila e cinquecento euro L'ordine Che se ci tolgo Praticamente Le tasse Che sono Quaranta Percento Quasi Va bene Vuol dire Che io Guadagno Circa cento euro A mese Netti Per fare Il consigliere comunale Va bene Quindi Impegnando Ovviamente Il tempo Togliendo tempo Alla Al mio lavoro Alla mia famiglia Perché Forse ha detto Anche qualcosa Diciamo Si è detto anche qualcosa Che non è vero Io non ho nessuna Esenzione Dalla Io quando C'è la commissione Il consiglio comunale Ho il tempo Strettamente necessario Per arrivare Alla seduta Del consiglio Va bene Quindi Non c'è il giorno libero A meno che Non si vada oltre La mesanotte E anche lì Sulla base Di questo parere Che è stato fatto Alla corte dei conti Anche lì Secondo me Sarà poi da discutere In futuro Su questa cosa Quindi io Assolutamente Dopo Le mie nove ore Di lavoro Vengo qui Ok Faccio il mio dovere Di consigliere comunale Per il bene In questa città Ok Prendendomi Facendomi una commissione Di quattro ore Ok E prendendomi Paticamente Due euro all'ora Amene Perché questo sarebbe Poi il conto Che bisogna fare Amene Quindi a me sembra E qui vado a concludere Una proposta Veramente Demagogica Populista Amene Che penso Che la peggior politica Non potrebbe Prima perché Non c'è Una condivisione Secondo modo Perché Ovviamente Ho detto Chi Ha proposto La cosa Forse All'epoca Quando era Presidente del Consiglio Avrebbe dovuto fare Un atto Diciamo Di solidarietà E dire Tagliarsi Così come fa La giunta Il suo Compensi Cosa che invece Non ha fatto Prendendo Duecentomila Duecentoventi Questo è indifferente Comunque Prendendo Sti soldi Ecco questo Tutto Presidente Grazie Grazie Prego Consigliere Cosma Era saltato Tutto Era saltato Tutto Mi sentite? Presidente Presidente Mi senti? Sì Consigliere La sento La vedo Prego Buono Grazie Signor Sindaco Colleghi Consiglieri Eventuale Pubblico Che ci segue Da casa Al quale Auguro Un buon Ascolto Il mio Sarà Un intervento A titolo Personale Con Sergio Cosma Poiché Questa Delibera Non riguarda La politica Partitica Ma solo L'applicazione Totale O parziale Di un Importo Come previsto Dalle disposizioni Regionali Questo punto All'ordine del giorno Di palastura Anche a me Ad andare indietro Nel tempo Per molti anni E ritornare A quei consigli Comunali E provinciali Nei quali Gli eletti Svolgevano Il loro compito Senza prendere Una Lira Ho nominato Lira A bei tempi Quelli Quando Gorizia Che era tanto lavoro L'Italia Era piena Di fabbriche E Gorizia Aveva la zona franca Il consiglio Comunale Era vestito Sindaco Non esisteva Il presidente Del consiglio Incassavano Pochi soldi Gli assessori E i consiglieri Non prendevano Nulla Solamente Se la giunta Lo decideva Una medaglietta D'oro Con scritte Le proprie Generalità E gli anni Della consigliatura Mi fa dire O tempora O mores Erano gli anni Settanta Io ero consigliere Provinciale Del movimento Sociale Lo sarò Per vent'anni E cominciò In quel periodo A sorpeggiare A sorpeggiare La protesta Degli amministratori Comunali E provincali Quando i consiglieri Comuni E regionali Si aumentarono Gradatamente Il loro appannaggio Mensile Tanto Da arrivare A rivaleggiare Con i deputati E senatori Così Anche i consiglieri Assessori Sindaci Presidenti Di provincia Cominciarono A chiedere Chi il depone Di presenza Chi un mensile Più consistente Essendo sindaco O presidente Di provincia Molti politici Idealisti Della vecchia Guardia Protestarono Per questo Era uno scandalo Dei consiglieri Comunali O provinciali Pagati Pagati Per fare cosa Dissero Gli idealisti Affermavano E un consigliere Doveva solo Fare il loro Pogliere Per Rinerziare Anche Chi Aveva Eletti Ma gli idealisti Si dovrebbero adeguare E così Arrivò Il gestione Di presenza Che fece Contenti Tutti Diciamocelo Francamente Nel 1994 Arrivò Poi la riforma Dei enti locali E cambiò Molte regole La regione In quegli anni Regolamentò Il depone Del consiglio Lasciando Come hanno detto Chi mi ha Preciduto E anche voi Lasciando All'aula Di fissare Quello Delle commissioni Apriti cielo E così Dal 1994 Iero consigliere Comunale Come lo sono oggi Quasi interrotto A ogni consigliatura Apparerò in aula Lasciatemelo dire I vari Girolamo Savonarola Con i suoi Piagnoni Che avevano sempre Delle proposte Inerenti Di Tettone Di presenza Da diminuire O da aumentare Nelle commissioni Ricordo Il primo Che decise Di portare Al massimo Ribasso Il gettone Fu colui Che al tempo Dirigeva tutto Intransigente Con i consiglieri Ma non con se stesso Infatti Qualche lustro Dopo Inciampò In ragione Su dei pneumatici Dopo anni Di discussioni A quanto sappiamo Un po' tutti I colleghi Triestini Senz'altro Just'altro Accordarono Consiglio E commissioni Che misero a tacere La questione Ricevendo Un appannaggio Mensile Circa Da quel percento Di mille euro Al mese Da noi Invece Si è arrivati Addirittura A ricamare Il latinista Quintor Orazio Conosciuto Come Orazio Sollevando Una questione De lana Caprina Gettonabili Le commissioni Che portano In aula A votare A votare Una delibera Non gettonabili Invece Quelli che esisceranno Anche importanti Problemi Tecnici Politici E tutto Altro Ma non La delibera Quindi non gettonabili Non capisco Quindi Perché anche Queste commissioni Ci fanno Affermare La presenza Oggi ci viene Chiesto Con questa delibera Di diminuire L'attuale importo Di gestione Ma io mi chiedo Lo vuole la cittadinanza Quella che vota O quella che sempre Non va mai a votare Personalmente Personalmente Non dirigo I sondaggi Pagnoncelli Che ci formano Sulle intenzioni Dari italiani Ma da tanto Lo sentono Nei negozi Nei bar Tra gli iscritti Al sindacato I coriziani Ci criticano Peraltro I coriziani Sono intavorati Neri Con colore Di destra e sinistra E hanno abbracciato I nostri vicini Amministratori Di Nuova Gorizia Dopo che Lugiana Ha defiscalizzato La benzina Questa è la verità Chi guadagna E vive Vendendo benzina Ciccate Automobili Infici Gestisce negozi Di parrucchiere Parrocattoria O altro Si sente abbandonato Da noi Politici Questa è la verità E quello che vogliono I coriziani Vogliono Che sia defiscalizzato Anche dall'altra parte O che sia Una Fiscalità Ugale A Nuova Gorizia Come A Gorizia Questo è il problema Che chiedono I coriziani Una zona franca O qualche cosa Come ho detto io Lunedì scorso Nel mio intervento Che venga creato La ZES La ZES E la zona franca urbana Che il nostro deputato Che fa parte Della quattordicesima commissione Si faccia sentire Si faccia sentire E parli Di Includere Gorizia In una di quelle Zone Anche Che esistono Al confine In Valle d'Aosta Ritornando alle commissioni Conciliari Lavorano bene Le commissioni Nelle commissioni Di cui faccio parte Ho trovato Colleghi Consiglieri Dicola francamente Da verità Preparati Interessati Che hanno sempre dato Il meglio di se stessi Poi Sono stati votati Dal popolo Chi è più bravo Chi è meno bravo Nella commissione Di polizia locale Che presiedo Ho previsto poi L'unica Che tutti i colleghi Firmino All'entrata Con l'oro Vi arrivano E firmino All'uscita Con l'ora Di E fine Del loro apporto Del fine commissioni Questa L'ho istituita io E tutti l'hanno fatto Il presidente Di commissione A mio avviso Se lavora bene Ne perde di tempo Venire in comune Incontrarci con l'impegato In caricato Per Eseguire i lavori Fissare giorno Ora Vedere se l'aula È libera Se viene riscaldata Nella giornata Prelista Perché abbiamo Una cooperativa Di rome Di Roma Non più Dipendente del comune Che accende Spegne Di scaldamento Il Arteghi Dovetì E il Vecatì Ripeto Il presidente Deve firmare Le convocazioni Controllare I intervalli Che sottoscrive Almeno io Questo lo fa Prepararsi sugli argomenti Scritti All'ordine del giorno E fare inviare A rifiuti Stipendi Il tutto Affinché Venga creata La riunione Voglio avere La coscienza Tranquilla Poi Arrivare prima Non so che cosa Vorrà fare Il consiglio Comunque io Ho espresso La mia Opinione Eventualmente Presidente Interverrò Medici I ultimi 5 minuti Di tempo Che mi verranno Concessi Grazie per avermi Seguito Grazie consigliere Prego consigliere Stasi Grazie presidente Buonasera a tutti Brevemente Perché Settendo tutti I ragionamenti Che sono stati Fatti in aula Non saprei Nemmeno da che parte Iniziare Io Ripeto Durante la campagna Elettorale Visto che L'esposto Che ha fatto Il collega Rolbo Parte da lontano Non ho promesso Mai niente a nessuno L'unica cosa Che ho promesso Dico Il promesso Di impegno Per quello Che mi riguarda Personalmente Per quello Che riesco a fare Per il resto Non ho mai Promesso Niente a nessuno Ma al di là Di questo Anche se L'idea Del consigliere Proponente Potrebbe essere Condivisa Come princidio Non la ritengo Corretta Come metodo Perché Perché dico questo Perché mi sembra Durante la votazione Del bilancio Io Sono stato L'unico Forse Di quei Consiglieri Che ho Ricamato Colori Quei avevano Presentato L'avventamento Sul settore Di presenza Dicendo Che Quando si Prendono Certe Decisioni Di far condiviso Con l'intero Consiglio Consiglio Adesso Sarebbe Come ha detto Giustamente Il collega Piscopo In mezzo Si poteva fare Benissimo Una commissione Dove tutti Potevano ragionare Che arrivare in aula L'avevo un'idea Già Presa E già Condivisa Per la maggior parte Perché Dicevo io Che non la condivido Nelle telegramme Perché E' vero Che il consigliere Rolto L'ha annunciato In consiglio Comunale Però Quando si fa parte Di un gruppo Che sia Omogeno Omogeneo O eterogeneo Come il nostro Comunque Si passa La parola Di quello Che si intende Fare E magari Si propone Anche quello Che va scritto Con il proposito Magari Di migliorare Se si può E cercare Di portare Quale a poco E qualche a poco Invece il consigliere Rolto Di questo Sarebbe ben guardato Dicendo Che lui L'ha dichiarata Tavola E quindi Intendeva Andare avanti Con il suo So E detto Come il consiglio Possibile condividerlo E condividerlo Ma Forse Qua mi sembra Che in questa maggioranza Si di qualcuno Si nasconde Dietro al dietro Perché Vedo Il consigliere Rolto Prende spara Vedo Delibere Di giunta Uscite fuori Senza mai Parlarmi In maggioranza Se si intende Realizzare carceri Questo Quello Io non capisco Niente Però poi Si viene a chiedere Il sforzo Del consiglio comunale Quando si intende Andare avanti Il consiglio comunale Bisogna Renderlo Particcio Tutti Tutti Comunque E ritorniamo Al fatto Di partenza Perchè Dico Il fatto Di condividere Perchè Condividendo Le cose Si può Realizzare Il proprio Sottimit Perfetto Ma Al di là Di questo Se l'intento Poi era Di dare Impasto Alla cittadinanza Il fatto Che qualcuno Si sia Interessato Questo Al di là Dell'esito Che verrà Fatto Su questa Delibere E' stato Comunque Raggiunto Carro Colleghi Perchè Ricordo Che Coloro Ti ha dedicato Una pagina Intera Dicendo Questo Quello E quell'altro Forse Non lo so Se nella circostanza Si è stato Raccomandato Dalla proprietà O da qualche Direttrice Di redazione Speciale Che vi abbia dato Largo Sopasso Perché vedo Gli altri colleghi Presentando I miei Ritualizzatori Di presenza E me da me Pari L'hanno Legati In ultimo Rigo Con lo trafiletto E liquidati In 4 e 4 Ma Questo Ripeto Non sta a me Giudicare Come non Completa E Giudicare Se il gettore Di presenza Per le Premissioni È Giusto O sbagliato Il compenso Perché E alla fin fine Nessuno ruba Niente Perché È previsto Dalla legge Regionale E viene applicata Il fatto Che si possa Intervenire Con una Delita Di consiglio Per Ridurlo Quello è un altro Discorso Che non Riparda Il contesto Del gettore Di presenza E sono state 4 euro Benissimo Allora io In questa Giustanza Ho presentato Un emendamento Che Ritiro E visto quanto Dichiarato Dal consigliere Rigo E ne presenterò Un altro Che sarà inviato Della collega Ferrari Vista la mia Poca dimestichezza Tecnologica Quindi E ritiro L'emendamento Ufficialmente E ne vi ero Un altro Quali sono I principi Per i quali Si possa Intervenire E effettivamente Non sciacquarsi Da bocca Con la solidarietà Mentre Grazie Per il momento Grazie Consigliere Stasi L'aveva stato messo A verbale Che Lei ritira L'emendamento Stottoscritto Da lei E della consigliera Ferrari Va bene? E come anticipato Prima Ne presenterò Una Grazie Grazie Allora Prego Consigliera Ferrari Sì Sto cercando Sto cercando Connettermi Alla telecamera La sentiamo E la vediamo Consigliera Mi vede Sì La vediamo Grazie Presidente Grazie Allora Allora Innanzitutto Volevo ringraziare Il consigliere Gentile Perché Grazie a lui Grazie alla mozione Che ha fatto Nell'ultimo Consiglio Comunale Di sospendere La seduta Per Parlare Di questo Oggi Io spero Ci siano Anche altri Punti All'ordine Del giorno Altrimenti Spendere Farci spendere Anzi Far spendere Ai cittadini 4.000 euro Non solo per parlare Di questo E null'altro Lo ringrazio Devo ringraziare Il consigliere Poi vorrei anche Consolare il consigliere Episcopo Perché Vorrei dirgli Anche di più Che non solo Il consigliere Roldo Non ha condiviso Con la maggioranza La sua proposta Ma non ha condiviso Nemmeno con il suo Gruppo consigliare Quindi se questo Può farla Un po' Consolare Questo è quanto Sono d'accordo Con Quello che dice Roldo Quando cita La delibera Regionale Ma se è Sconcertante Ridurre Il gettone A una cifra Irrisoria Di 1-2 euro Allo stesso modo Credo che Non sia giusto Mortificare Il lavoro Dei consiglieri Con una cifra Che Esentasse Dovrebbe Equivalere Che ne so Se una commissione Dura 3 ore Circa 6 euro Allora Un po' Come i conti Che ha fatto Anche prima Più o meno Il consigliere Episcopo A questo punto Penso Che tutti noi Facciamo Una più bella figura A donare L'intera cifra Piuttosto che A commisurare La qualità E l'impegno Del nostro lavoro Del nostro lavoro A una cifra Così Irrisoria Ecco perché Il nostro emendamento Cioè quello Che il mio capogruppo Ha ritirato Quindi l'emendamento Di 1 euro Era una provocazione Era una provocazione Per fare in modo Che i consiglieri Maturassero Una certa Consapevolezza Sociale Tanto da essere Esi stessi Ad evolvere E l'intera quota Quindi io adesso Leggo Il testo Brevemente Dell'emendamento Che abbiamo appena Spedito Se posso Presidente Perché lo vedo Leggermente Contrariato Non lo so Posso farlo? Allora consigliere Siccome non è arrivato Nessun emendamento In questo momento Comunque Lo spazio Di servato Alla presentazione Degli emendamenti Degli emendamenti E successivo Ai primi interventi Lascieremo Lascieremo Lì lo spazio Allora io Ho inviato Io le ho inviato Comunque Per conoscenza Anche il signor Santa Rossa Copia dell'emendamento Casomai Secondo intervento Se nel frattempo Sarà arrivato Io provvederò Alla lettura E concludere La consigliera L'ha inviato Anche nell'indirizzo Per gli emendamenti No Io l'ho mandato A Santa Rossa E a lei Devo mandare A che cosa? Mi scusi? Allora Attendo un attimo Adesso glielo Allora L'ho inviato Adesso glielo mando qua Così lo invia A questa indirizzo Non serve Non serve Già qua Ecco guardi Glielo ho inviato Nella chat Anzi Grazie mille Adesso invito Adesso invito Quali L'emendamento Poi vada Inviato A tutti i consiglieri E poi Concluso il primo Incontentio Illustrerà L'emendamento E discuteremo Sull'emendamento E lo proveremo Perfetto Perfetto Ricordo Concludo Solo Lascio Ogni consigliere Alla sua coscienza Grazie Grazie consigliera Altre prime interventi Se non ci sono Prego consigliere Gentile Sì grazie Presidente Mi sente Mi sente Perché io ho dei problemi Forse con la linea La sentiamo E la vediamo Prego Bene Grazie Grazie Presidente Dunque Questo è il mio primo Intervento Io lo utilizzerò Per cercare Un attimino Di scarnire Il consiglio comunale Di Gorizia E via dicendo Perché La discussione Che si è sviluppata Secondo me Ha Del surreale A parte Le reciproche accuse Fatte A A uno All'altro A roldo E questo Quell'altro Io ho già detto Ho avuto modo di dirlo Sui giornali Per cui Non ho assolutamente Problemi di ribadirlo Quella che la mia proposta È che Il consigliere roldo Si auto emendi E porti la cifra A 52 euro Che è la metà Del gettore di presenza Attuale Quindi questo comporterebbe Un bel risparmio E quindi La preghiera Che io faccio Il consigliere roldo È quella di auto emendarsi E di trovare Un punto d'incontro Che possa essere valutato Penso anche positivamente Da parecchie persone All'interno di questo Consiglio comunale E questo comporterebbe Sicuramente Il lavoro Dopodiché È chiaro Che su argomenti Del genere Forse è meglio Parlare Dalle ore 17 Abbiamo iniziato Alle ore 17 Sono 18.28 Sono già passato Un'ora e mezza Figuriamoci Cara Serenella Se avessimo iniziato L'altra volta Alle 10 di sera Vedremo Che ora finiremo Quindi io sono Molto più tranquillo E penso di aver fatto Come sempre Il mio lavoro Nell'interesse Del consiglio comunale E nell'interesse Dei cittadini Allora Parto da molto lontano Non tanto quanto Cosma Per l'amor di Dio Perché non ho La preparazione Né le conoscenze Del tempo Però parto da qualcosa Che è successo Il 12 di giugno Del 2020 In consiglio regionale Si è votata La legge Omnibus La legge Omnibus Voi sapete meglio di me Che significa Che di tutto Un po' Cioè tutto quanto Entra dentro Ok E' stato modificato L'articolo 14 Con la legge Legge regionale Disegno di legge Regionale 93 L'articolo Ter Della legge Regionale 31 del 2018 Ed è stato modificato Con un 14 Quater Indimitivo Degli amministratori Locali Modifiche Articolo 41 Della legge Regionale 18 2015 Allora Chi sono gli amministratori? Sono i sindaci E gli assessori Punto Non siamo noi Cosa dice questo A questo Emendamento Che è stato approvato? Ah Premetto Che Quell'emendamento Porta le firme Di Bordin Di Bert Nicoli Giacomelli Bolzonello Moretuzzo Onsel Centis Per cui E' assolutamente Trasversale E' assolutamente Condiviso Da tante Forze Che mancano Mancano i 5 stelle Che poi alla fine Si sono astenuti O hanno votato contro Non ho la certezza Di questo Cosa recita? Al comma 3 Dell'articolo 41 Della legge regionale 17 luglio 2015 Numero 18 Disciplina finanza locale Friuli Venezia Giulia Nonché modifiche A disposizione Della legge regionale 19 2013 9 2009 26 2014 Concernente Gli enti locali Sono portate le seguenti Modifiche Alla lettera G Sostituita dalla seguente G Riduzione di un quinto Delle indennità Previste alla lettera A Per i lavoratori Dipendenti a tempo pieno Che non siano collocati Inaspettativa B Alla lettera H Dopo le parole Di un rimborso Sono inserite le seguenti Anche forfettario Comma 2 Legione attua Un concorso finanziario Volto a ridurre L'impatto Sui bilanci comunali Dei maggiori oneri Derivanti dall'aumento Dell'indennità Degli amministratori Locali 3 Il concorso finanziario Di cui Comma 2 È definito Con legge regionale Ora siccome Non tutti quanti Siamo pratici Di queste cose Cercherò di Spiegarlo In parole semplici Questo emendamento Che poi è stato provato Anche con un sub-emendamento Che dispone Che l'indennità Delle amministratori Locali Così come definite Della delibera Daggiunta Sulla base Consigliere Gentile Non la sentiamo Consigliere Gentile Non la sentiamo Vediamo se ritorna La connessione Attenda un attimo Niente Attendiamo solo un attimino Ci sono due interventi? Allora intanto Prende la parola Consigliere Portelli Poi facciamo Continuare Consigliere Gentile Se riesce a ricollegare Se prego Consigliere Portelli Innanzitutto Mi scuso Ho perso La prima mezz'ora Diciamo Del dibattito Mi sono Così Mi sono connesso Solo a metà Dell'intervento Del consigliere Episcopo Quindi ho perso Tutta la Introduzione Del collega Aroldo Alla sua delibera Dico sua Perché l'ha presentata lui Non so Se l'ha scritta lui Ma comunque Diciamo La delibera Che oggi discutiamo È l'iniziativa Del consigliere Aroldo Quindi mi scuso Se andrò fuori Dal dibattito Rispetto agli interventi Che mi hanno preceduto Ma questo è il mio Primo intervento Dico le cose Che avrei detto Comunque Questa questione Che viene rubricata Solitamente Con I costi Della politica Oppure I costi Della democrazia In questo caso Sarebbero i costi Della democrazia Perché noi siamo Dei consiglieri Eletti Non siamo un partito Che riceve Finanziamento pubblico Noi siamo Dei consiglieri Comunali Diciamo Il livello base Della democrazia Locale In Italia Direi In altri comuni C'è anche Il livello Territoriale Ancora più basso Quello dei quartieri Qui in Comune di Gorizia I quartieri Sono stati Aboliti Quindi Noi siamo Il livello base Allora In questo livello base Che Già richiamavo Nell'intervento La seduta scorsa Ha avuto Un decadimento Progressivo Nelle consigliature Ogni volta è peggio Però Non è questo L'argomento Di oggi Non è che Discutiamo Sulla qualità Del consiglio comunale O degli elettri Noi Parliamo Di una questione Che Il consigliere L'Oglio Vuole Che sia approvata Dal consiglio comunale Cioè Il consiglio Eroldo Ritiene Che Le commissioni Che per legge Devono Avere La corrisponsione In un Gettone Alcuni Lo chiamano Gettone Poi Lasciamo stare La normativa Regionale La normativa Nazionale Non sempre Coincidono Comunque Per parchiare I gettone Allora La proposta Di roldo È praticamente Portare Il gettone A un quarto Rispetto a quello Che è previsto Dalla normativa Regionale Nazionale Le motivazioni Immagino Siano state Le solite Per cui Bisogna Bisogna perché Occorre Occorre che cosa Cioè Noi abbiamo Un mandato Elettorale Che viene esercitato Io penso In buona fede Da parte Di tutti noi Che prevede Quella che si chiama Indennità Di presenza Questa indennità Di presenza Non è Un salario Non è Una paga È Una specie Di rimborso Per Un riconoscimento Se vogliamo Che il legislatore Ha fatto Un riconoscimento A che cosa Al fatto che Noi consiglieri Eletti Dal popolo Dai cittadini Qualcuno dice Cittadini Qualcuno dice Popolo Chiamateli come vuole Comunque Chi ha diritto Ci ha eletti Ed è Nostro diritto Percepire Una Indennità Per l'effettiva Presenza Ai lavori Del consiglio Comunale E infatti La prendiamo E al lavoro Delle commissioni E infatti La prendiamo Anche quella Allora Nel ragionamento Che credo Sia stato fatto Delle consiglie Erolder Ma torno a dire Non ero connesso In quel momento Si dice Beh ma Le commissioni Sono poca roba Praticamente Il lavoro Delle commissioni Non serve A una mazza Questo è il concetto No? Perché se no Non si giustificherebbe Siccome Il lavoro Delle commissioni Serve poco Niente Insomma È un impegno Poco gravoso Allora Questo impegno Poco gravoso Dovrebbe essere Pagato di meno E per iniziativa Del consiglio stesso Ci sarebbe Una Autolimitazione Del Gettone A quel punto Per tutti Questa è la questione Di oggi Cioè Un voto del consiglio Che dica Cari consiglieri comunali Siccome Prendere un gettone Previsto dalla legge È troppo Allora Noi diciamo Che questo gettone Lo portiamo A un quarto Del gettone Sempre l'ordine Perché ho sentito bene Quello che diceva Cosma E quello che diceva Pisco Si parla sempre di ordo Ecco Quindi L'argomentazione Che viene fatta È la tipica Argomentazione Se c'è a dirlo A rollo Populista Populista Perché la storia Di rollo Non è una storia Di populismo La storia di rollo È una storia In cui Diciamo Almeno a livello Comunale Io che lo seguivo Ancora non ero Nel consiglio comunale Forza Italia Quando nasceva Non era un partito Populista Era un partito Che si considerava L'erede Della democrazia cristiana Del partito socialista Il populismo Era un'altra roba Che non apparteneva A quella storia A chi apparteneva Il populismo Il populismo apparteneva Tendenzialmente A una certa Diciamo Area Più collocata Nel centro-sinistra O nella sinistra Esterna Esterna ai partiti Che oggi Possiamo catalogare Dal punto di vista Storico Con varie etichette A seconda Del periodo Delle elezioni In cui si presentava All'inizio Una parte Di questo mondo Era l'ulivo Contro i partiti Una parte Poi successivamente Di questo mondo È stato il popolo Viola Contro i partiti Infine L'ultimo Così L'ultimo Miracolo Diciamo Della cucina Della cucina Politica italiana Sono stati I 5 stelle Ma Sempre Quel tipo Di messaggio Arrivava E cosa dice Questo messaggio Dice I partiti Non saranno niente Anzi Buttiamoli tutti A casa Perché noi Noi chi Noi siamo i cittadini Quindi ci auto-organizziamo Qui dobbiamo fare Una battaglia Del basso Noi siamo Il popolo Nel momento in cui Non possiamo fare Una mazza Con nessuna competenza Addirittura Ci vantiamo Di questo Per cui Ultimamente Addirittura È un vanto Il fatto Di non saper Fare il parlamentare Ad esempio Cioè Nell'ultima campagna elettorale Questo è stato Detto ampiamente No Quindi tu non sai fare niente Quindi Sei scelto Ad esempio Su internet Ad esempio In un giro di briscola A casa tua A casa tua E diventi parlamentare Bene Non sai fare nulla Bene Dopodiché Devi Firmare un contratto Che ti dice Di restituire i soldi A chi? A casaleggio In quel caso là O al partito Per cui A un certo punto Sono diventati Quasi un partito Restituendo Dando una parte Bene Per dire Che anche Gli ultimi Della lista Che ho fatto prima E non ce l'avranno con me Perché è storia Cioè Non è che si può dire Che uno interviene Per fatto È proprio un vanto Diciamo Di quel movimento Dire che Tu sei uno Che passeggiava per strada Diventi parlamentare Dunque Sei un cittadino Un comediato ai cittadini Quindi restituisci i soldi Quindi Sei a Roma Così Bene Gli ultimi Epigoni Di questa storia Adesso Mi secca a dire Che anche L'ex presidente Del consiglio comunale Rinardo Roldo Che Per Vari mandati Ha Impersonato Perché Rappresentava L'assemblea elettiva Anche lui Ha Preso Questa linea Popolista Appunto Perché non so trovare Altri termini Per cui si dice Sostanzialmente Che il lavoro Dei cittadini Eletti a consiglio comunale Di Morizia Deve essere Semigratuto E io dico No Cioè Non c'è Una argomentazione Valida Per cui Uno Debba Rinunciare Con una delibera Di consiglio Alla propria Indennità Altro è Una Volontaria Ribadisco Volontaria Restituzione Di Indennità Al partito Alle persone Bisognose Alle cose Che uno vuole Che succedano nella vita Però allora Mi domando Perché non agisce Come consigliere comunale Perché accadano Dice Rinuncio Perché dico Che vanno Va Ecco E questa volontaria Invece scelta E autonoma scelta Dell'amministratore Locale Io la difendo E io stesso L'ho praticata E tanti L'hanno praticata Chi sta in giunta Comunale Riduce Volontariamente Una percentuale Del proprio Compenso Perché vada A costituire Un fondo Io quando Era assessore Provinciale Soprattutto Nell'ultima Parte Del mio Mandato Quando era Un segnale Di forte Critica Rispetto A frangetta Così la chiamavamo Frangetta Che aboliva Le province Era un costo Anche quello Io non sono più Poi Non ho mai Anche minimamente Cercato Le occasioni Dell'autocritica Da parte Del PD Su quella Abolizione Delle province A livello Regionale D'accordo È una scelta Che è stata fatta Va bene Io Mi alzerai L'inevità Nell'ultimo periodo Perché dico Vabbè Dici che Non serviamo Una mazza Allora Vai a quel paese Cara governatrice Io rinuncio Alla mia In verità Ma tutto va E quindi L'ultimo periodo Quello più gravoso Quello più incasinato La riforma Del museo Che ancora adesso Ne parla La regolizia Io lo feci gratis Ma fu una scelta Personale Mica perché Ci fu Invece Uno Che chiese A due assessori O rinuncato A altre cose O una delibera Di consiglio provinciale Che dice Sono scelte individuali Quindi Roglio Vuole rinunciare Alla sua indennità E la rinuncia Basta Ma fine Però Con questo clima Che vede Gli eletti Come degli usurpatori O dei ladri Solo perché Si percepisce Un'indennità Di funzione Anzi no Un'indennità Di presenza Magari Di presenza Per il fatto Che io oggi Ho abbandonato Le mie attività Che stavo facendo E sono connesso Da uno studio A una riunione Così E scusate un attimo Perché devo farlo gratis? Cioè perché Che io devo rinunciare La mia vita Senza Avere la possibilità Di un rimborso Che non sarà mai Quello a cui rinuncio Ecco Questo come primo intervento Penso possa bastare Mi scuso Se non ho colto Lo sostituto Il dibattito Di prima Ma appunto Non avevo Non avevo La condizione buona Quindi ho sentito Un pezzo Del dibattito Grazie consigliere Vedo di nuovo Signore Giacchini Vuole provare Se ha di nuovo La condizione Sì Io ci provo Mi sentiamo Prego Ecco va bene Grazie presidente Ma niente In sostanza Io ero arrivato Appunto a questo Articolo 14 Quater Del decreto legge Disegno di legge Regionale Numero 93 Che ha modificato Di fatto L'indennità Delle amministratorie Locali L'ho letto Spero che tutti quanti L'abbiate inteso Vi dicendo Nel modo migliore Però in sostanza Dove voglio arrivare Con questa norma Che è fatta Per favorire Soprattutto i sindaci Inizialmente Dei piccoli comuni Che percepiscono Degli importi Bassissimi Che non sono sufficienti Per l'impegno Che indubbiamente Tanti sindaci presentano Dopo la cosa È stata estesa A tutti quanti Compresi Gli amministratori Allora Cos'è stato Modificato In sostanza In sostanza È stato modificato Che il sindaco Percepirà Qualcosina in più Ma piccole cifre Perché io ho fatto Dei calcoli Spannometrici Ma penso Penso di non Aver sbagliato Quando li percepirà Li percepirà Quando ci sarà La delibera Di giunta regionale Da parte Dell'assessore Roberti Che rimetterà Appunto La questione Fermo rimanendo Che l'emendamento BIS Il subemendamento Che è stato presentato Dice chiaramente Che non potranno guadagnare E meno Di quanto Attualmente guadagnavano Perché se no Per una serie di cose Questo amendamento Avrebbe potuto portare Qualcuno Anche guadagnare Qualche centesimo Di meno Dico qualche centesimo Ma non è vero Che sono centesimi Tradotto Per i nostri Amministratori Quegli assessori Che sono in pensione Da quando Sarà fatta la delibera Da parte Della giunta regionale Percipiranno Qualcosa come 700 euro In più Al mese Non mi sembra poco Perché viene a decadere Quel discorso Per cui Chi era pensionato Non aveva diritto All'aumento del 50% Poi Cosa cambia Cambia Che per tutti Quegli Assessori Che Non si sono posti In aspettativa Quindi Che continuano A fare il loro lavoro Da professionisti Da dipendenti Privati Da dipendenti Pubblici Percepiranno Un'indenità Di circa 300 400 O forse 500 euro In più Ma dove sta Il bello Secondo me Di questa cosa qua Tutta legittima E per l'amor di Dio Che mentre noi Combattiamo Fra 52 104 27 La regione Per gli amministratori Riconosce Un aumento Di non poco Conto mensile Ai nostri amministratori Sindaci E assessori Ma ancora più bello E cosa La regione Attua un concorso Finanziario Volto a ridurre L'impatto Sui bilanci Comunali Dei maggiori Oneri Derivanti Dell'aumento Dell'indenità Delle amministratori Locali Come dire Cara regione Se i nostri bilanci Non ce la fanno Siete voi Che dovete intervenire Io Se volete Ve lo fornirò Questo Quando avrete piacere Ma soprattutto Quando ci vedremo Perché io sono stufo Di questa situazione E figurino Per cui Mi viene da ridere Mi viene da ridere Quando noi stiamo qua A discutere 52 104 Quando invece Per gli amministratori Per i sindaci E gli assessori Mamma regione Ci ha pensato Perché noi Con i nostri Gettoni Siamo fermi Al 2002 Se non sbaglio Sono fermi A 104 euro Dal 2002 E nessuno Pare Si sogni Di aumentarli Però Per gli amministratori Viene trovato Qualche soldino Allora Questo mi dà Un pochettino Fastidio Mi dà un pochettino Fastidio Perché Dico Beh Fermo rimanendo L'impegno Sicuramente Giornaliero Di tanti Che Lavorano Full time Che erano quelli Che con questo Elemento qua Rischiavano Di rimetterci soldi Ecco perché È stato fatto Quel bis Quel bis Che dice Non si potrà Guadagnare Meno Di quanto Succedeva Prima Per una Stortura Secondo me Politica Legislativa Sono stati Aumentati I compensi Di quegli Assessori Che già Hanno un lavoro Che quindi Percepiranno Ancora di più E non quelli Che Non avendo Un lavoro Ma impegnandosi Sicuramente A questo punto Al 100% Giornalmente Rischiavano Di perdere Addirittura Qualche soldino Per il bilanciamento Questo è quanto Deciso la regione Il 12 di giugno E tutto quanto Agli atti Vi ho già detto Se volete Vi fornisco Anche i link E tutto quanto E dico che Semplicemente Questo discorso Per il consiglio Comunale di Gorizia Mi sembra ridicolo Ma comunque Condividendo Sicuramente Quelli che sono I regimi Di sgravio Della spesa Condividendo Il discorso Che ha fatto Prima il consigliere Cosma Dicendo che Bisogna cercare Di fare Che a quel tempo Tutti quanti Si stracciarono Le veste Salvo poi Logicamente Accettare Certe cose Io continuo E ribadisco Questo concetto E quello che ho detto Prima consigliere Eroldo Che Lo prego Onestamente Di auto Invendarsi Per trovare Un punto Che sia d'incontro In questo consiglio Comunale Stabilendo una cifra Che tutto sommato È sempre bassa Rispetto a Udine Che non si è abbassato Rispetto ai 1223 euro Mensili Lordi Che hanno tutti I consiglieri comunali Di Trieste Rispetto ai 52 Di Pordenone Anche Pordenone Ha operato Questa scelta Per cui Io Direi Facciamoci del male Ma non facciamocene Tanto No Cerchiamo di venire Incontro invece A quelle che possono Essere delle necessità Senza però Andare a fare Questo pietismo Che mi sembra Completamente fuori luogo Diamoli alla società civile Diamosi al volontariato Diamoli a questo Diamoli a quell'altro A me Conestamente Penso che Comunque Grazie presidente Vado veramente a concludere Mi fermo qua Perché prima Comunque avevo già parlato Grazie Grazie consigliere Altri primi interventi? Bene Non ci sono altri interventi Chiudiamo i primi interventi Se c'è Il consigliere Vuole dare risposta Il consigliere Il ponente Altrimenti Niente Allora lascio Ai consiglieri Che hanno Prego 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 consigliere Sì la vediamo E la sentiamo No Voglio solo dare Dei chiarimenti Ai colleghi Visto le bordatine Che mi hanno mandato Tutti i compensi Sono andati Informarsi Ma si vede Che gli hanno dato i dati Uno ha dato un dato Uno un altro Poi se Sulla Chat Vedo Qua Numri Cifre Mamma mia Se dovevo vivere Bastava che Facevo il presidente del consiglio Vivevo secondo loro Ringrazio Dio Che ho avuto un papà Che assieme Abbiamo messo su un'azienda E ci fa mangiare A tutti quanti Senza domandare niente A nessuno A nessuno di quei colleghi Devo anche chiarire Adesso ho dato un chiarimento Fatto il conto della serva E passava l'emendamento E passava i 27 euro Avevano detto Che veniva riproposta La delibera Non è stata mai portata In aula Il 28 aprile Quando c'era la discussione Sul bilancio preventivo C'è stata una discussione Ho detto che io riportavo La stessa delibera Pari pari E la delibera Portata nel 2018 Tagliati fuori dai pareri Che non servivano I pareri della regione Perché io dico Che non può essere retroattiva Ma sarà semplicemente Dal giorno dopo Per quanto riguarda Di autoumendarmi Il consiglio sovrano Presenta gli aumentamenti Io resto sulla mia linea Se passa Non passa Se passerà i 52 euro Sarà lo stesso Se ho fatto qualcosa Di positivo Perché se non portavo La delibera Non veniva niente Ridotto a 52 euro E termino qui Semplicemente dico Ragazzi Se dovete andare A fare i conti E se vi fate dare Informazioni Fateveli dare Dalla stessa persona Tutto lì Grazie Bene Allora Ora quindi Tratteremo Gli ordini del giorno E gli emendamenti Che sono stati presentati Chiaramente non possono essere Presentati ulteriori Quindi abbiamo Un ordine Essendo stato ritirato Un emendamento E poi presentato un altro Abbiamo in ordine Cronologico L'ordine del giorno Del movimento 5 stelle Quindi sottoscritto Da Malaz e Machitella Abbiamo un emendamento Sottoscritto Dal consigliere Gentile E un altro emendamento Che è appena arrivato Sottoscritto Dal consigliere di Stasi E dal consigliere Tavari Quindi Iniziamo con l'ordine del giorno Del movimento 5 stelle Lascierei però La parola prima Alla segretario Prima presentate Prima presentate L'ordine del giorno Poi lasciamo la parola Un attimo al segretario Prego E qua mi chiedono Dove si possono vedere Adesso vediamo Allora di Scegliere Prego Chi lo presenta Maraz Machitella Machitella Eccomi qua Sì sì Faccio io Prego Il collega Maraz Ha dei problemi di connessione Oggi Che non riesce a Connettersi bene Come ho già anticipato Intanto buonasera a tutti Buonasera Presidente Tutto Con la giunta E gli spettatori Che sono a casa Propongo Questa Quest'ordine del giorno Che ora vado a leggere Che va a chiedere Serve a chiedere Praticamente Al Collega Roido Di poter Modificare Il suo Suo Delibera Visto che Noi come 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 Sentivo Prima Che Che Ha avuto Quelle Critiche I nostri Conforti Noi Abbiamo Queste Cose Per la Nostra Testa E Quindi Le portiamo Avanti Vado a leggere L'ordine del giorno Collegato alla proposta Delibera Determinazione Della dignità Giornaliera Di presenza Per la Parpettazione Delle sedute Commissioni Consigliari Manto elettorale Due Dice Sette Mn22 Proponente Consigliere Romano Dato che Nella seduta Del 27 28 Aprile In sede Discussione Del bilancio De previsioni 2020 2022 Il Movimento Cinque Stelle Ha portato All'attenzione Del Consiglio Comunale Di Corizia Uno Di In cui Si chiedeva La riduzione Trattacento Di gettoni Di presenza Sia delle commissioni Che dei consigli Comunali Quindi ecco Questa Noi avevamo già chiesto In sede Di Bilancio Una modifica A cui La risposta È stata piuttosto Negativa Anzi è stata Cassata Dallammaticamente Senza neanche Votare Discuterla Visto che Medesimo Degì Presentato Al momento Cinque Stelle Non è stato Preso In considerazione Dalla giunta E non è stato Nemmeno posto In discussione Vista la proposta Delibra Del consigliere Consigliere Rinaldo Ollo Come Dato Il periodo Di grosse Difficoltà Economiche Di molte Famiglie Doliziane Dovute Dovute agli effetti Della conseguente Del lockdown Per il covid Dicenove Si chiede Punto A La modifica Della delibera Determinazione Delle identità Giornaliera Di presenza Per la partecipazione Alle sedute Dele commissioni Consigliari Mandato elettorale Dottorale Dottorale E nello specifico Del punto 1 La modifica Della cifra Per la dignità Giornaliera Di presenza Dei consigliere Comunali Per l'effettiva Patecipazione Sedute Dele commissioni Consigliari Dal 27 euro Proposti A zero Punto B Che le somme Risparmiate Detali D'aggettoni Di presenza Alle commissioni Consigliari Siano Destinate Per intero Alle famiglie In difficoltà Economiche Con particolare Riguardo A quelle numerose Quindi Fanno ripetere Noi Pensiamo Che in questo Momento Di difficoltà Delle famiglie Delle persone A Gorizia E Tutta Italia Sia doveroso Un atto Del genere Da parte nostra E quindi Anche Prende in considerazione Questa nostra proposta Come si è Come ho sentito Anche dalle vostre Presidenti Qualcuno ne ha parlato Anche che In precedenza In anni Anni e dietro All'origine Certe attività Di consigliare Di consiglio Non erano Neanche retribuite O Auditonate Era una Era un Una passione La politica E si Si poteva farla Tranquillamente E si faceva Tranquillamente Senza nessun Compenso O quant'altro Quindi riteniamo Che Che questo nostro Odg Possa essere Accolto Se Si può Se Il collega Di Nando Doldo È d'accordo Ma mi sembra Che avevo già sentito Prima Che diceva Qualcosa Purtroppo Io non sentivo Io non sentivo molto bene Di Nando Doldo Quando parlava prima Però ho inteso qualcosa Che non è possibile Fare Una Una cosa del genere Però sarà lui A riformulare Questa Sua ipotesi Che io Purtroppo Non Ed eventualmente Riascolteremo Quanto dice Direi consigliere Inoltre Volevo anche Sottolineare Il fatto Che il Movimento 5 Stelle Ha da sempre Ha sempre fatto Una politica Di riduzione Dei costi Che qualcuno dice Della Democrazia D'accordo Sono sempre costi Costi a politica Costi a democrazia Mettiamola come vogliamo Ma Una grossa fetta Della De riduzione Che ha fatto Il Movimento 5 Stelle Le ha devolute A un fondo Un fondo Per le piccole e medie imprese E fino ad oggi Sono stati restituiti Già 110 milioni Di euro Sfadolato Milioni più Nemero Milioni in più Nemmeno Quindi Non sono soldi Che vanno a casaleggio Perché a casaleggio Vanno soldi I soldi che vanno a casaleggio Sono quelli che stavano Io Poche volta Come 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 offerta Sul portale Di Rousseau Non sono soldi Che derivano Della politica O dai costi Della politica Sono Eragizioni Tutto qua Io credo di avere Ok Io termino qua Il mio intervento E vediamo Cosa succede Grazie consigliere Prima di fissere la parola Che sia No Voglio No Prima di fissere la parola Il consigliere Il segretario Prego Il segretario Grazie 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 Presidente Sì Come segretario Devo fare Delle osservazioni Su questo Ordine del giorno Allora Innanzitutto Quello presentato È Un ordine del giorno Almeno questo è Il nome Che è stato Dato E non è Un emendamento Questo è il primo Il primo aspetto Sul Secondo aspetto Ovviamente Sono tutti Questioni E osservazioni Di carattere Tecnico Devo fare Riferimento A quella Che è La delibera Della giunta Regionale Numero 1193 Del 24 giugno 2011 Dove Al punto 7 Del deliberato L'ultimo Paragrafo Dice Testualmente Che l'indennità Giornaliera Di presenza Per l'effettiva Partecipazione Ad ogni seduta Delle Commissioni Consiliari Previste Dalla legge O dall'estituto Può essere Ridotta Con deliberazione Del consiglio Comunale O provinciale Ecco Questo Ma era già Stato fatto Un riferimento Prima E c'è Un parere Della Dell'ufficio Consulenza Della direzione Regionale Per le autonomie Locali Della regione Del 24 Aprile Del 2016 Dove Cito Solo Il passaggio Che Seppur Parlando Di altre Indennità Per altre Sempre Per i enti Locali Non parla Propriamente Delle commissioni Comunali Ma Testualmente Recita Rientra Invece Nella discrezionalità Dell'organo Consiliare Comunale Determinare L'effettivo Importo Da corrispondere Ai soggetti In riferimento Ribadendosi Tutta via Che lo stesso Non può essere Pari a zero In quanto Ciò Si concretizzerebbe In una Soppressione Dell'indennità Medesima Poi Aggiunge Aggiunge Un altro Tipo Di valutazione E che Anche questa Era stata Fatta Espressa Prima Quanto Alla possibilità Di fissare Le indennità Dovute Rispettivamente In euro Due O euro Uno Constatato Che la normativa Regionale Non fissa L'importo Minimo Ma solo Quello Massimo Dalla stessa Parrebbe Seguire La discrezionalità Del consiglio Comunale Nella determinazione Della effettiva Quantificazione Degli importi Dovuti Tuttavia Pare Contrastare Col principio Di ragionevolezza La determinazione Di un importo Di natura Meramente Simbolico Simbolica Ed irrisorio Tale Oltretutto Da Eguagliare Nella sostanza La determinazione Gratuita Dell'indennità Che come Assopra Già precisato È soluzione Non Percorribile Ecco Conclude Quindi Concludendo Ferma Rimanendo L'autonomia Del consiglio Comunale Nel rispetto Dei limiti Massimi Stabiliti Dalla legge Regionale 1 Del 2011 Di stabilire L'effettivo Importo Questo Riferimento Alla legge regionale Ad altri Istituti Di stabilire L'effettivo Importo Da corrispondere Ai componenti Del consiglio In questo caso Si trattava Dei consigli Circo Solizionali Per la partecipazione Alle sedute Dell'orgono Si ritiene Che lo stesso Deba Operare Delle scelte Ragionevoli Ed Adeguatamente Motivate In sede Deliberativa Credo di aver Evidenziato Tutte le criticità Di queste proposte Sono comunque A disposizione Per altri Per altri Bene Quindi consigliere Alla luce Di quanto È emerso Le chiedo Una valutazione Personale In merito A questo ordine Del giorno Perché non Sì Sì L'ha ascoltato Il segretario Generale Di questa Quest'attura Di questa Legge regionale Sì Tutto vero Ha ragione Sì È vero C'è una legge Che parla Che non si può mettere Un'annunità pari a zero Ma io credo Che in politica Tutto si può fare Qua se vogliamo Mettere di accordo Possiamo anche mettere Zero In qualche maniera Si può fare Non lo so Consigliere Non la sentiamo A questo punto Io lo lascio lì Partita Pronto? Consigliere Non la sentiamo Attenda un attimo Non la sentiamo Un attimo Ripeta Perché non l'abbiamo sentita Sì Sì Mi sentite? E niente La linea non c'è Mi sentite un attimo Devo risettare il sistema Probabilmente Non posso fare qualche motivo Adesso la sentiamo Adesso la sentiamo La sentiamo Consigliere Prosegua La sentiamo Adesso Prego Ci vedo Tutto bloccato Ogni tanto La linea Vi vedo bloccati Ma non Posso parlare Niente Non so come proseguire Però io Questo DG Lo vorrei Mantenerlo Lo vorrei Di tirarlo E quindi Decida da lei Come si può proseguire A me da lei Pronto? Pronto? Cioè Consigliere La luce di quanto è stato detto Penso che Portare a zero I gettori di presenza Non è possibile Quindi sì Non so Che senso Portare avanti L'ordine del giorno Ma poi Allora Lo modificheremo Lo porteremo A una cifra superiore 5 euro Non lo so Adesso mi consulto Con il mio collega E vediamo cosa Proporare È un ordine del giorno Non è un emendamento Non è un emendamento Non è un emendamento Non è un emendamento La delibera Consigliere Vabbè Allora Niente Mi bloccate qui Quindi non posso far niente Non so cosa dire Come posso proseguire? Non so Mi dica lei Non è che ci sono Non è che devo dirglielo io L'unica soluzione Potrebbe essere Ritirarlo Però doveva Un attimo Consultarsi prima Con gli uffici E chiedere Sarà 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 Allora Era corretto D'accordo Noi Se non si può andare avanti In altra maniera Proviamo a Rimandiamo Se riusciamo in tempo Mandiamo Altri ammendamenti No La presentazione Degli altri giorni Ammendamenti Era fine Vabbè D'accordo Non so Vabbè D'accordo Allora Non c'è una via Possibile Mi fermo qui Posso cosa fare Mi dispiace ma D'accordo Inutile Non ne viamo fuori Quindi Ci fermiamo qui E rimarrà negli altri Quest'odg Questa nostra proposta E pazienza Quindi ritira L'ordine del giorno E ritiriamo Se c'è altra vita Via da fare Ritiriamo Va bene Passiamo All'emendamento Del consigliere Degli Ammendamento Alla delibera Di iniziativa consigliare Del comune di Gorizia Ventre oggi Trovo Determinazione Di indenità Giornale Per questa partecipazione Nelle sedute Delle commissioni consigliare Mandato elettorale 2017-2020 Prego consigliere Gentile Allora Questo è un emendamento Assolutamente Improponibile Assolutamente provocatorio Assolutamente Così Messo Per Per vedere Cosa Certe persone Che propongono Le commissioni a zero Cosa impossibile In base alla legge Cosa avrebbero risposto Eventualmente Al discorso Di una Eventuale Resa Di tutti quanti I gettoni Percepiti Fino a questo momento Evidentemente Da come è emerso Dal ritiro Del ordine Del giorno Presentato Dal cinque stelle Mi pare Che abbiano capito Che quello Che loro Proponevano Era assolutamente Inutile Irrealizzabile Illegittimo Chi più ne ha Più ne mette Nel Poco senso Di presentare Emendamenti Di questo genere Non sapendo Che la legge Non lo permette Pertanto io Alla luce Anche del ritiro Ritiro dovuto Penso anche Dall'espressione Del parere Ritirerò Anche io Questo emendamento Perché a questo punto Non serve assolutamente La discussione Grazie Presidente Quindi emendamento Ritriato da parte Del consigliere Gentile Primo Natario Passiamo All'emendamento Eh C'è l'emendamento Quindi che sottoscritto Del consigliere Riccardo Stasi Dessere nella Ferrari Grazie Il senso di questo emendamento E' proprio per verificare Quando si parla Di donazione Di far Degli altri E visto Comunque La crisi economica Che ci ha attraversato Per un certo periodo E' aggravata Ancora più Alla Coronavirus Abbiamo ritenuto Opportuno Presentare questo emendamento Emendamento Che comunque E' una donazione Prevista Da parte Di ognuno Di ogni consigliere Che Eventualmente In qualsiasi momento Di riniego Può Tempestivamente Comunicare All'ufficio di ragioneria Che da quel momento Poi non intende più Fare Quello che E' prescritto Qua E Presentare Questo emendamento Il semplice Emendamento A pagina 2 Della delimita Dopo la dicitura Prevista dalla legge Dello statuto Aggiungere I consiglieri comunali Si impegnano Ad approvare Che il 75% Della quota Di loro competenza Per lo svolgimento Delle commissioni Comunali Sia devoluta A favore Di progetti sociali Oppure Che venga Accantonata In un fondo Per le persone In caso Di eventuale Piniego All'altra Di viralità Relativa A gestioni Di presenza Delle commissioni Comunali I consiglieri Dovranno Comunicarlo All'ufficio di Ratteria E tutto Buona Come prima Detto ciò Se è accoglibile Penso di sì Anche perché So che in altri comuni È stato recepito Quindi Lascio a voi Presidente La mia Discussione Grazie 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 consigliere Lascio la parola All'assessore Obizi Prego Assessore Sì grazie Buonasera a tutti E allora Io do una mia Visione Per tecnica Di questo Ordine del giorno Anzi Emendamento Poi magari Chiedo conforto Anche il segretario Comunale Sul punto Eventualmente Se c'è anche La dottoressa Zampa Io Tengo Per come Formulato Che in realtà Dia dei problemi Sotto il punto di vista Della messibilità Perché un conto È dire Ridurre Il gettone Di presenza Un importo Dentro i limiti In cui si può fare Cosa che appunto Quello che prevede poi La delibera Presentata Dal consigliere Rondo O altrimenti L'alternativa È che ciascun singolo Consigliere Decida Autonomamente Di rinunciare A una parte Di questa Identità E poi la devolve Come meglio Ritiene Poi può essere Fatta una cosa A livello Cumulativo Tra quei consiglieri Però fare Un emendamento Che impone Una rinuncia E quindi viene votata A maggioranza E chi anche non è D'accordo Se vedete Che prego di fatto A dover devolvere Una parte La propria identità Perché la maggioranza Si è così Secondo me Da un punto Il profilo di legalità Non è corretta Come forma La rinuncia Può essere fatta Ma deve essere Autonoma Volontaria E da parte Del simbolo Non può essere Imposta Secondo me In questo modo Qui Però ripeto La finalità Può essere raggiunta Nel senso che Tutti possono donare Come ritengono Si costituire Poi tra virgolette Un fondo E trovare una soluzione Non può essere Scusate Votata Dal consiglio comunale E tra virgolette Si è riposta Però Ricchiamo Conforto Anche Il segretario Comunale Su questo profilo Grazie Grazie Sessore Lascio la parola Il segretario Anche Su questa Proposta Di emendamento Io Devo Sottolineare Evidenziare Ancora Il disposto Della delibera 1193 Del 24 giugno 2011 Che avevo Già Letto prima Perché Perché Lo spazio Di manovra E di Determinazione È molto Limitato Cioè Lo ripeto La delibera Dice L'indenità Giornaliera Di presenza Per l'effettiva Partecipazione Ad ogni Seduta Delle commissioni Consiliari Previste Dalla legge O dallo statuto Può Essere Ridotta Con Deliberazione Del consiglio Comunale O provinciale Cioè Non c'è La Previsione Di Una Riduzione Sul Quantum Della riduzione Il consiglio Comunale Con i limiti Che abbiamo Visto Del Divieto Dell'azzeramento O del Quasi Azzeramento Considerato O valutato Con 1-2 euro Quindi il consiglio Il consiglio comunale Può solo Ridurre Questo Gettone Non può fare Altri tipi Di collegamento Ma questo L'assessore Ha illustrato Molto Bene Una Cosa È La Fissazione In riduzione Del Gettone Della Commissione Consiliare Altra Cosa È Quella Che È Poi La Gestione Di Questo Gestione Di Questo Che Può Essere Gestita Da Ogni Singolo Consiliere Come Ritiene Utile Come abbiamo Visto Anche Nel nostro I nostri Lavori Di Consiglio In questi Anni La cosiddetta Devoluzione Ma questo È Comunque Limitata Alla Volontà Dei Singoli E Alla Anche Alla Temporaneità Nel senso Che può Essere Fatta Nel momento In cui Il singolo Consigliere Dà In carico Dà Mandato A questa Barra Trattenuta Barra Devoluzione Ma Successivamente Può Anche Cambiare Idea O può Cambiare Minura Di questa Devoluzione E quindi È una Gestione Personale Di un Diritto Che viene Fissato Dalla Normativa Regionale In questo Caso Dalla Giunta Regionale Se non Interviene Questa Famosa Riduzione Quindi Facoltà Per il Consiglio Funale Di Ridurre Questa Indennità Ecco Credo Che anche Su questo Di aver Rappresentato Bene Quali sono I compiti Del Consiglio E quali sono I limiti Su questa Materia Sempre a disposizione Per chiarimento Grazie Grazie Bene Quindi Credo che anche In questo caso Lascio la parola Al Consigliere Stasi Io capisco Tutto Ma Come diceva Prima il segretario A Sessero Mizi È sempre Su base Volontaria Perché È vero Che non si sono Stati Dei limiti Ben precisi Ma quando Si dice Si rinuncia Al 75% La differenza È il limite Fissato Oltretutto È su base Volontaria Come detto Perché Se qualche Consigliere Il giorno dopo Cambia Perere Va all'ufficio Di l'altriorio E dice Io da oggi Poi Non rinuncio A mio gestione Di presenza Tutta questa Dinamica Di dire No È sempre Volontaria Perché una volta Approvato L'emendamento Che qualora Venga approvata La delibera Con l'emendamento Stesso Consigliere Che magari Cambia Tarere Comani All'ufficio Ragionale Dice D'oggi Poi Non intendo Il 75% Di Gettone Di presenza Dei Comissimi Grazie Bene Consigliere Quindi Le chiedo Di cosa In questa Visto che Avete ricevuto Un parere Da parte Dell'assessore Un parere Da parte Delle Segreterie O Lo definisco Inricevibile Questo Amendamento No Irricevibile Tecnicamente Forse perché Bisogna calcolare Quanto Devolve Ognuno Consigliere Ma al di là di questo Non penso che Ricevibile Poi Se voi Lo ritenete Ricevibile Anche perché Un parere Posso fare Riferimento In alcune Delebre Che sono stati Approvati In altri Comuni A Barzano In provincia Di Lecco A Parre In provincia Di Bergamo Che avevano Questo Segno Quindi Vedete voi Come volete Andare Consigliere Allora le ripeto Ha ricevuto un parere Da parte Dell'assessore Competente Ha ricevuto un parere Da parte Del segretario Mi sembra Valuti Ma mi sembra Assolutamente Inutile Poter andare avanti Poi valuti lei No Andate avanti Nel senso Passi al punto Seguente Se dite che Per noi Vi c'è Non lo sentite Io ripeto So Alcune delibere Fatti in altri Comuni Che hanno Stesso significato E lo stesso Terminologia usata Adesso Se voi Fanno Appureremo A posteriori C'è L'EVIT Non 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 l'EVIT Va bene Quindi ritira L'emendamento Non lo ritiro niente Io Approfondiremo Vorrei Prego Se voi ritenete Che non è accogliibile Benissimo Andate avanti Ma io non lo ritiro Andate avanti Con gli interventi Che siete Rappolativi Poi verificheremo L'EVIT E' un'accogliibile Se può essere Verso in discussione O meno Grazie Vorrei prendere la parola Presidente Ah Grazie Presidente Mi dà la parola Apriamo Se lei non vuole ritirarlo Dopo appunto Il parere Dell'assessore Bizzi E del segretario Sicuramente Non posso In fare nulla Quindi Se vuole Apriamo la discussione Consigliere Stasi Ha detto Che porta Che non ritira L'emendamento Quindi Io ho detto Che può passare All'altro punto All'ordine del giorno O Quattimila La seconda interventa Io ho detto Che l'ho ritirato La portata Verificherò Dopo Se Vincido Meno L'emendamento Consigliere Le procedure Sono sempre Se lei decide Di ritirare L'emendamento Non si va avanti Se lei decide Di ritirare L'emendamento Andiamo avanti Se lei decide Di ritirarlo Non si va avanti L'emendamento Sul giudizio espresso Dall'assessore E del segretario Ha detto Che non è accoglibile L'emendamento In quanto Così così Come Io ho specificato Secondo il mio Modestissimo Parere Che Per me Non ritengo Accogliabile Però Per non Ingarbugliare La situazione Ai lavori Del consiglio comunale Se voi lo ritenete Non accoglibile Benissimo Io non lo so Obbietare Andate avanti Con i lavori Questo sto dicendo Io Però io non lo ritiro Perché Vole rinubilificare A posta di ori Ancogli Questo sto dicendo Io Bene Allora Passiamo Alle secondi Interventi Secondi interventi Ci sono Secondi interventi Prego Consigliere Portelli Scusi Presidente Scusi Signor Presidente Prego Consigliere Portelli Prego Consigliere Portelli Sì Ho scritto Il nome Nella chat Delle prenotazioni Ma non so In che ordine Effettivamente No no Io ho chiesto Quali sono i secondi Chiesti Secondi interventi Se le vuole D'accordo Allora riprendo Il ragionamento Di prima Perché è stato Propizio Quello che ho ascoltato Negli ordini del giorno E negli ammendamenti Non si capisce Se ritirati Non ammessi Che hanno presentato I colleghi Come dicevo Nel primo intervento Ogni Azione Di rinuncia Tra virgolette Alla propria Indennità Di presenza O di funzione Come fa la giunta E il sindaco Deve essere Volontaria Quindi Sono D'accordo Con quello Che Dice L'assessore Obizi E il segretario E mi ricollego A questo Perché prima Nel primo intervento Vi citavo L'ultimo periodo Di una mia vita Precedentemente Amministrativa In provincia In cui Io volontariamente Rinunciai All'indennità Di assessore E come si fa? Sono attraverso Le mie carte Se volete vi leggo Si fa Si manda una lettera All'ufficio Paghe Oggetto Donazione spontanea Il sottoscritto Federico Portelli Assessore Protempore Fino Chiede Il totale Dell'indennità Di carica Al netto Del cedolino Perché non è che paghi Le tasse Su una roba Che dopo devi dare Al netto Del cedolino Venga mensilmente Trattenuto E A titolo Di donazione Spontanea Destinato A un capitolo In entrata Del bilancio Della provincia Quella volta là Individuato Dalla ragioneria E collegato Al capitolo Di spesa Che indicavo io Perché io Volevo la destinazione Capitolo 797 Barra 2 Finalizzato Progetti Di politiche Giovanili Della provincia Di Gorizia Così ho fatto E così si fa Quindi chi vuol farlo Lo può fare Va all'ufficio stipendi Va dalla Bano D'accordo Va dal segretario Si fa scrivere La cosa Se non sa scriverla E dice Io rinuncio Al gettone Perché mi sento Di non volerlo Ritirare Indifferente Perché Lo vuoi destinare A qualsiasi cosa Io quella volta Feci questa cosa Anche in polemica Come dicevo prima Con chi Diceva Che le province Non servivano E quindi Gli assessori Non servivano Quindi Andava chiuso tutto Bene Vuoi chiudere Bene Io rinuncio All'indennità Non percepisco Ovviamente Mi faccio il mazzo Lo stesso Ma tu dici Che non servo Che la provincia Non serve Va bene Lavoro gratis Tu Frangetta Poi però Cosa avevamo fatto Con queste Indennità A cui io rinunciavo Poi anche gli altri Diciamo Della giunta Hanno fatto Quasi Io Del tutto Gli altri quasi Ma comunque Non è questo il punto Io Ho finanziato Con questa Rinuncia Che io ho fatto Ho finanziato Delle start up Giovanili Cioè Persone Hanno Aperto La loro impresa Bellissimo Con i soldi A cui io ho rinunciato Il massimo Dell'orgasmo Se volete Della vena Diciamo così Di autoincensazione Che sta prendendo Anche questo consiglio Lo fai A livello volontario Ce lo fai Ma non lo dici Lo fai Non c'era un articolo Sul giornale Che ha scritto Ma io l'ho fatto Allora Chi vuol farlo Può farlo Va all'ufficio Paghi Rinuncia Al 75 50 100% Del proprio gettone Su base volontaria E lo fa Lo fa E non parla Lo fa Allora Quando vedremo Quello che lo fanno Io dirò La mano Bene Ha rinunciato Alla tua Indenità di funzione Al 100% Al netto Quindi non all'ordono Perché se no Paghi le tasse Tu Dopo Però lo fai È una scelta volontaria Quindi Io invito Tutti quelli Che fanno Gli interventi Di autoriduzione Per gli altri A farlo Quando vedrò Che hanno fatto Forse potrò Sedere E dargli la mano Anche a loro Io mi siedo A faccia Col sorriso E a fronte alta Con questi Che rinunciano Perché io l'ho fatto L'ho già fatto Quindi Non ho nessun problema Si fa Si può fare Si può fare Si chiama donazione Ok Non c'è un altro modo I 5 Stelle poi L'hanno fatto anche In qualche modo Ma Sì Non tutto Non tutto Io quella volta L'ho fatto al 100% Torno a dire Questo era un significato Anche politico Al tempo Gli avevo dato Un significato diverso Il consigliere Zotti Che adesso Vuol prendere la parola Lo dirà Noi Eravamo Molto più avanti Come provincia Come ente locale Voglio dire Purtroppo Ci hanno Chiudo qua Il secondo Grazie consigliere Prego consigliere Zotti Presidente Ma io mi ero Prenotata molto prima Anche di Portelli Protesto E' antidemocratico Quindi Presidente Devo cedere la parola Alla donna O posso intervenire Io ho detto Prego consigliere Zotti Quindi prego Grazie E' un gentiluomo Allora Intanto io Tieno Il giudizio Del segretario Perché Caro segretario Se un consigliere O addirittura due Presentano Un emendamento Dove Discutere Del problema Che stiamo proprio Parlando Non è che il presidente Può dire Bene Non si discute E basta Da quello che io ho capito Il consigliere Stasi Non ha ritirato L'emendamento Quindi dal mio punto di vista Caro segretario L'emendamento Per questo discorso Perché Se no Intanto Devo dire Che i Cinque Stelle Hanno presentato Una cosa Che non stava in piedi Quindi Gli uffici Dovevano dire Cari signori Non potete presentare Un documento Che lo sta in piedi Perché è fuori legge Poi ci lamentiamo Che perdiamo tempo E facciamo spendere I soldi Ai cittadini Quindi chiedo Il segretario Lunghi Sul discorso Se un consigliere Non ritira Il suo emendamento Come si può andare avanti Dal mio punto di vista Si deve parlare Di quegli emendamenti Non si deve discutere E poi dopo La fianchia Una votazione Il segretario Venga una risposta Bene Prego consigliere Ferrari Presidente Esigo una risposta Immediata Per piacere Prima di andare avanti La discussione Dobbiamo sapere Se è legittimo Che le interrompa Un emendamento Da parte di un consigliere Che ha detto Che lo vuole discutere Segretario Per piacere Venga fuori Mi dica Perché guadagna 100.000 euro Una domanda Che gli fatti Non mi risponde Nella prossima Prego consigliere Ferrari Mi si vede Mi si sente La vediamo E la sentiamo Prego Intanto voglio fare Le mie dimostranze Perché io mi ero Prenotata Molto prima Del consigliere Portelli Non sono stata Ascoltata Non mi è stata data La parola Non mi sembra Che questa modalità Del consiglio comunale Sia molto democratica Detto questo Voglio fare Alcuni Alcuni chiarimenti All'assessore Ovvio che sì Questa Non è una cosa Imposta Non è una cosa Imposta E al segretario comunale Voglio chiedere Ma la delibera Di Romoli Allora Dell'epoca Del 27 euro Vuol dire Che non sono valide Non sono valide Quindi La delibera Del comune di Parre Questa è la delibera Del comune di Parre La delibera Nel numero 21 Del 15 aprile 2016 Dove dice L'oggetto è Esame Valutazioni Approvazioni Proposte per eventuale Devoluzione Gettone di presenza Dei consigli comunali Siamo nel 2015 Al punto 2 Della delibera Di approvare La proposta Di versare Da parte dei consiglieri La propria quota Di competenza E poi Al punto 4 Che noi abbiamo preso Come spunto Di dare atto Che in caso Di mancata Adesione Al progetto Di qui sopra I consiglieri Dovranno tempestivamente Comunicarlo All'ufficio Ragioneria Allora I 104 euro Restano Nella disponibilità Del consigliere Che hanno La facoltà Di donare Stiamo dicendo Le stesse cose Che dice Cortelli Solo che lui Le dice in altro modo Si autoincensa Perché mi pare Che lui sia Ad autoincensarsi E non gli altri Ma Di donare La facoltà Di donare Però Con la creazione Di un fondo Di un fondo Che sia ad hoc Per aiutare Chi è in difficoltà Lo ripeto Perché l'importante È che si crei Questo fondo Per evitare Che questi risparmi Vadano persi I capitoli Di spesa Che sarebbero Secondari Rispetto all'aiuto Di chi è in difficoltà Perché se qualcuno Non ha capito Stiamo chiedendo Un atto Di responsabilità Individuale Poi Ognuno Sta di fronte Alla sua Conscienza Grazie Grazie Prego Consigliere Cosma Rinuncio Rinuncio Ci stiamo parlando Adosso Rinuncio Prego Consigliere Stasi Grazie Grazie Presidente Per Inizare Zotti Io È vero Che non ho Ritirato Le menta Medici Però Loro Hanno dichiarato Che non è Accogli Di Ho detto Ad avanti I lavori Verificherò A posteriore Per quanto Diceva Il consigliere Portelli Non dico Che sia Autincenza Perché Per carità Lo ritengo Una persona Molto Intervisente Per dire C'è anche Però Il senso Della cosa È uguale Solo che A condizioni Inverse C'è Il consigliere E dovesse Votare Sì Oggi E domani Vuole Non interessa Più Devolvere Il 65% In solidarietà O Per le persone Indigenti E quant'altro Ah All'ufficio Regioneria Io Da oggi In poi Non intendo Devolvere Il mio 65% E È tutto Detto In senso Diferito Per quanto riguarda Invece La discussione Del Delibero Delibera Consiliare Visto che Chiediamo Nel secondo Intervento Adesso E Lasciamo Per Il L'amendamento Io Ritengo Che Sulle Basi Di Questo Fatto Qua E Per quanto Successo In questo Momento Io La delibera Di Rondo La Voterò Contraria A meno Che Lui Non ha Otenito Sua Delibera Dicendo Che La differenza Andrà Comunque In Un fondo Di Solidarietà Destinato Per le Persone Bisognose E Per Quanto Altri Che Hanno Bisogno Di Sostititi Allora In tal Casi Favorevole Su Delibera Fatto I Miettiva Ridurre Il Gettore A 27 Euro Per Cosa Io Questo Non Ho Capito Gli Interventi Sono Stati Fatti Prima Da Episcopo Ciotta E Quant'altro C'è Sembra Che Adesso Deba Arrivare Uno A Dire A Te Spettatotto Perché Hai Prodotto Non Hai Prodotto E Sembra Che Il Lavoro Fatto In Commissione Sia Diversificato Rispetto A quello Fatto In Consiglio Comunale Forse Perché Il Consiglio Comunale C'è più Visibilità E' vero Che a volte Alcuni Interventi Sono Ripetitivi Fra Commissione E Consiglio Comunale Però Se la Legge Prevede Quello Non Vedo Il Perché Bisogna Andare A Toccare Qualcosa Nel gusto Di Far Qualcosa Si sa Su quali Fondi Quanto Perché Insomma Alla Fin File Quando Gli 80 78 Eure Di Differenza Finiscono Nel Calderone Benissimo Vogliamo Ridurre Benissimo La differenza Allora Vengono Impegnate In un Fondo Di Solidarietà Che Vanno Esplicemente Per le Prezioni Bisognose Questo Intendo Io E lo Dico Già Da ora Al Il Il Consigliere Rondo Si Autemenda La Sua Delibera Rappresentata In Assente Da Centro Quattro A B Dicene E La Differenza Che Venga Posta Con Fonditor In realtà E Lo Voto Favore O Non Partociperò Al Voto Grazie Ci sono Alti Secondi Interventi Io Volevo Fare Secondo Intervento Io Volevo Fare Secondo Intervento Io Solo Chiesto Al Segretario No Scusi Presidente Allora Proseguo Agli Ultimi Quattro Minuti Io Mi Prendo Cinque Minuti Presidente Lei Deve Solo Ringraziare Chi Deve Parlare Consigliere Lei Deve Capire Consigliere Zotti Vuole Prendere La Parola O Le Toggo La Parola Parli Secondo Intervento Prego Presidente Posso Avere La Parola Chiudo Dovete Basta Prenotarsi Prego Consigliere Zotti Prenda La Parola Non Mi Funziona La Chat Presidente Posso Parlare O Mi Interrompete Sempre Secondo Intervento Prego Bene Allora Presidente Vi Spiego Una Cosa Se Un Conciliere Chiede L'intervento Del Segretario Lei Non Può Calcolarlo Come Secondo Intervento Semplicemente Una Mia Richesta Di Intervenire Il Segretario Per Capire Come Vanno Avanti I Lavori Perché Più Di Uno Ha Stiamo Parlando Di E Questo Di Quell'altro E Un Po Di Confusione Allora Adesso Io Visto Che Non Ho Avuto Risposta Del Segretario Vado Avanti Con Il Secondo Intervento Che Durerà Cinque Minuti Perché Sennò Vengo In Comune Perché Ora Di Finirla La Legge Quando E Come Vuole Il Bello E Cattivo Tempo Lo Fa A Casa Sua Forse Sono Dei Regolamenti Da Rispettare Così Cosa Viene A In Comune Prego Mi Dica Cosa Viene A Mi Dica Cosa Viene A In Comune Mi Dica Cosa Viene A In Comune Vengo Parlare Con Il Segretario Grazie Si calmi Si calmi Io Sono Calmissimo La Democrazia Anche Questa Allora Tornando A Noi Cari Colleghi Allora Visto Che Comunco Ognuno Dite La Sua Ci Sono Stati Interventi Che Non Dovevano Essere Fatti Poi Si Fa La Polemica Che Qualcuno Vuole arrivare Oltre La Mezzanotte Benissimo A parte Che Non Verrà Pagato Forse Il Secondo Gettone Anche Lì Quindi Oltre La Mezzanotte Non Anderemo Pagati Io Mi Diterò Lo Stesso Andere Oltre La Mezzanotte Perché Fa Parte Del Inter Politico Allora E Se Gli Uffici Si Sono Resi Conto Che Questi Due Emendamenti Non Potevano Essere Nemmeno Discussi Non So Perché Li Abbiamo Portati Abbiamo Perso Più Di Un Ora E Cosa Quindi Forse L'altro Cuciglio Martedì Si poteva Chiudere Mezzanotte Senza Queste Problematiche Torno A ripetere Io Sono Favorevole Ai 27 Euro Non Ho Capito Se Per Legge E Chiedo Alla Dottoressa Zampa O Segretario Che Spero Che Mi Risponda Se Si Potrebbe Fare Una Formula Di Questo Tipo Il Senso Il Detone Di Presenza Resta 100 Euro A Carico Del Comune Viene Dato Solo Un Qua Scusate Solo 27 Euro Al Consigliere Comunale E Il Restante Va Messo In Un Montepremi Diciamo Che Poi A sua Volta Verrà Mandato Non Al Welfare Non A Chi Di Dovere Ma La Commissione Bilancio E Questo Cumulo Di Soldi Verranno Poi Stabiliti A Chi Li Dare E Quando E Come Ecco Se È Possibile Fare Una Formula Di Tipo Però Mi Sembra Che Non È Possibile Perché Il Gettone E Basta Poi Che Uno Dei Sui Soldi Fa Quello Che Vuole E Sempre Stato Quindi Io Se Voglio Dono Il Mio Gettone Alla Caritas Ai Cappuccini A Società Sportive Faccio Quello Che Voglio Quello Che È Un Po Ridicolo Che Se Uno Dona Il Gettone A Società Sportiva Mi Sembra Che Deve Pagare Anche Le tasse Sui soldi Giustamente Tu Hai Incazzato 5.000 Euro Anche Qua Chiedo Un'ennesima Domanda Al Segretario O Al Toressa Zampa Che Se Io Dono I Miei Gettone Delle Commissioni E Domani Facciamo La Commissione Sul Regolamento E Vengo Pagato 3.000 Euro Voglio Dargli Al Motocletto Alla Progorizia Non è Che Quei 3.000 Euro Poi La Fine Dovranno Pagare Le tasse Sul 1.730 Perché Ho Comunque Incazzato Quei Soldi E Sarà Sicuramente Così Perché In Italia Funziona Poi Tornando A Noi Io Non valgo Zero Io Quando Mi Impegno A Fare Sia Un Consiglio Comunale O Una Commissione Non Studio Bene Le carte Quindi Cari 5 Stelle Il Lavoro Di Un Consigliere Comunale Non vale Zero Però Non Può Neanche Valere 100 Euro In Un'ora Perché Mi Sembra Una Trufa Nei Confronti Gli Operai Che Lavorano In Fabbrica Per Guadagnarne 40 O 50 Magari In Parvi Un Esempio A Milano Siccome Milano Una Città Grande I Consiglieri Comunali Un Giorno Sì Un Giorno Anche Fanno O Commissione O Consiglio Comunale Alla Fine Si portano A casa 3000 Euro Al Mese E Un Bell Stipendio Gorizia Non ha Queste Esigenze Però Ritengo Che Con 27 Euro Io Sì Lo So Potrei Recuperare Almeno Quel Minuto Ho Avuto Di Disturbo Dei Mie Colleghi Anche Da Lei Grazie Presidente Anche Perché Qualcuno Ha Sforato Di Quasi Due Minuti E L'ha Lasciato Parlare Ecco Vado A Concludere Quindi Allora Morale Della Faura Non Ci Fa Politica Così Caro Presidente Democrazia Insegna Alle Persone Civili Di Poter Esprimere Le Proprie Di Ma Non Posso Concludere Se Morale Della Favola Volevo Concludere Dicendo Che Se Metti Caso Le Commissioni Verranno Pagate 27 Euro Io Mi Sentirò Leggero Di Convocarle Non Avrò Paura Di Convocarle Va bene Questo Non è Il Sistema Di Operare E Creimo Che Sia Vergognoso Questo Che Parliamo Di Soldi Del Cittadino E Chiedo Al Segretario Che Intervenga Per Spiegarmi Come Si Si Comune Bene Allora Adesso Sospendiamo La seduta Perché Sono Passate Due Ore Dopo Riprenderemo Quei Secondi Interventi Dal Consigliere Tomani Che Non È Riuscito A Prenotarsi Sulla Chat Ma Si È Prenotato Prima Attraverso Microfono E Poi Il Consigliere Aroldo Quindi Successivamente Alla Sospensione Riprendiamo Alle Ore 20 E Riprendiamo Del Secondo Intervento Per Consigliere Tomani Chi è Scusi Gaggioli Prego Ci sono Anch'io Volevo Farle Presente Non ho Visto Dove Siete Notati Mi Scusi L'ultima Dopo Ho Visto Adesso Mi Scusi Allora Quindi Dopo C'è Domani Domani Roldo Gaggioli Che Algo Si Iscriverà Quindi C'è Rotti Anche C'è Rossi No Rossi Rossi Non vedo Che si è Prenotato C'è Prenotato A più tardi Vorrei solo un chiarimento Dal presidente Ma non vedo Rossi Si è Prenotato Se si è Prenotato Lo scrivo Se no si Prenota Dopo Non penso Che Cambi Granché Ma Se Vogliono Fai Presidenti Li Invito Qua Io Mi Dimentico Bene Spegnete Eutram E Microfoni Prego Ora si Registrerà La conferenza Bene Allora facciamo l'appello Lascio la parola al segretario Bene Bene Procedo con l'appello Ziberna Ziberna Non rispondo Alpinier Alpinier Presente Vandel 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 Non risponde Braulino Non risponde Non risponde Cagliari Presente Ciotta Presente Collini Collini Rispondo Cosma Presente Del Sordi Presente Fasiolo 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 Non rispondo Feri Feri non risponde Ferrari presenta Gabriel Cic Gabriel Cic Gabriel Cic la vendiamo ma non la sentiamo Gabriel Cic non risponde Gazzoli presente Gentile presente presente Assek presente Orsic Lisotna presente Macchitella presente Maraz presente presente Mollica presente Ubizi presente Oretti Oretti presente presente non so eccomi presente Peterin Sotter sì presente Piccariello Piccariello Picco presente Piscopo Presente Presente Portelli presente Rundo presente Romano Romano presente presente Rosse presente Rosse presente Sartori 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 Stasi 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 Non rispondo Tomani presente Tomasella Tomasella Presente Taraini Presente Tucci Presente Presente Turco Presente Turri Presente Zanella Presente Zorzenon Zorzenon Non risponde Zotti 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 Non risponde Faccio la seconda chiamata Ziberna Presente Bandel Bundel Bundel Assente Braulini Non la sentiamo Braulini Presente Presente Mi ha sentito? Sì Fasiono Presente Feri Gabrielcic 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 non la sentiamo Mi faccia un senso Assenso Grazie Piccariello 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 Assente Stasi Stasi Presente Presente Zorzenon Presente Zotti Presente Presente Presidente No scusi Segretario Assessori Non consiglieri Bellan Presente Mi vede? Mi vede? Ecco Mi vede? Sì Perfetto Pernovich Presente Ceretta 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 Sì Non la vediamo Ceretta Lo so Riesce ad attivare il video? Sì Un attimo Intanto chiamo Gatta Presente Ceretta Ceretta Eh Sono presente Non la vediamo Eh Lo so Ecco Ecco Eccomi Sì Buonasera Sì Sì Eh 39 Assenti Assenti 2 Eh Il carino Bene Abbiamo il numero legale Quindi possiamo riprendere la seduta dopo la sospensione Secondo interventi Quindi abbiamo Tomani Non è riuscito però a prenotarsi tramite la chat Eh Eroldo E Gaggioli E poi Piscopo Prego Tomani Mi sente? A posto? Sì Sì La sentiamo La sentiamo e la vediamo Prego Grazie Buonasera a tutti Ma questa sera sono un po' costernato Devo dire la verità Perché mi sembra di aver assistito al consiglio dei frati Capucini per come si distribuisce la carità in città Io non capisco come si possa cercare il consenso in una cosa di questo genere Per me è un principio basilare è che la carità è una cosa personale Nessuno me la deve imporre né a me e a nessun altro E poi sono nella piena coscienza di quello che faccio e posso fare la carità 20 volte di più di quello che voi discutete questa sera Poi Nell'insieme della discussione sembra che le commissioni non servano a niente che non abbiano importanza Per cui anche i soldi che si guadagnano diamoli là li possiamo consegnare Ma non è così Io in tre anni ho fatto solo tre commissioni Per l'ordine del giorno della prima ho lavorato due anni Per quelle altre due commissioni sono tutta la santa settimana che giro Perché quando ho preso e ringrazio i colleghi ancora per la fiducia che mi ha dato la presidenza della commissione delle diventate produttive C'era scritto cerca dei fondi e proposte da fare alla giunta Ma se uno si mette a fare questo lavoro non sono quell'ora che sembra l'ora del tè per qualcuno Perché sembra che si vada lì in commissione per l'ora del tè e poi uno viene fuori e incassa 84 euro che sono quelli netti Ma non è così Io lavoro tutta la santa settimana fra Camera di Commercio, Comune, Fondazione A rompere le scatole a tutti perché per me fare quel lavoro lì è un'altra cosa la commissione Io poi come principio io direi che ai consiglieri della commissione darei duemila euro a seduta Se sono capace di farli rendere Perché l'altro principio basilare è questo Se ho un dipendente che ha per dovere Mille euro di stipendio però è bravissimo lo pago veramente duemila Questo non vuol dire che io sono meglio degli altri ma dico che il principio è questo Se la commissione riesce a fare qualche cosa di buono per l'economia per la città quello è il consenso che dobbiamo andare a cercare Non perché quattro soldi di carità che adesso uno che li dia chi vuole in proprio È una cosa personale è assurdo quello in cui discutiamo oggi è veramente una cosa assurda Ecco questi sono i principi grazie presidente Sono chiuso Grazie consigliere Prego consigliere Aroldo Eccomi Allora prima di iniziare l'impervento vorrei fare una risposta o da te presidente oppure dal segretario Perché qui si è lasciato depositato un emendamento che io vorrei capire va votato non va votato Questo dobbiamo sapere qua siamo al secondo intervento è un emendamento depositato al tavolo ma non riusciamo a capire che fine farà quell'emendamento Vogliamo una risposta per capire come andare avanti al secondo consiglio perché non è così O va tolto perché non ha i pareri di legittimità o se lo discute Se no il tavolo della segreteria del presidente bisogna dichiare che lo ritira è inammissibile questo Chiedo una risposta Bene la proseguiamo intanto con Gaggioli Sì eccomi ma mi ha preceduto il consigliere Aroldo perché per quanto riguarda l'emendamento presentato Io ho sentito il parere dell'assessore Vizi per l'amor di Dio però chi gestisce dal punto di vista juridico questa seduta Oltre a lei presidente è il segretario che ci deve fornire un parere sul fatto dell'emendamento presentato Da consigliere stati e dalla consigliera Ferrari e ci deve dire se non è ammissibile o meno perché a questo punto O questo è il secondo intervento o dobbiamo discutere l'emendamento Detto questo io credo che concordo con il consigliere Tomani che dice che gli sembra di essere un convento Non ho ben capito perché si sta mangiando per piacere io non riesco Consigliere Tomani può spegnere il microfono gentilmente Scusi Presidente E anche no, anche la Eurkan magari faccia lei però almeno il microfono grazie Detto questo concordo con il consigliere Tomani che ha detto che gli sembra di essere un convento Non capisce ma ha fatto tutta la maggioranza e chi non Fino adesso avete parlato ha parlato solo la maggioranza e dirò di più ha parlato Io mi sono segnato i nomi di chi ha parlato e sono tutti non i maestini della penna rossa come qualcuno dice che ci sono i consigli umanari Ma i soloni della politica godiziana perché rimanevo basito nel sentire i vari consiglieri che hanno parlato Io ero nella consigliatura Valenti Io ero qua, c'è gente che ha detto che da 50 anni che fa politica E avete fatto tutto voi, avete discututo tutto voi Senza tenere in considerazione come ad esempio è successo già nell'altro consiglio Dove secondo me era allucinante sentire discutere le ideose dove c'era una proposta della maggioranza ragionevole e seria Hanno discusso, si è discusso per due ore e mezza per poi arrivare alla conclusione che tutti hanno votato favorevolmente Avete anche lì fatto tutto voi Noi siamo intervenuti pochissime volte e se non per esprimere un parere favorevole perché noi siamo sempre pronti a sostenere le proposte ragionevoli e le proposte Quindi quella dei De Orso era una proposta ragionevole di ampliare il De Orso che aveva fatto l'aggiunta e quindi abbiamo votato a favore In questo caso qua credo che tutto sommato ci sia semplicemente una richiesta del consigliere Roldo che non va calcolata come carità, come non so cosa, ognuno vuole fare quello che vuole Ma un esempio da dare alla cittadinanza per quanto riguarda la situazione che si sta vivendo è probabilmente Io sono sempre pessimista, voi siete ottimisti e va bene così La situazione di Davia è che sta vivendo la città a seguito del coronavirus E solo questo io credo che abbia spinto il consigliere Per l'amore di Dio non voglio prendermi le ragioni che ha spinto il De Orso Ma quelle che sono queste, come quello di fare De Orso, di appiare De Orso La stessa identica, cosa dire, una mano, questa città E dimostriamo che la politica, invece che stare lì a 40 anni a discutere sul nulla Come si discusse su De Orso, perché era una cosa positiva E quindi l'opposizione tutta l'ha votata Mi pare che abbia fatto 37 e 37 voti Credo che la stessa cosa sia qua Però, fondamentale, a questo punto, Presidente, la pregherei di dare una risposta E non sono, non è il secondo che gli chiede Che intervenga il segretario a dirci Perché io, non mi faccio dire come quello che fa l'Av. Bixi Possiamo avere le nostre idee Ma chi gestisce da un punto di vista giuridico E ci deve dare un'indicazione in questo senso E sicuramente il segretario comunale Che ci deve spiegare se Quell'emendamento è ammissibile o non è ammissibile Questa è la cosa fondamentale per poter proseguire nella discussione Se no, io credo che abbia poco senso Grazie, bene, dà la parola al segretario Allora, credevo di essere, di aver illustrato bene nel contesto Quelli che sono i rilievi Ma faccio ancora un passo indietro La proposta di deliberazione, così come era stata presentata Che era conforme a quello che erano gli spazi di intervento del Consiglio Comunale Con le disposizioni che vi ho letto prima Aveva avuto giustamente il parere favorevole sulla proposta Sia dal punto di vista tecnico Sia dal punto di vista combinato Sugli emendamenti E abbiamo cercato di spiegarlo Come meglio abbiamo potuto Ma probabilmente siamo stati abbastanza chiari Il fatto di non solo di abbinare altre valutazioni Altre considerazioni Altre disposizioni in delibera Che non possono essere abbinate ad una riduzione Fanno sì che A parere del segretario Ma con i motivi che vi ho detto Cioè, per ribadire Che il fatto che il Consiglio dica qualcosa Che entra nella gestione dei diritti soggettivi Del singolo consigliere comunale Che può o non può aderire Può o meno aderire a questa proposta Può aderire dalla prima ora O può successivamente ritirarsi Comunque fare una disciplina O dettare una disciplina vincolante per i consiglieri Non è nelle capacità Nelle facoltà, meglio Di gestione del Consiglio comunale Gli spazi Lo ridico ancora una volta La norma dice Solo che può essere ridotta Con deliberazione del Consiglio comunale Senza altre considerazioni Ecco Quindi Per questo Alla luce di questi Degli interventi Che anche Mi hanno preceduto Questo A mio parere Non è ricevibile Questo Questo emendamento Ecco Credo di essere stato chiaro Dopodiché Altri consiglieri Hanno fatto Manifestazioni di volontà Di gestione Del proprio gettone Vediamo Vediamo se queste Manifestazioni di volontà Si tradurranno In atti concreti Singoli E per la durata Che riterranno opportuno Di fare Come è stato fatto Non è una cosa nuova È una cosa che è già stata fatta in passato Io credo adesso di Non so veramente Cosa dire Di più E di ancora Comunque sono a disposizione Grazie Bene Ringrazio il segretario Per il chiarimento Ulteriore chiarimento Lascio la parola Il consigliere Piscopo Prego Consigliere Piscopo Allora Mentre aspettiamo il consigliere Piscopo Passiamo al consigliere Rossi Prego Grazie presidente Buonasera Gentili colleghi Consiglieri Io credo che Ci si renda Tutti quanti Conto Di un certo grado Di surrealtà Di questa discussione Perché per discutere Di una delibera Che determina Una Reduzione Dei costi Facciamo una seduta Praticamente Ad hoc Lo dico per inciso Che ha dei costi Di oltre 4.000 euro Lo dico per inciso Perché Credo che questa Delibera Potesse essere stata Discussa E votata In pochi minuti In un voto Di prassi Per una prassi Consolidata Del consiglio comunale di Gorizia Già la volta scorsa In pochi minuti E il nostro gruppo Gruppo che era presente Infatti Aveva votato Contro Il rinvio Invece discutiamo Per diverse ore Io non sono intervenuto Nel primo intervento Proprio per Durare i tempi Di discussione Ma vorrei Dire due cose Adesso Quasi in chiusura Della seduta E cioè La prima è che Sgombriamo il campo Spero In questa discussione E tanto più Si dovesse Essere approvata La delibera Che riduce Gli importi Legittoni Riconosciuti Per le commissioni Dal fatto che Non si svolgano Sedute delle commissioni Magari accampando Motivazioni di carattere Economico Di fatto Sentire Vantarsi Del fatto che Si sono svolte Anche soltanto Una commissione In tre anni Come ho sentito Purtroppo Nel corso Della discussione Di stasera Da parte di qualche Coordinatore Non è certamente Un fatto che va A merito Né di quei Coordinatori Né purtroppo Del buon funzionamento Di questo Consiglio Tribunale E lo dico Dai banchi Come si dice Dell'opposizione Di fatto Si rivela La compressione Del diritto Che i consiglieri Soprattutto di opposizione Escriversi Quindi Non è certamente Positivo E allora Benvenga La riduzione Del gettone Se questo Sgambrerà Il campo Dall'idea Che non si possono Fare commissioni Perché costano Troppo Che costano Il meno Possibile E il nostro Consiglio Comunale Aveva una prassi Consolidata In questo senso Così si potranno Svolgere in tutti i casi In cui è opportuno Che il Consiglio Comunale Che lo chiede Di fatto Di fatto Riduce Realmente Gli importi In realtà Il problema È che due anni fa Non è stato possibile Confermare Di fatto Quello Che era La prassi Consolidata Faccio Per esempio Presente Che nella Consigliatura Percedente La riduzione A 27 Dei gittoni Delle commissioni Era stata Discussa Il 16 Luglio 2012 Cioè Nella seconda Seduta Di quel mandato Vale a dire Nella seduta In cui veniva eletto Il Presidente Del Consiglio Comunale Quindi subito Dopo L'insediamento Del Consiglio In questo caso Si è persa La prima L'occasione Nel 2017 Non si sa perché Forse perché Qualcuno Si è dimenticato Di questo passaggio E in seconda Battuta Quando Ce ne siamo Qualcuno Se ne è ricordato Ed è stato Portato Attenzione Il Consiglio E io ricordo Una meraviglia Di qualche collega Faceva parte Anche Della precedente Consigliatura Che dava In realtà Che scontato Che forse Già Di 27 euro Gittone Per le commissioni E in quell'occasione Quando ce lo siamo Trovati Nell'ordine del giorno Ci si è resi conto Che invece Ha saltato Imperminabilmente Il passaggio Nel 2018 Questa delibera Non era stata Adottata Con l'emendamento Proposto Già all'epoca Se ricordo bene In forma orale Per la sua Semplicità La collega Roto Per portare A 27 euro Non era stata Approvata Perché la giunta La stanza Di divisione Nella maggioranza Che vedo Per durare Anche stasera Aveva Ritirata In particolare L'assessore Orbiti Proponente All'elanta Questo è il quadro L'atteggiamento Del gruppo Che rappresenta E quello Di molti colleghi Della minoranza Non è cambiato Ci andava bene Portare Già due anni fa Con tanto più risparmio Per le casse comunali Quelle Reduzioni Il gettone E tanto più Ci andava bene Oggi Senza bisogno Di fare Tutte Le lunghe discussioni Tre ore E un quarto Che abbiamo Sestito oggi Come le cinque ore A cui abbiamo Sestito Due anni fa Grazie Grazie consigliere Prego Consigliere Pisco Sì grazie Presidente Mi scuso Un problema Tecnico Niente Io Veramente Sta discussione Sta diventando Surreale Siamo qui Ormai Da tre ore E mezza A parlare Di questa Delibera E mi sembra La fiera Del populismo Chi vuole 27 euro Chi vuole Un euro Chi vuole Zero Qualcuno Dice Restituiamo Tutto Sì Come ha detto Qualcuno Siamo ormai Ai livelli Della caritas Qui Quindi Io Veramente Penso Che questo Consiglio Comunale Sia perdendo Proprio La dignità Stasera Io Onestamente Sono uno Di quelli Che Posso essere Concorde Sul fatto Che si possa Trovare un punto Di incontro Ma Che sia Un punto Di incontro Equilibrato Per il lavoro Che da molti Consiglieri È stato Già Sottolineato Sul fatto Che comunque Le delibere Devono essere Studiate Dobbiamo Comunque Cercare Sempre Di fare Il bene Di questa Città In ogni Modo Quindi I consiglieri Spendono Tempo Anche Al di fuori Delle commissioni E non solo Il lavoro Del consigliere Non è solamente Quello del consiglio Delle commissioni Ma è quello Di ascoltare Le persone Spesso Capire le problematiche E portare Quelle problematiche Che ci sono Sia nelle commissioni Sia nel consiglio Comunale Io credo Che i cittadini Gli interessi Ben poco Come ha detto qualcuno Di questo fatto Se il gettone Sia 27 euro Se sia 52 euro Io penso Che la gente In questo momento Vuole Effettivamente Che tutti quanti Lavoriamo Per fare il bene Di questa città E onestamente Arrivare A una discussione Credo Che si Prodata Per ancora Del tempo E mi auguro Che non si vada Oltre alla mezzanotte Perché sarebbe Veramente Oltre in danno La beffa Perché vuol dire Che per una cosa Del genere Abbiamo discusso Su due giornate E mi sembrerebbe Veramente Proprio Scusatemi A dare uno schiaffo Alla miseria Va bene Quindi io credo Che nei confronti Della città Cerchiamo di riacquistare Tutti quanti Un pochettino Quell'equilibrio Quel buonsenso Che abbiamo tutti E quindi cercare Un attimino Tutti quanti Insieme E credo Che questo Non sia La panacea Di tutti i mari Questo fatto Che il gettone Possa essere 50 euro Piuttosto Che 27 euro Quindi Io dico una cosa E non farò nemmeno La dichiarazione di voto La faccio adesso In questo Secondo intervento Io posso essere Anche d'accordo Al fatto che Diciamo Svenga tagliato Il 75% Del gettone O L'indennità Di presenza Come si vuole dire No? Su questa delibera Presentata Dal consigliere E Però A questo punto qua Se E non ho problemi Altrimenti Darò il mio voto Negativo E lo dico Già adesso Io voterò Sicuramente A fatto che Il proponente Faccia una donazione Al comune Del 75% Di quello che lui Ha incassato Quando era presidente Del consiglio Visto che ha detto Che lui Non aveva bisogno Di quei soldi Perché ha un'attività Ben ampliata E un imprenditore Di un certo livello Va bene E si vede anche Dalla dichiarazione Dei redditi Che sono pubbliche Perché per tutti I consiglieri Di carciere Sono pubbliche A questo punto Se lui Fa una donazione Del comune Del 75% Quello che a lui Ha preso Quando era Presidente Del consiglio Io voterò Favorevolmente A questa Del consigliere Altrimenti Voterò Negare Grazie Presidente Grazie Prego Consigliera Tucci Arrivo Buonasera Buonasera a tutti Ho ascoltato Con Con veramente Molto interesse Questa lunga Maratona Che ha visto Protagonisti Per lo più Esponenti Della maggioranza Che se le sono Cantate Se le sono Suonate Dando vita Ad uno Spettacolo In cui Mi ha fatto Piacere Anche Il continuo Riferimento Alle berrine Di Cicerone A Orazio Persino Al grande Pericle Con la sua Remunerazione Delle cariche pubbliche Ma eravamo Veramente In un altro Contesto Perché Chi si occupava Della gestione Della gestione Repubblica Lo faceva A titolo Gratuito Peraltro E non si sentiva Sminuito Per questo Tant'è che La storia Lo ha confermato Però Pericle voleva Che i cittadini Partecipassero In prima persona Alla conduzione Della vita politica E per questa ragione Aveva introdotto Appunto Il gettone Di presenza Con il quale Praticamente Ogni cittadino Poteva Assentarsi Dalla sua Dalla propria giornata Lavorativa E partecipare All'assemblea Era una sorta di Consiglio comunale Antelitteram Ma a parte Questo L'excursus Che mi ha fatto Molto piacere Veniamo Anche Alla Alla nostra Storia Bene Il consigliere Marco Rossi Ha ricordato Come si sono Svolte Le fasi Del consiglio comunale Del 15 maggio 2018 E come L'atteggiamento Della maggioranza Sia sempre Stato lo stesso Qua A mio avviso I cittadini Non Non si scandalizzeranno Di una Paventata Improvvisa E così Vocazione Caritatevole Ma al contrario Si scandalizzeranno Per Per quello Che emerge Cioè Sembra che ci sia Un attaccamento Al gettone Motivato Dal fatto Che il consigliere Che lavora Nella commissione Vale Vale Se è pagato Tanto Io svolgo Una professione Che come ben sapete Non è Ben pagata Ma non per questo Io mi sento Sminuita nel mio ruolo E nelle mie funzioni Perché ci sono Delle Delle Professioni E dei ruoli Come Quello politico Che dovrebbero Proprio Prescindere Dal Dal fatto Meramente Economico Ma parliamo Non parliamo In grande Parliamo del consiglio Comunale Parliamo delle commissioni Perché in questi anni Si sono profilate Commissioni di serie A Che si sono riunite Costantemente E che sono state Pagate Costantemente E commissioni di serie B Per le quali Con altrettanta profusione Di impegno Di energia Però Non è stato Appunto Considerato Nessun impegno Di spesa E E su questo Non c'è mai stata chiarezza Si è parlato di commissioni Propedeutiche Al consiglio comunale Sono tutte propedeutiche Al consiglio comunale Le commissioni Per cui stasera C'è questo Accorato interesse Per il gettone Di presenza Fa passare In subordine Qualcosa che è Ben più importante Le commissioni Le commissioni Vanno Vanno Convocate Costantemente Non solo In previsione Di un consiglio comunale Le commissioni Consiliari Non devono essere Convocate Soltanto nel momento In cui gli assessori Presentano le delibere Già pronte Magari Due giorni prima O tre giorni prima Del consiglio comunale Le commissioni Consiliari Dovrebbero avere Anche Un altro scopo Quello anche Di accogliere Le proposte Dei consiglieri E prima Qualcuno Ha accusato Il consigliere Eroldo Di non aver condiviso Con la maggioranza Questo suo intento Che tale e quale Ha quello Che si trova Verbalizzato Nel verbale Del 15 maggio 2018 Chiaramente Solo con la maggioranza Avrebbe dovuto Condividerlo Ma non è cambiato Di una virgola Rispetto A due anni fa L'unica cosa Che è cambiata E la nuova Situazione Che stiamo vivendo Ce ne siamo Già dimenticati Della crisi Del coronavirus Dei maxi Emendamenti Che abbiamo Votato Nel Nel consiglio Di giugno Relativo al bilancio Qua non si parla Di carità Perché non ce lo deve Insegnare Nessun consigliere Che la carità È privata La carità È anonima Qua non si sta Parlando Di carità Si sta parlando Di dare Un contributo Un contributo Che può venire Anche dalla riduzione Del gettone Delle commissioni Oltretutto Da nessuno Dei consiglieri Di maggioranza Che sono intervenuti In questo pomeriggio È venuta la proposta Di trovare Una via di mezzo Allora Perché se vogliamo Concludere Con un'altra citazione Classica In medio Stat Virtus Grazie Prego Consigliere Geroldo Prego Ecco Eh scusate Ecco No Allora ho capito Che l'emendamento Per quanto riguarda L'emendamento Di stadi Della consigliera Ferrari Non viene votato Non verrà discusso Giusto È stato ritirato Dalla presidenza Giusto Perché è illegittimo Confermi Da come ha detto Il segretario Mi basta un sì Eh Vabbè Vado avanti Non ho confermi Mi sentite Prego Consigliere Mi senti No Perché voglio Che risposta Su questo È riferibile Va bene Non lo so Va bene Per quanto riguarda Quello Sulla delibera Io parlo Sulla delibera Ho detto Che Questa Questa riduzione L'avevo già Chiesta Due anni fa L'ho richiesta Dopo quel dibattito Non cambio idea Però Non vorrei Mai Perché ho capito Il giochino Che sta facendo I miei colleghi Certi i miei colleghi Stanno facendo Il giochino Non ha accettato Di auto Emendarsi La delibera Perché Così Diremmo E usciremo Sulla stampa Roldo Non ha voluto Emendare La delibera A 52 E colpa Sua La bocciamo La proposta Così Restiamo a 104 Ma non sarà così Come ha detto Il consigliere Stasi Non è che io Ho qualche amico O qualcuno Al giornale Lancio Le mie dichiarazioni Se vengono prese bene Se non vengono prese Pazienza Ascolterà La gente Con la quale Mi incontro Io ho proposto Questa cosa Dei 27 euro Perché Ritengo Che Se era qualcun altro Magari Se era ancora Romoli A gestire La giunta I 27 euro Erano fatti E bel subito Se era Lui A gestire Questo è il problema Perché Romoli Ci teneva Anche A fare in modo Di risparmiare I soldi pubblici Ok Che ne dica pure Il collega Che io ho percepito Questo Quest'altro Sono disposto A ritornare Quei soldi Che dice lui Se lui Mi mette vicino Il 44% Che ho pagato io In tasse Intanto Subito Intanto quella Senza le altre Sfede Che gli metterei vicino Perciò Non mi faccio Bindolare Da Da nessuno Questa è la mia proposta Che pensi solamente Che circa Cinquantotto Sessanta commissioni Con un risparmio A testa Di circa Settanta euro Moltiplichi Per i componenti Quante spese Famiglia Saltano fuori Per la gente Che ogni giorno All'ufficio del comune A chiedere sostegno A chiedere sostegni Io Per dire Se quella volta Non era ancora Quel grande bisogno Ma ero propenso A fare quel taglio Quel taglio Del gettone Non penso Di rimangiarmi ora Visto che ho fatto Questa proposta Sollecitato Dal consiglio comunale Nel dettaglio Ad ogni buon caso Se il segretario Dice Se il segretario Dà l'ok Che io Al termine Della mia Delibera Possa Inserire La frase Che diceva Stasi Che la rimanenza Diciamo Dai cento e quattro Dai ventisette Ai cento e quattro Al cento e quattro Che sarebbero Settantasette euro Questi tantasette euro Andassero a favore Posso mettere A favore Di progetti sociali Oppure che venga Accantonato in un fondo Per le persone In difficoltà Io l'accetto Di inserirlo Perché Quello è uno scopo Ma so anche Che il bilancio Viene strutturato In un modo Che questo Va Nel Nel bilancio comunale Poi vengono divise Le poste Nel welfare E così via Però Se è fattibile Se è fattibile Ma credo di no Dare Anche questa Possibilità Di inserire Al termine Di Della riga Dove che Scrivo Fissando al termine Di ventisette euro Di dignità Giornaliera Di presente Da parte dei consiglieri comunali Per l'effettiva Particizzazione Alle sedute Delle commissioni Consigliarie Previste Blabla E mettere Che La rimanenza Del gettone Sia devoluta A favore Di progetti Sociali Oppure Che venga Accantonata In un fondo Per le persone In difficoltà Vorrei una risposta Dal segretario Perché lì Basterebbe aggiungere Quella frase All'ultimo Ok Grazie Prego consigliere Picco Buonasera a tutti Non avevo mai assistito A una riunione Di maggioranza Ma In effetti Mi dispiace Non aver Potuto assistere Prima A questi Spettacoli Così Molto Interessanti Qualcosa abbiamo capito Comunque Allora Allora Si è capito Intanto Come diceva il segretario Che la legge Non distingue Tra commissioni Gettonabili E no Parla di commissioni Quindi Questa Panzanata Che vi siete inventati Per pagare Una commissione Su tre Perché siccome I soldi Erano troppi E non avevate previsto Questa cosa Avete deciso Di pagare solo quelle Che a vostro giudizio Sono gettonabili Si è rivelata Chiaramente Quello che era Cioè Una cretinata Pazzesca E l'avete confermato Stasera Poi Abbiamo capito Un'altra cosa Che Non si sono riunite Le commissioni Perché alcune Non erano Gettonabili E quindi Sostanzialmente Sono state accantonate Per fare Per non Spendere soldi Questa È un'altra cosa Che si è capita Stasera Si è capito Che in due anni Non siete riusciti A mettervi d'accordo Su una cifra Che per noi Era Già due anni fa Come diceva Rossi Acclarata 27 euro E si è capito Soprattutto un'altra cosa Che però forse Non è chiara a tutti Che in realtà Questa riduzione Non è una riduzione Del gettone Attenzione Perché non è che Quei soldi Spariscono magicamente Ma Come adesso Diceva Roldo Si potrebbe Metterli in un fondo Quindi Di fatto è La stessa quota 104 euro Ma Arriva meno in tasca Al consigliere E questo è il passaggio Che non si racconta Cioè Arriva in tasca In meno Al consigliere E in più Ai cittadini Perché Il momento Particolare Della Della vita Quotidiana Di molti cittadini Coriziani In questo momento È molto difficile Ora Dire di no A questa cosa qua È veramente complicato Voi maggioranza È veramente complicato Perché Come dire Voi che siete quelli Che non deve rimanere Nessuno indietro Siete quelli che Un abbraccio ogni sera Vi stringo Eccetera Nel momento in cui Potete fare qualcosa Che oltre a abbracciare Mettete anche Dei soldini in tasca Alla gente Come sempre Pensate alle vostre Di tasche E quindi Non riuscite a trovare Un accordo Tra di voi Per riuscire Non a ridurre Ripeto Il gettone Perché non è una riduzione Del gettone Il gettone resta A 104 La riduzione È quello che viene In tasca I consiglieri Bisogna dirlo chiaro Questa cosa qua No Voi non volete Che nelle vostre tasche Avrivino meno soldi Questa è la realtà E siamo qua Tre ore e mezza Da sentire voi Che discutete Tra di voi No Perché uno vuole Di soldi in tasca E un altro Disposto anche A rinunciarci No Questi soldi Poi comunque Dove andrebbero a finire Anche questo C'è da chiedersi Cioè dove li vorreste Mettere questi soldi Li volete dare in mano Alla Roma No Come sempre No Che finiscono sempre lì L'idea di costruire un fondo Mi sembrava una cosa intelligente Almeno In fondo Lo controlliamo Attraverso la commissione bilancio No Almeno lì Sappiamo Come vengono gestiti No No Invece L'idea è Solo pensare alle proprie tasche No A vedere che non entrano i soldi Nelle proprie tasche E non pensare invece Dove vanno a finire questi soldi Quindi La fiera dell'ipocrisia Era di dire Che siete contro La riduzione del gettone Il gettone Non viene ridotto Viene ridotto Quello che vi arriva in tasca E questo è il passaggio Allora Noi eravamo già d'accordo A 27 euro Già due anni fa In una situazione in cui Non c'erano questi problemi Di covid No E dell'economia in ginocchio Pensavamo che fosse Un modo per Come dire Dare un segnale In questo senso Purché addirittura Quella volta Vi ricordo La consigliera Oropallo Aveva addirittura proposto Sostenuta da tutti Poi alla fine Anche quelli che oggi Dicono che non Non vogliono Il gettone ridotto Della riduzione Anche degli assessori E il segretario Aveva bocciato Quella mozione Perché appunto Non si poteva Andare a sindacare Sulle tasche degli assessori Ma in questo caso Invece Il consiglio All'unanimità Potrebbe appunto Esprimersi In favore di questa proposta Ora il fatto che voi Non siate riusciti Cioè Abbiate Non siate punzecchiati Come Come I polli di Renzo No È significativo Avete dato un'immagine Della maggioranza No Perché di fatto Avete parlato solo voi Avete dato l'immagine Di una maggioranza Che è attaccata Al gettone di presenza E che Della città Non ha alcun Alcun riguardo E alcun interesse Questo è quello Che emerge Dalla discussione Di stasera Allora Siamo ancora in tempo Siete ancora in tempo Fate qualcosa Mettetevi d'accordo Ma non uscite da qua Con l'idea Che voi Siete quelli Che pensate Al vostro Cettone E alle tasche Dei cittadini Non pensate affatto Grazie Consigliere Consigliere Affanavi Ha già preso Parola Per il secondo intervento Prego Consigliere Grazie Grazie Presidente Allora Ne abbiamo sentite tante Veramente Da riassumere Forse Chi ha parlato Dell'eseguità Dell'importo Chi ha parlato Di quante tasse Ci paga sopra Chi lo vuole Far gratis Chi Facciamo del volontariato Che in commissione Si lavori Questo Deve essere così Ovviamente Magari Qualcuno Non la vede Proprio così Tutti dovrebbero Dare il loro Contributo Ecco Forse Questa è una cosa Che magari Mi permetto di dire Talvolta Talvolta Manca Che non tutte Le commissioni Vengono pagate L'abbiamo capito Chi dice un terzo Chi dice la metà Ma più o meno Una metà Per questo famoso Parere Ormai famoso Parere Della Corte dei Conti Mi pare che poi Siamo l'unico comune In Friuli Venezia Giulia Ma non insisto Su questo Forse mi sbaglio Beh io mi soffermerei Ancora Insomma altre cose Che sono state dette Cioè non è da ripetere E mi soffermerei Un attimo Su qualcosa Che È stato solo toccato Ed è una cosa Che mi preme Per Per contenere Questa spesa Perché poi Come ha detto Il consigliere Pico poco fa I centoquattro Vengono fuori lo stesso E quello che viene in tasca Al singolo consigliere Che cambia Bene Vedremo come andrà Questa votazione Cosa accadrà Ma comunque È importante È fondamentale Sapere dove va A finire La differenza Tra il centoquattro Che comunque È l'impegno di spesa Fatto dal comune A prescindere È quello che Verrà erogato Al singolo consigliere È ovvio Che noi consiglieri Vogliamo sapere Come è doveroso Decidere anche La destinazione Di questo Di questo denaro E questa è una cosa E un'altra cosa Da aggiungere Queste commissioni Poverette Veramente Non Dovrebbero essere Devono essere Uno strumento Di Sì Di lavoro Di collaborazione Di proposta Come hanno detto Altri prima di me Ma veramente Non vengono Non è possibile Che non vengano Convocate mai Non è assolutamente Possibile Ci sono delle commissioni L'ha ricordato Già La Tucci Che sono di serie A E altre di serie B Ce ne sono addirittura Due Che non hanno ancora Dopo tre anni Di consigliatura Come si dice Non hanno ancora Il coordinatore E molte altre Credo queste Tutte Non hanno neanche Il vice coordinatore E questa Già la dice lunga Le ricordo Che il Anzi Lo tiro forse Lo parlo a qualche parte Beh Il nostro regolamento Il regolamento Delle commissioni Consigliari Che ha pochissimi Articoli Ed è datato Indubbiamente All'articolo 4 Dice Che Le commissioni Si riuniscono Almeno ogni due mesi E ogni qual volta Ciò venga richiesto Da sindaco Consiglio comunale Giunta municipale O almeno Tre componenti La commissione Eccetera Eccetera Allora dico Lo dice il regolamento Ma noi non solo Non lo facciamo Ogni due mesi Proprio non lo facciamo Ecco Ci sarà stato il pretesto Dell'importo Ma questo non lo so E quello è tutto da vedere Ma non mi viene da Da dire ancora una cosa Abbiamo dieci Fino a ieri Avevamo dieci assessori Parliamo anche di questi Ora sono nove Non si sa Forse torneranno dieci Rapporti di fiducia Per carità Io non voglio Invadere insomma Le decisioni O dire qualcosa Il sindaco decide Li nomina lui Però dico In un comune Di trentatremila abitanti Ma dio Dieci assessori Ora nove Per non so quanto tempo Ma vi non vedete Conto di quanto denaro Non spendiamo Io non sto a contestare Quanto Quello è giusto Perché se uno lavora È giusto Che loro prendano I tremila E ventotto Mi pare Chi duemila E qualcosa Io non sto a sindacare Su quello Ma il sindaco Sul numero Sul numero Delle persone Che hanno questa carica Ecco Io credo di aver tutto Facciamo lavorare Queste commissioni Nominiamo i coordinatori Mancanti E andiamo avanti Con tutte le cose Che dobbiamo fare Grazie Grazie consigliera Altri secondi interventi Tomosella Prego Grazie presidente Posso parlare Con la webcam Spenta O devo accenderla Per forza No va bene Se non le funziona Va bene Spenta Prego Ok Grazie Giusto un breve intervento Per dire Che Consigliere Tomosella Non le funziona La webcam E per quello Volevo sapere Se posso parlare Lo stesso Se c'è un problema Tecnico Non le funziona Sì Sì Invece Altrimenti C'è Dovremmo vederla Oltre che sentirla Altrimenti Volevo dire una cosa Molto breve Senzicamente Adesso cerco di risolvere Anche il problema Tecnico Può accenderla o no? No non mi funziona No non mi funziona In questo caso Un problema tecnico Va bene Prego Allora Volevo soltanto dire Che Mi dico che sono Contrario A eventuali Emendamenti Che potrebbero Snaturare il senso Della proposta Perché Io di principio Mi trovo favorevole Con quella che è la proposta E' un eventuale cambio Secondo me Quindi destinare fondi A poste stabilite Mi trovano decisamente Contrario Perché Da come la vedo io La beneficenza Deve essere sempre decisa Da chi la fa Dal sottoscritto E deve essere Una decisione Diciamo che parte Da una propria Consapevolezza Per cui Nel caso Appunto Il proponente Roldo Decidesse Di modificare La proposta Di delibera Rispetto a quanto È stato Distribuito Nei consiglieri A quel punto La mia opinione Cambierebbe E sarei contrario Prego Consigliere Traini Sì Eccomi qua Io credo che Ci sia Tanta confusione Non fatico Ad ammettere Che In questo polverone Inizio Non capricito niente Partendo dal presupposto Che C'è La proposta È Buona Nel senso È anche accoglibile Ma odora tantissimo Di demagogia E mi domando In questi due anni Perché non si è stata proposta Allora ma Ma si è accaduta solo A causa di ragioni Di scontri All'interno di un partito Di dimostrare qualcosa Di essere prima della classe Roldo giustamente dice Che l'ha già proposta Due anni fa Vero Ma in questi due anni Perché non è stato nulla Cioè come mai Se ne è svegliato Solo ora Ma va bene A prescindere da questo Io Ora Non ho capito Anche dopo L'intervento di picco Pare che quindi La riduzione del gettone Di questi 104 euro A 27 euro Non comporti Da parte del comune Un esborso Di soli 27 euro Ma il comune Comunque rogerà 104 euro E La differenza Verrà Insomma Ripartita Oppure Data Insomma A qualche capitolo Di spesa Che non è ben noto Ripeto Io inizio veramente Non capirci nulla Ma se così sono le cose Io vorrei che questa differenza Di denaro Vada veramente In un fondo In un fondo Che sia Come dire Sorvegliabile Che sia consultabile E che chiarisca Dove queste risorse Vanno a finire E che effettivamente Appunto Abbiano la loro utilità Quindi io credo che O il consigliere Rol De mente E mente In tal senso E la sua delibera O per quanto mi riguarda Risulta invotabile Perché Non Ridurre l'esbosso Da parte del comune Senza in più Sapere dove questi soldi Andranno a finire Mi pare qualcosa Di poco serio Bene Altre secondi interventi? Allora Se non ci sono altri secondi Prego Collini Prego Collini Eccomi qua Ecco Allora Eccomi Sì Allora Due Due anni fa Dopo una Maratona Maratona Di alcune ore Eravamo arrivati Al punto Che Forse Si fosse Trattato Ecco Prego La vediamo Prego Non la vedevamo Prego Prego Dicevo che due anni fa Al termino Di una maratona Analoga Eravamo arrivati Al punto Forse Di considerare Il tutto Cioè il fatto Del mancato Adeguamento Del valore Della commissione A 27 euro Come in precedenza Che tutto fosse stata Una dimenticanza Adesso Credo invece Che si possa parlare Fondamentalmente Di una profonda Negligenza Forse Maliziosamente Voluta Anche Il che ha creato Una serie Di problemi All'interno Del Consiglio E ha determinato Anche questa Questa Discussione Allora Tutto si era concluso Con il ritiro Da parte Della Di libera Da parte Dell'assessore Che aveva proposto Prima il gettone A 52 euro Poi l'aveva Ritirata Ecco Ci era trattato Allora Di una forma In alcuni Passaggi Della discussione Di una sorta Di ipocrisia Lessicale Di fronte A certe posizioni E certi Appeggiamenti Che non sono stati Espressi Questa volta Credo invece Che si possa parlare Di un'ipocrisia Metodologica E vi spiego Cercherò di spiegarvi Perché La dignità del consiglio Prima qualcuno Accennava la dignità Del consiglio La dignità del consiglio Passa attraverso Innanzitutto Rispetto Delle regole Se fosse Messo mano Lo statuto Regolamento Un mio vecchio pallino Forse adesso I costi della politica Sarebbero in parte Ridotti Ma dicevo Di questa ipocrisia Metodologica Noi abbiamo fatto Una commissione Bilancio Nel corso Della quale La più importante Prima Dell'approvazione Del bilancio Siamo entrati Con una proposta Di delibera Di 400 euro Di 400 mila euro A favore Dei goriziani E poi E' stata votata Uno Di 580 mila E senza Che Il principale Soggetto Beneficiario Di questo Di questo Intervento E cioè La comunità Fosse stata In qualche Maniera Ascoltata Attraverso Quale La commissione Del welfare Che si è riunita Successivamente E che poi E' stata giudicata E come dire Non Gettonabile Da un certo punto di vista E allora Segretario Le domando Mi rivolgo a lei Direttamente No Se Esiste una regola Che dice Che le commissioni Devono riunirsi Almeno ogni due mesi C'è stata inoltrata Una lettera Analoga A quella Che era stata Inoltrata Alla corte Dei conti Per sollecitare Il L'amministrazione Comunale Al rispetto Delle regole Perché se così Non fosse stato Allora Non è che possiamo Alternare La volontà Del rispetto Delle regole A seconda Che ci troviamo In un giorno Dispari O un giorno In un giorno Pari Dicevo prima Che ritengo Questa Forma Di atto Riparatorio Di fronte Ad una Negligenza E non cambio Idea Rispetto A due anni Fa Ovviamente Ritengo Congruo A questo punto La proposta Che suona Anche come Un richiamo Morale Parziale Finché Vogliamo Rispetto A quelli Che sono Complessivamente I costi Dell'amministrazione L'ha accennato Poco fa Anche Anche La Zanella Perché Lo spirito Di servizio Anima Sì I consiglieri E li anima Fino in fondo Ma dovrebbe Animare Anche altri Soggetti Che fanno Parte Dell'amministrazione E L'ultima Considerazione Se riusciamo Ad ottenere Una forma Di risparmio La romano Spesso Si è nascosta Dietro La foglia Di fico Dell'ambito Quando si è trattato Di mettere mano Alla suddivisione Delle risorse In favore Del welfare Beh in questo caso Dico Che non serve Più Ripararsi Dietro All'ambito Ma andiamo A ricercare Per i goriziani Regole Goriziane Con profonda Trasparenza Sui criteri E a questo punto Dico anche Che i 50.000 euro Che sono stati Negati In occasione Del dibattito Del consiglio Avrebbero dato Un grosso aiuto Anche Ai goriziani In quella circostanza Richiamo alle regole E che La cosa principale Però Alla quale Presidente Invito tutti A fare riferimento Grazie Prego Consigliare Gentile Sì Grazie Presidente Innanzitutto Con soddisfazione Posso notare Che questa discussione È durata Oltre 4 ore Per cui A maggior ragione Dico che saremo arrivati Alle 2 di notte E secondo me È meglio farla adesso Alle 21.08 Vedremo quando voteremo Questa discussione Per cui anche In questo caso Penso di non aver sbagliato Un solo appunto Non mi ricordo A chi lo ha fatto Decantando L'operato del sindaco Romoli E via dicendo E questo e quell'altro Io vi faccio notare E questo lo faccio Perché spesso una lancia In favore del sindaco Ziberne invece Che il sindaco Romoli Avrebbe convocato I consigli comunali Per votare Il bilancio consultivo Il bilancio preventivo Fine Grazie Arrivederci Non ci serve altro Sono un seduto Obbligatorio per legge Basta Non è stato compreso Una cosa I 104 euro I 104 euro Non è che rimangono Cioè La delibera Che presenta Rondo Non è che dice Sì sono 104 Ma La restante parte Fino ad arrivare a 27 La mettiamo in beneficenza E Ci inventiamo Delle cose particolari E questo e quell'altro Su cui premetto Sono contrario Ed ho ragione Che ho detto Della Lega Per esempio Qualcuno Non Zotti Chiaramente Io non sono assolutamente D'accordo Su questo tipo Di beneficenza Fatto Ma La delibera Presentata da Rondo Prevede Normalmente 27 In Mediostat Virtus A ragione Tucci Però Forse gli è scappato Che io già all'inizio Di questa seduta Ho detto E ho continuato a dire Cari Caro Aroi Emendati Emendati Auto emendati Porta 52 Sono convinto Che su 52 Ci sarà La condivisione Di molti E questo Visto che Non è stato fatto Non c'è la volontà Di farlo Significa che Non c'è la possibilità Di mediare Vuol dire che Evidentemente Questa scelta Era stata fatta Per delle ragioni Particolari Allora Io vorrei Dire una cosa Picco Rossi Quando voi Diventerete sindaci Secondo me Vi farete opposizione Da soli Vi farete opposizione Da soli Perché All'improvviso Si è scoperto Che voi Avreste votato 27 Facile farlo Due anni dopo Eh Noi avremmo votato 27 Offro di più 26 26 e 50 Dai Anzi Facciamo Così con 50 centesimi Compriamo una mascherina Ecco Facile fare così Eh Sono tutti quanti bravi E comunque Il discorso Che io Ho già detto Linearmente E precedentemente Io Ho fatto una proposta È una proposta Che ho fatto Alla mia maggioranza L'ho fatta Appertamente E ho chiesto Al consigliere Roldo Di autoemendarsi E di portare A 52 Perché ritengo Che questo È il vero spirito Di effettuare Sì Un risparmio Di quattrini E la possibilità Anche di dare Un segnale Che poi Sia In virtù Del coronavirus Signori miei Ormai ce lo stiamo mettendo Dappertutto Questo coronavirus Per l'amor di Dio Va bene Mettiamoci anche Coronavirus D'accordo Fate come volete Non è un problema Assolutamente Ho parlato Però E a tanti È sfuggito Evidentemente Del consistente aumento Che il consiglio regionale Darà a amministratori Vale a dire Sindaci Vice sindaci E assessori Forse nessuno ha inteso Nessuno ha inteso Quello che ho detto io Non l'hanno inteso in molti Evidentemente Questo è un fatto E non hanno inteso Neanche una cosa Che prevede Quell'articolo Votato All'unanimità Quasi Dal consiglio regionale Con le firme di Onsel E del Del PD E quant'altri No? Quello che Nel caso in cui Queste amministrazioni Non hanno fondi A sufficienza Sarà la regione Che interviene Bello E allora E noi siamo stati qui A parlare Quattro ore Se bastano In questo momento Per avere Questa discussione Io lo dico E lo ribadisco Se il principio È quello di Ridurre Il costo Della politica Non con quelle Manfrine Da zero euro Un euro E via dicendo E abbiamo già visto I pareri Che sono arrivati Anche dal segretario E via dicendo Facciamolo Tranquillamente Assumiamoci La responsabilità Troviamo una cifra Che secondo me È una cifra equa Ma sono sicuro Che non è secondo me Non è secondo me E il presentatore E il presentatore Accetti Questo che si chiama Mediazione Vuole andare avanti Con il suo Ma non è per farsi belli O farsi meno belli O dire roldo O roldo Perché penso Rinaldo Che ne ha sentito E sentite veramente Tante Su di te Dai soldi Che hai preso Come presidente Da quello Che dichiari Con il tuo 730 E sono delle cose Fondamentalmente Le ritengo Ingiuste Le ritengo Ingiuste Però Se queste cose Sono state dette Forse Forse È l'accaso Di pensarci Un attimino Ed eventualmente Accettare Quella che Si chiama Arte della Mediazione Certe volte Ho concluso Presidente Grazie Consigliere Prego Consigliere Feri Presidente Grazie Però io Ho problemi Con la telecamera Lo stesso problema Che aveva un altro Collega Non riesco Assolutamente Ad attivarla Quindi se posso Intervenire Anch'io E va bene Se è un problema Tecnico Non riesco Sì Un problema Tecnico Quindi Poi Evidenziare Un altro Problema Tecnico Il problema Tecnico È un pasticcio Cioè Noi discutiamo Oggi Del gettono Di presenza Alla commissione Ma noi Non sappiamo In realtà Cosa Portiamo Perché non sappiamo Quali sono Le commissioni Gettonabili Come si è cercato Di ovviare Al fatto Che sia sfuggita All'inizio Della consigliatura La riduzione Si è cercato Di ovviare Chiedendo Alla corte dei conti Un parere E dandoli già La risposta Possiamo immaginare La corte dei conti Quanto siano contenti Quanto Con interpretazione Anche non corretta È la stessa amministrazione Che dice Senti Questa somma Che noi paghiamo A questo titolo È corretta Oppure Come riteniamo Qua noi È uno spreco Di denaro pubblico Quando invece Non andrebbe pagata Perché questo È il senso Del requisito Che è stato Formulato Alla corte dei conti E la corte dei conti Ci è andata a nozze Sbagliando il parere Che palesemente Sbagliando il parere Noi nel parere Nel parere della corte dei conti Leggiamo che La norma statale Dice una cosa Ovvero La norma statale Direbbe Che vanno Pagate le indennità Per la partecipazione Alle commissioni Mentre Una delibera Giuntale Della nostra regione Specificherebbe Che questa Questa partecipazione Va pagata Se effettiva Non è vero È già sbagliato Il quadro normativo E lo stesso Articolo 82 Del Tuel Che se va letto Fino in fondo All'ultimo coma Ci dice che La corresponsione Dei gettoni Di presenza È comunque Subordinata All'effettiva Partecipazione Del consigliere A consigli E commissioni Quindi non è La giunta regionale Che dice questo È la norma E chi stabilisce I termini E le modalità Di pagamento E cosa Si debba intendere Per effettiva Partecipazione Ce lo dice La stessa legge Allo stesso coma 11 Dell'articolo 82 Lo stabilisce Il regolamento Del comune Quindi Noi siamo Dati In imbarcarci In una situazione Paradossale Ora stiamo discutendo Delle entità Del gettone Ma non sappiamo Quando verrà pagato Ma ci rendiamo conto Del contenzioso Che potrà nascere Da chi Una volta terminata Questa consiglia Ne uscirà Non vorrà più sapere Del consiglio comunale Di Gorizia E si ritroverà Con una serie Di commissioni Non pagate Questo è un problema Grosso Io li evidenzio Perché Dire Arrivare al punto Di dire Che per partecipazione Effettiva Si debba Tenere conto Non Della correlazione Tra la presenza Fisica Del consigliere Alla commissione Ma si debba Tenere conto Della natura Della commissione Quando la legge Non parla Assolutamente Di questo Perché se fosse Stato così La legge Avrebbe detto Partecipazione Effettiva Ad una commissione Utile ai lavori Del consiglio Ma non lo dice E non lo può dire L'interprete L'interprete Può dare Un'interpretazione Estensiva Ma non può Creare Da noi Quindi Noi stiamo A discutere Di una cosa Che è altamente Fumosa Sotto questo Punto di vista Anche se Possessi Perfettamente Raccolto Con i 27 euro Ma i 27 euro Quando Se noi andiamo A vedere I regolamenti Dei consigli Comunali Che sono stati Adottati O modificati Dopo che Il criterio Dell'allocuzione Di partecipazione Effettiva È stato introdotto All'articolo 11 E al coma 11 Nell'articolo 82 Tuel Noi vediamo Che cosa ha fatto Tutti i comuni D'Italia Che si sono Adeguati E hanno ricepito Questa novità Cosa ha fatto Hanno stabilito Rispetto Alla durata Della commissione Quanto è Il tempo Minimo Di presenza Fisica Del consigliere Affinché Si possa dire Che la sua partecipazione Si è effettiva Alcuni comuni Hanno parlato Di metà seduta Altri De 6 3 Per 100 Altri 3 Quattro E più di via Perché La normativa È stata modificata Per quale motivo Non perché Ci si era posto Il problema Di Come dire Corrispondere Le indennità Soltanto Le commissioni Protroniche All'attività Del consiglio Ma perché In morte In realtà Italiane Che cosa succedeva La commissione In molti regolamenti Stabiliscono Che la commissione Venga In doppia Convocazione Alla prima Andava Il numero Di consiglieri Non sufficiente A raggiungimento Del cuoro E portavano Via Il gettone Altre volte Avevano pagati Gettoni A consiglieri Assenti Giustificati Altre volte Venivano pagati Tutta una serie Di casistiche Dove c'era Una realtà Di furbetti A questo Si è voluto Ovviare E da qui Ad arrivare A dire Che deve essere Un coordinatore Che si prenda La responsabilità Del provvedimento Di convocazione Di dire Se La 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 Probabile No Siamo arrivati Veramente A una Situazione Assurda Per cui Oggi Noi Non sappiamo Cosa Dobbiamo Anche se Il mio Personale Mi sta d'accordo Dei 7 euro Ma Siamo Tutti Grazie Grazie Consigliere Altri secondi Interventi Allora Se non ci sono Altri secondi Interventi Da parte Di nessuno No Niente Allora Chiudo la discussione Passo le dichiarazioni Di voto Prego Consigliera Ferrari Che si era Prenottata Per la dichiarazione Di voto Prego Scusi Presidente Il segretario Non ha risposto All'acquisito Di Il segretario Non ha risposto All'acquisito Del consigliere Roldo Dove Aveva posto Il fatto Che Se auto Immenitarsi La delita Era o meno Prego Consigliere Prego Il segretario E da qui Derivava Il mio ragionamento Sì Allora Allora Io Quello che dovevo dirlo Dal punto di vista Tecnico L'ho detto Credo di essere Stato chiaro Di aver chiarito Tutti i passaggi Il problema Lo dico Ancora una volta L'oggetto Della deliberazione E la riduzione Del gettone Cosa succede? Nel momento In cui C'è una riduzione Delle spese Perché È stata fatta La riduzione Del gettone Del gettone A chi Spetterà Allocare Al bilancio Quelle che sono Le I risparvi Spetta Innanzitutto Al consiglio comunale Perché il consiglio comunale È l'organo Che ha Competenza Nella Approvazione Del bilancio E nelle variazioni Di bilancio C'è solo Il caso Che per Urgenza Per estrema urgenza Lo possa fare La giunta Comunale E questo atto Deve essere Ratificato Dal consiglio comunale Quindi Il problema Di dove Andranno Gli eventuali Risparmi Di spesa All'interno Del bilancio Sarà comunque Sempre una competenza Del consiglio Che chiarirà In quale capitolo E con quali importi Alla luce di quella Che è una stima Di eventuale Riduzione Dovesse passare Questa proposta Che stiamo discutendo Sarà di nuovo Il consiglio comunale A decidere Io credo di essere Stato Chiaro Su tutto Devo dire Solo Che I tecnici E soprattutto Il segretario Comunale Non possono Essere chiamati A Dirimere Questioni Che non sono Di carattere Tecnico Ma che Emergono Anche In questa In questa serata Sono forse Di Così Di altra Di altra Natura Noi Quello che possiamo Dire Lo diciamo La proposta La proposta Di iniziativa Consiliare Ha avuto Tutti i pareri Di Irregolarità Tecnica E di Irregolarità Contabile Abbiamo spiegato Ho spiegato Tutti i motivi Di più Sinceramente Non posso E non me la sento Di dire Di più Di questo Dopodiché Le sintesi E le indicazioni Politiche Su quale Deba essere Il giusto Gettone Non spetta Ai tecnici Noi sappiamo C'è una proposta Sappiamo Che questa proposta È amissibile Sappiamo Che non può Superare Un certo importo Può essere Solo ridotto Di questo Però L'equilibrio Politico Non è Di competenza Della parte Tecnica Noi siamo Dei tecnici Siamo a supporto Della politica Ma le decisioni Politiche Le devono prendere Gli organi politici Grazie Bene Riprendiamo Le dichiarazioni Di voto Prego Consigliera Cavari Grazie Presidente Dunque Ricapitolando Quello di Roldo È Una proposta Che Ha ricevuto L'ok Dei tecnici Euro 27 Ok Noi Che abbiamo Chiesto Di togliere Il 75% Della quota E arriviamo A 26 euro Quindi Un euro In meno Solo Un euro In meno Di Roldo Però Chiamola Cacciando In fondo Questo Inammissibile Questo Inammissibile Però Dovete Darci Delle motivazioni Io Chiederò Un parere Scritto Di questo Perché Che cosa È cambiato Dal 2016 Quando Il comune Di Parra In provincia Di Bergamo Sta diventando Così famoso Ha fatto Questa delibera Oppure Dovremmo Avvertirli Che la loro Delibera È anche Inammissibile Giusto per capire Quindi Poi Piscopo E come Che i cittadini Potrebbe interessare Il fatto Che il gettone Viene ridotto Interessa Se i soldi La differenza Dei soldi Vanno a finire Per delle Diciamo Attività O per delle cose Che potrebbero Essere utili A queste persone Che hanno bisogno Col cavolo Che non interessano Ai cittadini Se nessuno Gli lo va a dire È chiaro Che non gli interessa Ma se qualcuno Gli lo va a dire Forse anche sì E quindi Noi Auspichiamo Che questi Soldi Andassero In un fondo Perché sarebbero Soldi per loro E quindi A loro interesserebbero Poi I calcoli Che ha fatto Oroldo Sono giusti Perché sarebbero 70 euro Senza poco Per la precisione Euro risparmiati Per ogni consigliere Però Come anche Dice Picco Che abbiamo Vedute diverse Sempre Però in questo caso Io ho ragione Dove andranno Perché Il quesito È dove andranno Se Eroldo Fa questa modifica Che peraltro Lui Prima Da come abbiamo capito Il suo atteggiamento Potrebbe essere Diciamo Favorevole A modificare qualcosa Per quanto Mi riguarda Io Vi do Il voto Positivo Concordo Anche con Gentile Quando ci dà Quella notizia Prima non ho voluto Tirarla fuori Perché Non volevo Divagare troppo Però è vero È vergognoso Che la regione Abbia fatto Quella delibera Però Io credo Che Queste Siano Delle Decisioni Che devono Prendere La giunta Il sindaco Allora Perché Portiamo Il 5% Di quello Che viene Del pancato Ogni mese Dalle paga Degli assessori Portiamolo Al 40% Vediamo se qualcuno Ha coraggio Di farlo Allora È così Quindi Il discorso è Questi soldi Dove andranno? Il segretario Dice Che è Facoltà del Consiglio Decidere Benissimo Ma fino ad oggi Non mi era sembrato Che noi avessimo Questa facoltà Tante cose Vengono decise Fuori dal Consiglio Questi soldi Noi vogliamo Capire Vogliamo avere La massima Trasparenza Dove Andranno Perché Il garante Di tutto questo Sarebbe proprio Questo fondo Adotti Cioè Spiegatemi Perché Non lo volete fare Perché qui c'è Una volontà imprecisa Spiegatemi Grazie Grazie Mi permetto Di ricordare a tutti Che siamo in dichiarazione Di voto Quindi la discussione Chiusa Modificazione Chiusa Siamo in dichiarazione Di voto Per andare a votare La delibera Come è stata presentata Grazie Prego consigliere Tomasella No Alla luce Della sua Della sua Insomma Del suo intervento Chiarificatore Posso rinunciare Al mio ordine Dei lavori Perché volevo appunto Sapere se Le modifiche Che erano state proposte Nella fattispecie Da Stasi E da Gentile Erano state accettate O meno Dal proponente Però Se lei mi assicura Che noi andiamo a votare Il documento Così come c'è stato Presentato Io sono tranquillo Grazie Sì sì Ormai la discussione È chiusa Come ho detto Emendamenti Non sono più presentabili Modifiche Non sono più presentabili In questo momento Stiamo Siamo nella dichiarazione Di voto E nella dichiarazione Di voto Si dichiara Il voto Favorevole O contrario Alla delibera Che è stata presentata Così come è stata presentata Perché non ha ricevuto Il concetto di modifica Quindi prego Consigliere Traini Eccomi Io pur d'accordo Con la riduzione Ma sulla scorta Di quanto espresso Dal consigliere Feri Ovvero L'interpretazione Sulla gettonabilità Che potrà generare Ricorsi E cause E senza La creazione Di un fondo Oltretutto Che determini Con certezza Dove andrà a finire L'avanzo Legato a questo Di risparmio Io Pur essendo d'accordo Non me la sento Di poter votare Una delibera Del genere Perché? Perché è stata fatta Con estrema superficialità E ritorno alla mia Considerazione Personale Ovvero Che questa delibera È più dettata Da una voglia Di visibilità E come dire Da una sorta Di tentativo Strumentale Di ricerca Del consenso Quindi Se la delibera Magari venisse E verrà Ripresentata In una seduta Con la medenzima Riduzione Ma con La garanzia Appunto Che è Della creazione Di un fondo E con un parere Di rimente Sull'interpretazione Che è stata suggerita Questo comune Alla corte dei conti Allora il mio voto Sarà sicuramente Favorevole Questa volta Non parteciperò Al voto Per non votare Contrariamente In quanto ripeto Sono d'accordo Con la riduzione Ma non con Una proposta Così superficiale Da un punto di vista Della forma E con uno spirito Che continuo a reputare Demagogico Quindi sono a favore Dovesse essere scritta Con le condizioni In questo spesso La voterò Sicuramente A favore Con le medesime Riduzioni Ma non in questi termini Quindi non parteciperò Al voto Perché ripeto In questi termini È invotabile Grazie Allora la parola Al consigliere Episcopo Per fatto personale Chiedo Di evitare scontri Inutili Di essere sintetico Grazie consigliere Sino a lei In generale Di evitare scontri Inutili Contradditori Prego Sì no Sarò Sarò velocissimo Solo per una risposta Alla consigliera Ferrari Io mi immagino Che se tra Nel loro gruppo Non si mettono D'accordo Nemmeno nel presentare Una delibera E presentano due Delibere diverse Mi immagino Come possono Mettersi d'accordo Diciamo Per trovare L'accordo Di questi soldi A chi devono andare Se proprio si vuole Facciano un fondo Volontari Consiglieri E mettono Quello E ognuno Si sente Di vedere Comunque Approfitto Anche per dire Che così Come è rimasto La delibera Iniziativa Consigliare Il nostro gruppo I tiamburi Si poterà Nega che non Luca Avevo chiesto Io la parola Hai letto Quando viene chiesta Quando viene chiesta La parola Personale Si dà subito La parola Personale Prego No no Le dico No Siccome Mi viene fuori Perché Scrito Non riesco A inserire Prego Prego Consigliare Cosma Bene Grazie Allora Per quanto riguarda Per esempio L'aggiunta Che destina Il 5% A chi hanno deciso Loro Quel 5% Non è che È una leggina Che per forza Devono dare Il 5% Hanno deciso Loro Mettendo una firma E così Se oggi È stato discusso Che il 70% Deve andare In un fondo Teniamo presente Che comunque Ogni consigliere Deve firmare Che accetta Che il 70% Di toglie di spetta Vada In un fondo Questo deve essere chiaro Secondo punto Io ho ascoltato Molto Attentamente Il collega Ferri E sorridevo Perché Io lo so Da tanti anni Perché Egregi colleghi Fuori dalla regione Friuli Venezia Duglia A Roma A Milano A Napoli Cosa fanno I nostri colleghi Consigliere Fanno Uno Due Consigli Comunali Al mese E fanno Cinque Commissioni A settimana Fate i conti E vedete Come fanno avanti I consigli Comunali In Italia Quello che ha detto Ferri Anche sulla Responsabilità Di chi Partecipa Alle Commissioni E' vero Perché Ne sono Successi Di tutti I colori Tanto E' vero Che io Come Presidente Di Commissione Per lo Sport Ho lasciato Perché Intanto Ci hanno Detto Che non Se la Piavano Quindi Non vedo Che devo Andare A Firmare La Presenza Mentre Nell'altra Commissione Quella Riguardante La Polizia Locale Lo Ripeto Sono Stato L'ultimo L'ultimo Che ha Fatto Firmare L'ora Di Entrata E L'ora D'uscita Così Io Sono A Posto E Tutti I Colleghi Hanno Firmato L'entrata E L'uscita Mettendo Apponendo Oltre la Firma L'ora Di Entrata Di Uscita Quindi Quello Che diceva Feri E' Vero Per Quanto Riguarda La Votazione Su Questa Libera Sergio Cosma Voterà No Grazie Grazie Prego Consigliere Aferrarli Per Fatto Personale Però Chiedo Gentilmente Come questo Anche al Consigliere Episcopo Di evitare Scontri In modo che Possiamo Andare avanti Prego Consigliere Sì Solo per Dire Che Al Caro Consigliere Episcopo Che in realtà Eravamo D'accordo Sulla Creazione Del Fondo Il Fatto Poi È Che Il Segretario Ha Bocciato A questa Fonda Tutto Qua Grazie Grazie Prego Consigliere Caggioli Sì Per Fare La mia Dichiarazione Di voto E Giustificarla Non capisco Onestamente Che differenza Faccia Se Decidiamo 27 euro 52 euro Perché 52 euro Non è beneficenza 27 sì Questo Mi giunge Difficile Da capire Per Quanto Riguarda Sono Convinto Che Sarebbe Stato Meglio Ci Possa Stata Un' Indicazione Per quanto Riguarda Le finalità Per cui Vanno Spesi Questi soldi Che si risparmieranno Dalle commissioni Certo È Che Anche se Non è Stato Dichiarato Inemissibile Certo È Che Come Consiglieri Comunali Avremmo Tutte Le possibilità Di controllare Dove Sono andati A finire Questi soldi E siccome C'è stata Una presa Di collezione Ben chiara Da parte Il Consiglio Anche Chi Vota No O si Astiene O di questo Genere E vuole Che questi soldi Vagano Appunto A sostegno Della gente Che non ha Disponibilità Economica In questo Momento Io credo Che sarà Compito Di noi Consiglieri Comunali Controllare Che questi soldi Dandove passasse La proposta Del consigliere Loldo Saremo In grado Di controllare Se questi soldi Vagano Effettivamente A quelle persone Per cui oggi Tutti si sono Dichiarati Propensi Disponibile A ridursi Il gettone Di presenza Qualora I soldi Andassero Destinati A queste persone Quindi Io Personalmente Voterò Favorevole Grazie Prego Consigliere Rossi Grazie Presidente Io Ricordo Che ho fatto Nel secondo Intervento Che va Messo in ordine La discussione Di fatto Rispetto a quello Che è stato Negli ultimi Direi Più di Otto anni Dal 2012 Poi E forse anche prima Ma Non ho la memoria storica Questo consiglio comunale Aveva stabilito Più e più volte Che i gettoni Per le commissioni Fostano 27 euro Noi Come gruppo Il partito democratico Diciamo che Deve continuare A essere così Quindi Possiamo favorevolmente La delibera E no A un aumento Perché di fatto Non approvare Per l'ennesima volta In questo secondo Tentativo La riduzione Il gettone Significherà D'avallare L'incremento Per una volta Il gettone Anche a 104 euro Quindi Questo per riportare Le binarie discussioni Bisogna mantenere Quello che è stato Un orientamento Virtuoso Del consiglio comunale Che non nasce Ieri Nasce Svariati anni fa Ben prima Che si parlasse Di populismi E quant'altro Un orientamento Consolidato Dell'amministrazione Di Gorizia Un orientamento Consolidato Che dobbiamo Semplicemente Semplicemente Portare avanti Questa è la convenzione Del gruppo Che rappresenta Come partito democratico E dico Ulteriormente Che se qualcuno Voleva Proporre Cifre Intermedie 52 euro O altro Poteva farlo Tra gli emendamenti Non è stata Presentata Una proposta Formale Così Quindi l'unica Proposta in campo Che noi condividiamo E poi l'ha Presentata La collega Rondo Che è stato Coerente Con quello Che aveva annunciato Con quello Che aveva proposto Due anni fa E l'avevamo Sostenuto Già in quella Occasione Con quello Che aveva annunciato Quasi due mesi fa Quindi Non si parla Di nulla Che non si sapesse Per tempo Si scopre Che sono proposte Non condivise Entrare la maggioranza Quelli sono Problemi interni A maggioranza Al centro-destra Che a me Personalmente Non interessano Non interessano Il nostro gruppo E probabilmente Non interessano Neanche A cittadini Credo Quello che è importante È che si facciano le cose Una virtuosità Che ha contraddistinto In altre occasioni Il consiglio tribunale Quindi benvenga A questa delibera La voteremo Favorevolmente Grazie Prego consigliere Grazie Sono favorevole A questa delibera In quanto 27 euro Era già Avevo già pensato Già due anni fa Quando c'era La proposta Dell'alta delibera Dell'assessore Obizi Che poi Era anche Un emendamento Era su 27 Spero che con questo Si facciano Tutte le commissioni Che servono Forse Sarà Probabile Qualche commissione In più Come abbiamo Già fatto Diverse richieste E che non siano Delibere Solo Delibere Solo per Commissioni Solo per Delibere Ma tutto ciò Che serve Per il consiglio Comunale Per risolvere I problemi Della nostra città Anche ora Che sono più Pesanti Con questo coronavirus Grazie Grazie consigliera Adesso il consigliere Machitella Poi andiamo al voto Grazie presidente Faccio la mia Decreazione di voto Del momento 5 stelle Una considerazione Oggi Roidon Non fa altro Che riportare Indietro L'orologio A quello Che era Il 2012 Dove si votò Per una riduzione Del gettone Da 30 euro A 27 euro C'è la riduzione Del 10% Mi ricordo Che il gettone In presenza Era 30 euro Da 2005 Quindi noi dovremmo Oggi Solo che portare Indietro l'orologio Perché quei tempi L'anno 2012 C'era una grossa crisi Una crisi economica Che faceva seguito Anche a poi A una spending review Se non mi ricordo male E quindi in quei tempi L'anno si era scelto Di ridurre ancora ulteriormente Il gettone di presenza Oggi ci troviamo Di fronte a una crisi economica Di pari di velo Se non peggio E quindi mi sarei aspettato Che questo Con questa assise oggi Decidesse Non imitare Una riduzione del gettone E chiaramente poi Si poteva anche Ridiscutere Su dove portare Questi gettoni in guarda Mi dispiace Che la mia Odg È saltato Che ho dovuto Ritirarlo Avrei preferito Che voi Lo cassaste Per metterci Un bel niente Un bel no Non è possibile farlo Magari Senza quello di tirarsi E penso anche Che oggi Ho paura Che questa Questa giornata di oggi Questa delibera Non sarà buttata Povervolmente E mi viene a pensare Che stiamo buttando via Autore dei soldi Un'altra giornata Di consiglio comunale Magari Per nulla Per non concludere nulla Detto ciò Volevo anche A chi diceva Che ci sarebbe stato Un aumento Da parte della regione L'emendamento della regione Per quanto riguarda Un aumento Dei monumenti O quant'altro Per i amministratori comunali Non mi sembra sia vera Questa strada qui È vera che C'è un emendamento Che si propone Di portare Al riborso Profettario delle spese E non Un riborso normale Mi risulta questo Ma non è ancora attivo Quindi Questo è un punto Volevo farlo Per chi diceva Che c'è un aumento Di questo genere Perciò Dichiaro Il nostro voto favorevole A questa Questa delibera È concluso qui Grazie 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 Prego consigliare Stasi Grazie presidente Ho ascoltato tutti Con piacere Anche se qualcuno Poi non ha fatto altro Che pacchettire Al di là D'orecchio Ma cose che succede Delle migliori Fanno dire Però al di là Di questo Ringrazio il consigliere Rolto Dell'intenzione Che aveva avuto Di emendarsi La delibera E portandola A un modo ragionevole In modo di La differenza Possedata In beneficenza Io In virtù Del fatto Deglamentamento Che avevo presentato E in virtù Dell'opinione Stessa D'ossidità Visto che Comunque Sono soldi Che appartengono Ai consiglieri L'idea Era quella Di creare Un fondo Di solidarietà Con il quale Ottemperare Ai bisogni Delle persone Indigenti Questo non è stato Possibile Ma per quale motivo? Non è stato possibile Perché è vero Il comune Può fare Ma chi mi assicura Che se il comune Mette 50.000 euro Come comune Per i bisogni Della popolazione Quelli che mettiamo Noi diventano Certo Non so se per i 50 Che non prendiamo Noi che sono Quelli che girano Cioè io Se voglio fare La beneficenza Voglio sapere A chi vanno E a chi non vanno Per cui Il fatto di Portare il gettone A 27 euro Che qualche collega Ha detto Con la speranza Che si fatta Qualche commissioni In più Che le commissioni Rettribuite Comunque a 27 o 104 Non è che il fatto Che si percepisca In meno Se ne facciano in più E la Corte dei Conti Ha espresso in parere In quel modo Lo stesso sarà Sia che si percepisca Una cifra Sia l'altra Precisato ciò Io Non se la prenda Il mio amico Roldo Io Oterò contrario Ma questo Sa perché? Perché Visto che comunque Valora Non dovesse passare A dei limiti E Evitando Sempre di sciacquarci La bocca Con la solidarietà Con la beneficenza E quant'altro Visto che Oltretutto qualcuno Ha detto Ognuno la fa Per modo suo Io percependo Il gettone Perché come previsto Per lente La differenza La posso devolvere A chi Ritengo Per futuro io Grazie Grazie Prego Consigliere Stasi Eh scusi Zotti Poi andiamo al topo Eccoci qua Finalmente Allora Come capogruppo Della Leta Io Lo voterò A favore Perché? Perché il popolo Della Leta È sempre stato Onesto Nei confronti Della Della popolazione E quando c'è Un momento Di crisi Sono convinto Che questo movimento È stata la parte Del povero Quindi Io lo voterò A favore E volevo fare Un piccolo esempio Anche a mio amico Gentile Non se ne voglia Se questa Comunque abbiamo Speso 4.000 euro Se questo Andava avanti Il consiglio comunale Anche oltre Mezzanotte Si era speso Uguagli La differenza Caro Fabio È che se magari Passava Ma so già Che non passerà Perché alla fine Tutti quanti Fanno I dei Col popoci Dell'altro Se passava La commissione Il giorno dopo Quindi di mercoledì Invece di costare 1.700 euro Avrebbe costato 459 euro E quindi Avremmo risparmiato 1.241 euro Circa Più o meno 100 euro O meno Quindi si avrebbe già Risparmiato qualcosa Per i poveri Ma probabilmente Qualcuno ha voluto Fare questo Scamopage E siamo arrivati Quasi all'entici di sera Per arrivare a nulla Perché Sono convinto Che Tutto sommato Alla fine Vincerà il No Come sempre Bene Poi Visto che Il mio amico Gentile È molto Al corrente Di tutte le leggi Regionali Mi ha annunciato Che A breve Molto probabilmente Ci sarà un aumento Per quanto riguarda Gli assessori E i sindaci Non vi sto a leggere Gli stipendi Degli assessori Ma comunque Guarda Io ho una tabellina 2018 Dove il sindaco Prende l'ordo 75 mila euro 40 mila 30 mila Insomma Gli assessori Però ritengo Che in un momento Di crisi Come questo Visto che noi Ci tagliamo Il 75% Del gettone Cosa vuol dire Questo Quindi Che teniamo Un quarto Di quello Che dovremmo Prendere Che Mi ha modo Di vedere Sarà anche Giusto Per chi lavora Per chi studia E così Però magari In questi Momenti Insomma Dobbiamo essere Buoni E propongo E lo farò Appena verrà Fatto questo aumento Dalla parte Della regione Al sindaco Egli assessori Che gli assessori Si riducano Del 30% Il loro stipendo Ecco che in quel caso Lì Darebbero Un ottimo segnale Ma anche se Io non sarò mai Assessore Quindi voi direte Eh ma è facile Fare i conti in tasca Agli assessori E così colato Mi sono fatto Una tabellina E si portano a casa Sempre 2 mila E passare Quindi secondo me È un bel stipendio Per l'amor di Dio Hanno responsabilità Hanno impegno Tu quello che vuoi Però rispetto a uno Di l'altro in fabbrica Magari Forse è un bel stipendio Poi torno a ripetere Ognuno lavora Si impegna Si impegna a fare quello Che vuole E è responsabile Quindi con questa riduzione Quando verranno fatti Gli aumenti Per il stipendio In questo caso qua Proporò addirittura Tutti i soldi Vadano messi In un fondo Naturalmente In un fondo E la commissione E la commissione Per il lancio Perché se no Giustamente Come i soldi Delle farmacie Come i soldi Delle antenne Vanno sempre Dove vogliono Chi comanda Ecco allora Anche chiederò Oltretutto La modifica Del regolamento Delle farmacie Perché io ho a definire Di essere preso in giro Sono vent'anni Che il pianeta è in giro Sono stufo Quindi al più presto Adesso andrò Dal segretario Chiederò come si può Formulare un discorso Di questo genere E chiederò Che venga modificato Anche il regolamento Delle farmacie E così si possa dare Il 10% A le società sportive Torno a ripetere Io so già Che non riuscirò A portare a casa niente Perché in questo caso Qua è dura Ma spero che Magari qualcuno Dell'opposizione Perché visto che I miei colleghi Di partito Magari hanno altre idee E le condiviso Per l'amore di Dio In questo caso Il capogruppo della Lega Botta a favore Della mozione Della proposta di rollo A 27 euro Poi i miei colleghi Sono liberi di fare Come vogliono Però torno a ripetere Noi Noi siamo convinti Invece che In questo momento Era un bel segnale Non si è ben capito Se poi il dettone Vrà trattenuto 100 euro E darà A 27 euro Il consigliere comunale Arresto Restare In questo momento Mi è stata un po' Di confusione Vi posso garantire Che più di qualche Consigliere Non ha capito bene Come funziona Questa riduzione Quindi dal mio punto di vista Forse era meglio Fare una commissione Bilancio Scarrirci bene le idee Per capire Come funzionava Il meccanismo E dopo di che Si portava in aula Il discorso Per capire Come si doveva votare Torno a ripetere A me sta bene La riduzione Perché posso tranquillamente Vivere Grazie a Dio C'è uno stipendio Posso vivere Tranquillamente Quei soldi Che mi guadagno Lavorando Sono convinto Che questo Purtroppo Questo 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 grande Del mio amico Non passerà Grazie Scusi Presidente Prego Consigliere Collini Sì Grazie Presidente Allora Politicamente Che cosa è successo Questa sera Due anni fa La delibera Era stata presentata Da un assessore Della giunta Questa sera Una delibera Che era Ovviamente Più incisiva Per quanto riguarda La riduzione Del gettone È stata presentata Da un consigliere Di quella Turbolenta Maggioranza E Dalle dichiarazioni Di voto Almeno mi sembra Che sia stato Almeno in parte Sconfessato Dai suoi stessi Comunque Di maggioranza In tutto questo Ragionamento Tranne Un intervento Sull'ordine del giorno Di 5 stelle La giunta È rimasta silente Ne prendiamo atto Sul risparmio Ha ragione Quello Ha ragione Zotti Quello che ha detto Poco fa Perché Sull'utile Delle farmacie Non abbiamo mai Messo vecchio La stessa cosa Si è svolta Anche Quando si è trattato Di ragionare Sul tesoretto Dell'Iris Insomma Su come Poi Vadano a finire Le risorse Nel grande Calderone Non potremmo Discuterne a lungo Poi Sulla base Di quello Di quello Che ha espresso Offeri Molto lucidamente Io suggerirei Domattina Al segretario Vedo l'inquadrato Tra l'altro Di riscrivere Immediatamente La corte Dei conti Per chiarire Quanto Allora Non era risultato A chiaro Nemmeno tutti quanti noi Credo che sia Un atto dovuto A questo punto Sulla base Proprio Dei ragionamenti Che sono stati fatti Soprattutto Col continuo Richiamo Alle leggi E credo che Gli esempi Di Sandi Ferri Siano stati Molto Ma molto Chiari Ed efficaci Poi Da domani Sempre Sulle Comunicazioni Che ci sono State Oggi Spidiamo Tutti quanti Quelli Che non vogliono O Non hanno Potuto In qualche modo Fare Degli interventi Di un certo tipo No Anche In termini Di Apporto Proprio Costruttivo A ragionare Su quella Che è La funzione Del Consiglio Coerentemente Con quello Che noi Noi Anche Il discorso Sulle commissioni Per esempio Domani mattina Dovrebbero ripartire Le commissioni Cominciare A lavorare Proprio per dare Quella dignità Al consiglio Che spesso E volentieri È stata Stoppata Per non offrire Elementi di dibattito Troppo spesso Noi assistiamo A delle Esternazioni A delle A degli annunci A delle Come dire Comunicazioni Che sono esterne A quella Che è l'attività Del consiglio E questo Indubbiamente Toglie Qualcosa Alla Come dire La forma Di rispetto Che dovrebbe Essere Sempre manifestata Nei confronti Del consiglio Non Facciamo Per cortesia Paragoni Con le commissioni Del passato Qualcuno L'ha fatto Anche prima Mi sembra Sconveniente Anche perché In passato Poi Se ci ritroviamo Adesso A dover Affrontare 35 30 35 Quanti sono state 30 Unioni Della commissione Per la polizia Locale E perché In passato Non si è messo Non si è voluto Mettere mano A queste A questi A questi Problemi E coerentemente Con quello Che noi avevamo Abbiamo questo vizio Noi siamo coerenti E quindi È una malattia Fateci Fateci Un callo Anche voi A questa nostra malattia Coerentemente Con quello Che abbiamo Detto Già Due anni fa Noi siamo favorevoli A questa riduzione Pur con tutte Le riserve Che abbiamo espresso Sulla destinazione Delle Delle risorse Grazie 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 Prego Consigliare Picco Mi sentite Sì Allora La situazione è questa Io avevo capito Questo Anche dal Dall'emendamento Di roldo Che Sembrava Accogliere L'idea Di stasi Di creare Il fondo Cioè I soldi Sono già A bilancio Quindi Sono già Stanziati Sono già Diciamo così Allocati Per Far fronte Alle spese Delle commissioni Quindi Se non ho capito male Da quello che ha detto Il segretario In sede di variazione Di bilancio Dovremmo decidere Dove destinare Questi soldi Che sono già stati Previsti La cosa Tristissima Da dire È che Comunque In questi due anni Si è Rinunciato Alla Convocazione Delle commissioni Quindi a un lavoro Fondamentale Per il consiglio Comunale E quindi per la città Per motivi Economici Perché non c'era Non c'era un accordo Sui soldi Da dare In queste commissioni Ora Faccio un esempio Banalissimo La commissione Welfare Se non la chiedevamo Noi In un momento così Non sarebbe stata Neanche convocata Capite? E quella commissione Non era gettonabile Così c'è stato detto Capite? In un momento così Drammatico Per la città La commissione Welfare Non sarebbe stata Neanche convocata Ci sono commissioni Come quella Dell'università Di cui si sono perse Le tracce Tantissime commissioni Non vengono convocate Per questo motivo No? Perché Per fare Per fare La cresta Per tenersi i soldi Perché se no Si pensa troppo Sulle finanze Del comune Questo è inaccettabile È inaccettabile Una posizione Di questo tipo Come fate A sostenerla? Come fate A giustificare Il fatto Che paralizzate I lavori Perché Del consiglio E quindi Delle commissioni Del consiglio E quindi Del comune No? Fate un danno Ai cittadini Solo perché Non siete riusciti A mettervi d'accordo Sulla riduzione Dei soldi Dei gettoni Questo è un fallimento Totale Della vostra Amministrazione Avete paura Di convocare Le commissioni Cioè siamo arrivati A questo livello qua Perché vi ha terrorizzato Il fatto Che sono a 104 euro E il sindaco Non vuole spendere soldi Capite la tristezza Capite la malinconia Che fate Quando Quando sostenete Queste posizioni Ora A me dispiace Che non si sia creato Il fondo Che non sia stato Accettato Questo emendamento Proposto da Stasi E che Roldo Aveva accettato Mi sembrava Un gesto Di trasparenza Che confermava Che i soldi Sono lì Sono lì Non è una riduzione I soldi sono lì E bisogna decidere Dove destinarli Quindi non è una riduzione Tu cur E i soldi Spariscono Almeno spero Ma è una riduzione E quei soldi lì Bisognerà Alloccarli Da un'altra parte Mi sembrava Un gesto Nobile Da parte Del consiglio comunale Di dare dignità A queste commissioni Quindi pagandole Pagandole il giusto Che sono questi 104 euro Ma non facendo Come dire Pesare i cittadini Il fatto che Ci intaschiamo Tutti questi soldi Ma ne diamo Una parte Cospicua Alla comunità Questo mi sembrava Un gesto nobile Quindi Non sminuiva Il valore Delle commissioni Il lavoro che si fa La preparazione Che serve Il tempo che dedichiamo Tutto questo Non veniva sminuito Perché i soldi Erano sempre 104 euro Ma Diciamo Facevamo un ulteriore passo Verso la comunità Dando Una cospicua parte Di questo Di questo Gettone A loro Al resto della comunità Era questo Il senso Profondo Di questa Idea della riduzione Dei soldi Viceversa Invece qui Si è discusso Su quanto Ci entrava in tasca E questa La tristezza Si è discusso Su quanto Ci restava Da Spendere Noi Una volta stati lì Un'ora o due A partecipare Alla commissione Questo si è svilire La commissione Questo si è È dalla misura Di quanto Si pensi Alle commissioni Come un qualcosa Che è Per arrotondare Lo stipendio Questa è la tristezza Vera Quindi Io Voterò lo stesso Questa delibera Di Roldo Perché ero già Per i 27 euro Mi dispiace molto Però che non si sia colto Che erano i restanti Soldi importanti Non quelli che ci entravano In tasca Ma quelli che sarebbero Rimasti Ai cittadini Ecco Grazie Prego consigliere Roldo Dopo andiamo All'altro Grazie Insomma Abbiamo discusso Siamo qui Da ben Cinque ore Mi dispiace Che ancora una volta Il pensiero dei cittadini Goriziani Non si è portato avanti Anche dal consiglio comunale Perché Reputavo che Il consiglio comunale Come è composto E tutti i consiglieri Per fortuna Non hanno bisogno Di percepire Il gettone Per dire Delle commissioni Per intero Anche in parte Perché Vivono Del loro Tutti hanno un lavoro Credevo che questo Era Era fattibile In questo momento Non è stato fattibile Due anni fa Pensavo Oggi Con la questione Del coronavirus Che veniva portato avanti Condiviso In larga maggioranza Invece Credo E penso Che alla fine Mi si vuole mettere in bocca Che non ho accettato Di auto emendarmi Per 52 euro Questa era una delibera Era aperta Qualsiasi consigliere Poteva Proporre L'ammendamento A 52 E votarlo Visto che hanno i numeri Per bocciarla Visto che tanti di questi Vanno Consiglieri Vanno Su internet A promuovere Iniziative Cose del genere Ma sono sempre iniziative Fatte Dall'amministrazione Ma senza Il convolgimento Anche del consiglio comunale Che reputo Era doveroso Partecipasse E contribuisce Con una piccola Provisse Una piccola Offerta Che era Che era questa Si è voluto Portare avanti Questa cosa Domani O dopo domani Vedremo sul giornale Che alla fine Resterà 104 Ma era quello Che si voleva Perché non portare Un emendamento A 52 Votarselo Perché andava bene 52 E non dare la colpa Dell'auto emendamento Questo è quello Che voglio chiarire Alla fine Di tutta questa Discussione Mi Io Non l'ho fatto Per motivi Personali Per visibilità Non credo Ma non per vantarmi Non mi serve Quella visibilità Una certa età Quello che ho dato Dato nella mia vita Non ho Quello che ho fatto L'ho fatto di mio Della mia famiglia Dei miei genitori Che mi hanno aiutato A crescere In modo onesto E di E sempre detto Ricordati Che se qualcuno Ha bisogno Ricordati Di come eravamo E come siamo adesso Che siamo cresciuti Ma con le proprie forze Col proprio lavoro Senza domandare L'emosina A nessuno Ok Questa è Quello che voglio dare Per inciso Visto che oggi Si è discusso più Del mio unico Che della Proposta che avevo fatto Vergognoso Vergognoso Dico Vergognoso Saprò 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 Anche gestire Il futuro E capire I veri amici Da quelli che sono Invece Visto queste dichiarazioni Chi sono lì Soltanto per parlare Un po' Ma che alla fine Penso Ma Le cose sono Così palesi E per il gettone Dico Se non si vuole Rinunciare Perché la proposta Che io avevo fatto Perché non sono Nato ieri Visto che ho fatto Tanti anni Sia il presidente Che il consigliere Comunale E so anch'io Che va tutto Nel grande calderone Ma nel grande calderone Che noi sappiamo Sono rimasti in più Magari I 70 o 100 mila euro Di commissioni Di gettoni Dei consigli comunali Così del genere Sappiamo anche Che se erano messi 3 milioni Per il welfare Noi Potremmo dire No Mettiamo 3 milioni E 70 mila Perché quei 70 mila Che abbiamo risparmiato Li abbiamo risparmiati Per il welfare Vorrei Vorrei vedere Però Perché non credo Che tutta la maggioranza Senza voti Per bocciare questo Voglio vedere Chi lavora nel welfare Cosa farà Voglio vedere Ad ogni buon caso Io credo Onestamente Di aver portato avanti Le cose che avevo promesso Nell'ultimo consiglio Non c'è problema Fate voi Io voterò a favore Naturalmente La gente Poi Prenderà Il popolo goriziano Saprà Come giudicarci Grazie Grazie Altre dichiarazioni Di voto Bene Se non ci sono Altre dichiarazioni Di voto Pongo in votazione La delibera L'iniziativa consigliare Il punto 7 Determinazione Dell'indennità Giornaliera Ripresenta Per la partecipazione All'esesito Delle commissioni consigliare In mandato elettorale 2017-2022 Chiedo A tutti Di spegnere Webcam E microfoni Di accenderli Nel momento In cui sarete chiamati Rispondendo Sì Favorevole No Contrario Lascio la parola A consigliere ASEX Se può spegnere La webcam Grazie Bene Allora Lascio la parola Al segretario Prego Segretario Allora Ziberna Astenuto Altinier Contrario Vandel Vandel Non risponde Braulini Contrario Cagliari Contrario Ciotta Contrario Contrario Sì Sì Collini Lo sento Collini Sì 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 Cosma Contrario Zitta Del Sordi Del Sordi Non risponde Fasiono Favorevole 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 Ferrari Ferrari Non risponde Non risponde Gabriel Cic Favorevole 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 Gentile Gentile Contrario 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 Pasek Astenuto 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 Corsic Zà Favorevole 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 Macchitella Favorevole 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 Maraz 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 Non risponde Non risponde Maraz Mollica Contraria Contraria Favorevole Ubizi Astenuto 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 Poreti 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 Ede Contrario Contrario Favorevole Peterini. Aspettate solo un attimo. Zà, favorevole. Riccariello. Contrario. Picco. Favorevole. Favorevole. Biscopo. Contrario. Contrario. Portelli. Portelli. Non risponde. Roldo. Favorevole. Favorevole. Romano. Contrario. Contrario. Rossi. Favorevole. Favorevole. Sartori. Contrario. 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 Stasi. Contrario. Contrario. Tomani. Contrario, se riesco, un attimo. Contrario. 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 Tommasella. Favorevole. Favorevole. Traini. Traini. non risponde. Tucci. Favorevole. Eccoci. Mi dica. Tucci. Favorevole. Favorevole. Turco. Contrario. 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 Turri. 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 Contraria. Contrario. Zanella. Favorevole. 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 Zanella. Contrario. Contrario. Zotti. Zotti. Non risponde. Faccio le seconde chiamate. Bandel. Favorevole. 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 Del Sordi. Del Sordi. Assente. Favorevole. Favorevole. Sordi. Favorevole. 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 Ferrari, assente. Marat. Marat. Assente. Portelli. Portelli. Assente. Traini. Traini. Assente. Sotti. Anche se il mio voto non conta niente perché abbiamo perso, favorevolissimo, favorevolissimo ad aiutare i poveri, grazie. Favorevole. Ringrazio chi non ha avuto il coraggio di votare. Grazie, famosella, sei un grande leghista. Grazie, Franco. Grazie. La proposta è stata respinta con 17 voti contrari, 16 favorevoli, 3 astenuti, assenti 5. Bene, quindi i punti dell'ordine del giorno sono terminati. Posso chiudere questa seduta. Auguro a tutti voi una buona serata. Grazie. 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 Grazie.